tutti benvenuti al quinto congresso nazionale interdisciplinare medico giuridico organizzato dalla associazione nazionale garante giustizia e sanità il webinar è gratuito come sapete la la gestione delle presenze e sulla piattaforma del sole 24 ore che ringraziamo l'argomento segue questo quinto congresso segue gli argomenti che abbiamo già trattato nelle fasi precedenti e nelle precedenti edizioni e cioè quello di quello che sono le evoluzioni sul discorso e i postumi su quello che è il discorso della pandemia SARS-CoV-19 sulle responsabilità penali e civili sugli indenizi lavorativi contrattuali e extra contrattuali io intanto ringrazio l'avvocato alexandre che è l'organizzatore di questo di questo congresso al quale darò la parola tra qualche istante chiederò al professor tesauro che è il presidente del congresso di fare un breve saluto il professor giuseppe tesauro presidente merito della corte costituzionale che ci dà l'onore di indirizzare un breve saluto a tutti i congressisti e come dire raccontare quello che ovviamente sono gli aspetti legati anche alla costituzione in tutte quelle che sono stati i provvedimenti presi in questi mesi i provvedimenti legislativi presi in questi mesi allora darei la la parola l'avvocato antonio alexandre ricordando a tutti i congressisti che cercheremo di mantenere i tempi in una maniera molto rigida perché sono molti gli interventi previsti e per questo cercheremo di far sì che tutto venga si svolga nei tempi stabiliti gli interventi quindi saranno di 10 massimo 12 minuti ognuno ehm la parola all'avvocato alexandre e poi la il saluto del presidente del congresso il professor tesauro buongiorno a tutti avvocato alexandre questa volta come diceva Ernesto Caccavale avremo un altro imprinting rispetto al congresso nazionale e parleremo della responsabilità sanitaria e la gestione del rischio clinico dallo scudo penale dove avremo la professoressa frati e il dottor Natali Natalini che gentilmente ci faranno una relazione sugli aspetti pratici riguardo ai problemi legati al vaccino e alla gestione poi della responsabilità sanitaria del del medico si è creato questo scudo penale appunto per cercare di aiutare tutte quelle persone che venivano chiamate angeli e poi dopo invece si cerca di trovare una certa responsabilità su qualcuno e si cerca poi di avere un risarcimento e quindi dallo scudo penale poi si cerca di bloccare quel tipo di incriminabilità parleremo di vaccini e minori appunto grazie al magistrato Natalini e dell'immunizzazione penale sanitaria la modifica legata al contesto pandemico e la prevenzione nel trattamento del covid oggi e quindi vedremo tutti i passaggi tra le linee guida preventive e come si è evoluta la strategia dal punto di vista del ministero della sanità dal punto di vista vaccinale le differenze poi dell'RNA messaggero trasportato dal Pfizer rispetto al vaccino AstraZeneca perché questi sistemi di prevenzione vengono chiamati vaccini anche se in realtà non lo sono ma sono un sistema di RNA messaggero che va a modificare il DNA poi abbiamo la professoressa Massarelli dell'Unione Camere Civili che ci parlerà del covid e della riforma del processo civile che stanno cercando di canalizzare per avere una deflazione del carico della giustizia l'emergenza pandemica quindi e i diritti civili come sono stati poi violati in questo periodo la detenzione poi da parte dell'onorevole Bernardini all'interno delle carceri e le misure di prevenzione se hanno avuto successo o se non sono riuscite a canalizzare il diffondersi di questa epidemia poi vedremo a livello di informazione con il caporedattore Romiti se effettivamente questa informazione è stata ben guidata oppure se è stata un po' deformata o canalizzata comunque lasceremo alla gente farsi le proprie idee da un'informazione scientifica rispetto alla tanta frammentaria che viene in definizione in questo periodo qua. Bene. Ringrazio il professor Tesauro per essere con noi e gli riuscirai volentieri la parola. Allora grazie, grazie avvocato, grazie all'avvocato Alexandre. Allora io do la parola alla presidenza del congresso, al professor Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte Costituzionale, ringraziandolo come sempre per la sua grande disponibilità e la grande attenzione ai nostri confronti. Buongiorno a tutti, ci rivediamo a distanza di un po' di tempo. Le cose sono cambiate ma nemmeno tanto. questi problemi naturalmente tardano a scomparire. Sono le soluzioni che vengono improvvisamente e non sempre sono quelle giuste. Certo un fenomeno come la pandemia ha provocato delle criticità nel sistema che molti si sono affrettati a criticare, altri a giustificare, ma in realtà un fenomeno come quello evidentemente comporta delle difficoltà anche l'interpretazione di norme giuridiche. dicendo che le cose mediche sono cose mediche. No, comporta anche la difficoltà di interpretare cose giuridiche sia da parte di chi decide, il governo. Il governo ha deciso molte cose e molte cose sono state criticate, ma evidentemente non tutti riescono a cogliere la difficoltà di trovare la misura giusta per decidere questa o quella soluzione. lì per esempio ci sono dei problemi di riforma dell'atto che deve essere un IDM, deve essere un ordinanza, deve essere una legge eccetera. Molti per esempio si sono dimenticati che c'era una una legge che consentiva di usare dei mezzi giuridici diciamo più veloci tipo ordinanza e CPDM ed era il codice della protezione civile. E' là che è cominciato tutto. e il governo forse ne ha fatto un uso un po' largo diciamo così, però aveva perlomeno una base per soddisfare un'esigenza anche di tempestività delle decisioni. perché molte decisioni o le prendi subito, in fretta, brutta parola, ma in fretta è la parola giusta, oppure le prendi male, le sbagli. questo naturalmente crea delle critiche dappertutto che ci sono state e forse ci saranno ancora, ma in realtà un fenomeno come questo così difficile, così articolato, così complesso, non era facile gestirlo, dominarlo soprattutto. e quindi ci sono molte cose sulle quali tutti noi abbiamo qualcosa da dire. per esempio tutto il problema della circolazione delle persone, la circolazione delle persone è qualche cosa che noi abbiamo sempre considerato una specie di di dietro assoluto di entrare nella circolazione delle persone, eppure la circolazione delle persone è disciplinata, è disciplinata da varie norme, norme costituzionali, norme... io non parlo della circolazione della circolazione extra galera, ma insomma la circolazione tra città, paesi, eccetera. e questo naturalmente ha creato delle difficoltà che un canone come questo, uno non se l'aspetta neppure, come devo stare chiuso in casa, come non posso uscire oltre le 10, come non posso uscire e mangiare all'aperto, devo mangiare al chiuso in tre persone piuttosto che in cinque. ma insomma ci sono tante cose, tanti vincoli che sono stati riportati in superficie sostanzialmente per fenomeni di questo genere. adesso la confusione è ancora in atto perché c'è molta confusione ancora, gli stessi scienziati che ci hanno guidati fino adesso sia per quanto riguarda le soluzioni da prendere sia per quanto riguarda anche i vaccini, non erano tutti d'accordo e quindi questo ha creato naturalmente confusione, c'è chi diceva no a ragione Tizio, a ragione Gallo, eccetera. sull'obbligatorietà o non obbligatorietà del vaccino poi un'altra storia. Perché? Perché la Costituzione ci dà il primato della salute come valore primario della nostra vita di relazione, ce lo dà e ce lo dà non solo per noi individualmente considerati ma ce li dà come corpo sociale. Quindi se tu non prendi il vaccino non è che fai male a te stesso soltanto o bene, questo è un altro discorso, ma puoi compromettere anche la salute del corpo sociale complessivamente considerato. E quindi questa è una difficoltà perché è anche giusto che qualcuno si ritenga fuori da questa baluffa diciamo, sia anti, come si dice, anti-vox e non prende il vaccino, non voglia prendere il vaccino. Però deve anche pensare che il vaccino se fa bene come pare, se fa bene alla salute di uno, fa bene alla salute di tutti. c'è poco da fare. Quindi vedete che ci sono tante tante difficoltà che bisognava superare, alcune sono state superate altre no. C'è anche poi un sottofondo che con la pandemia non ha niente a che fare, guardiamoci chiaro, ed è la baluffa politica determinata anche dal momento elettorale. E la baluffa elettorale è quanto di peggio perché non ti fa capire proprio niente, insomma, non sai quello che è giusto e quello che non è giusto. Sai solo quello che interessa ad alcuni e quello che non interessa agli altri. e questo è un po' anche il vero problema della pandemia e delle soluzioni che sono state studiate e dettate per rimediare alle criticità. che è capitato in un periodo in cui c'è più entusiasmo, chiamiamolo così, per le cose politiche elettorali. e quindi il modo di decidere, le modalità di decisione e i mezzi per decidere, i rimedi giusti, sono certamente inquinati, sono inquinati dalla giusta, per carità. Io la chiamo baluffa politico-elettorale, ma in realtà non è una baluffa, è solamente un confronto di idee, ed è giusto che ci sia il confronto di idee e che abbia delle ripercussioni anche su questo. Nel frattempo le cose stanno andando un po' meglio per la verità, perché il fenomeno, tutto sommato, almeno così ci dicono, e se lo dice la televisione, evidentemente, la televisione ci dice che la pandemia è in discesa, che i contagi sono in discesa, che i decessi sono in discesa e che quindi c'è speranza che nel giro di qualche mese si possa ritornare, non dico a una situazione di normale normalità, ma insomma a una situazione nella quale possiamo anche, diciamo, tornare alle nostre metti e abitudini. Certo che forse noi siamo tutti un po' cambiati, siamo tutti un po' cambiati perché questo è stato un fenomeno in tutti i suoi rivoli, articolazioni molto rilevante, ci ha costretti a cambiare abitudini, ci ha costretti a non lavorare, quindi con degli sconvolgimenti anche economici notevolissimi, che io non so per quanto tempo noi sentiremo le conseguenze. Si dice che adesso la comunità europea finalmente con l'Italia si è svegliata e ci darebbe la luna, se un po' ce la sta dando per la verità, per non avere quello che vuole dal punto di vista del governo, della conduzione, della gestione del Paese. E quindi può essere che con tutte queste risorse che stanno arrivando devono ancora arrivare, per lo meno sono state promesse, ma alcune sono già arrivate, che si possa cominciare a trovare i rimedi giusti e a spendere dei soldi, si spera per il bene del Paese, per il bene della salute del Paese, in modo da ritornare lì in una normale normalità. Presidente, io la ringrazio moltissimo di questo intervento e della sua attenzione nei nostri confronti. La sua presidenza di questo convegno, di questo congresso ci onora e quindi ovviamente lei potrà intervenire in qualunque momento durante lo svolgimento dei lavori. Sappiamo che lei ha un altro impegno alle 10, quindi io la lascio libera, ovviamente. Grazie molto, vi ringrazio dell'onore che voi mi avete fatto a intervenire in un tema così particolare. Allora, abbiamo dei tempi abbastanza serrati e quindi ringrazio moltissimo il Presidente dell'Emerito della Corte Costituzionale, il Professor Giuseppe Tesauro, che è Presidente di questo congresso. Ovviamente lui è libero di intervenire durante i lavori quando vuole e quando può, ovviamente con i suoi impegni. E passerei la parola al Dottor Galimberti, il Dottor Alessandro Galimberti, che è il Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, oltre che il giornalista del Sole 24 Ore, che come abbiamo detto, la cui piattaforma ospita questo congresso. Vi saluto, vi ringrazio, alla prossima. Grazie al Professor Tesauro. Allora, grazie, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Per me è un piacevole ritorno, visto che c'eravamo già visti la scorsa occasione, per una prima riflessione su queste tematiche che purtroppo sono ancora di stringente e drammatica attualità. Questa volta sono in doppia veste perché oltre ad essere ospitato come Presidente del più numeroso ordine di giornalisti d'Italia, quello della Lombardia, 25 mila giornalisti, sono anche tramite del gruppo 24 Ore che ha deciso di essere media partner di questo congresso. Ovviamente c'è dietro una valutazione sulla rilevanza dei temi e sull'autorevolezza dei relatori e di chi interverrà, questo va da sé. Detto questo penso che se mi sono consentiti 5 minuti vorrei fare una riflessione condivisa con dei professionisti di altra estrazione, avvocati e medici su come si è stata gestita questa, dopo un anno e mezzo, fare un bilancio della gestione mediatica della pandemia, che non è solo un bilancio di autocompiacimento, anzi dal mio punto di vista non lo è per niente, ma è evidente che il canale dell'informazione ha rappresentato un veicolo molto importante anche di diffusione, di emotività irrazionale e di comportamenti irrazionali. Bene, rispetto all'altra volta quando ci abbiamo fatto le prime riflessioni in corso della prima ondata della pandemia, purtroppo non è cambiato nulla. Io non credo che il giornalismo insieme ad altre professioni, non credo che i giornalisti abbiano dato la migliore prova di sé in questo anno e mezzo, potremmo fare, mi limito ovviamente a quello italiano, potremmo riassumerlo in pochi numeri, 530 giorni con la pandemia costantemente in apertura di qualsiasi telegiornale, giornale quotidiano, radiogiornale e con un fenomeno che è stato ben inquadrato nella definizione di infodemia, cioè un'informazione alluvionale, occasionale e per quello che riguarda il mio punto di vista da Presidente come tale custode della deontologia, soprattutto in materia pandemica e di trattamento di dati sanitari, con delle violazioni quotidiane e se squipedali anche dei nostri codici deontologici. Non è rilevante, ripeto, solo per noi, bravi o meno bravi, il problema è che quello che fanno i giornalisti ha un impatto tremendo anche sulla pubblica opinione. Di errori ne sono stati commessi tanti e non sono stati corretti in corso d'opera. Non solo il terrorizzante bollettino giornaliero atteso come quello di Radio Londra in tempo di guerra, ma c'è stata tutta una costruzione di salotto mediatica dell'epidemia che ha fatto del male a tutti. ha screditato, credo, oltre alla categoria, non tutta però, dobbiamo parlare dei fenomeni patologici qua, è inutile che veniamo a dire siamo stati bravissimi. Come dissi la volta scorsa, i cronisti che andarono al fronte, come tutte le volte erano al fronte, hanno fatto un servizio incredibile di coraggio, di dedizione, esattamente come i medici, come gli infermieri di cui abbiamo parlato. Tutto quello che è successo a margine invece era sbagliato e non è stato rettificato in corsa. I salotti, la formula del salotto di politica trasformato e adattato in salotto dell'infodemia, è qualche cosa che ha prodotto delle mostruosità, ha prodotto delle personalità narcisistiche, narcisoidi, non solo nei giornalisti che lo hanno per definizione, ma in altre professioni che non erano mai uscite da quattro mura. L'effetto della notorietà è devastante in capo a chiunque, lo sanno bene gli attori, i giornalisti e altri generi di professioni che voglio risparmiare, ma non è un problema di fare l'analisi della scheda tecnica della persona e della personalità. Quello che interessa a chi osserva il giornalismo e a cuore il giornalismo è quale impatto ha sull'opinione pubblica. Cioè è stato un impatto destabilizzante, non abbiamo dato un'informazione bilanciata, corretta e meditata sui progressi della medicina, che è scienza sperimentale, ogni giorno abbiamo presentato il passetto ulteriore fatto dalla ricerca come se fosse la soluzione definitiva, abbiamo presentato i vaccini come se fosse l'iniezione di Superman che rende tutti dei superuomini e ancora l'altro ieri ho sentito uno dei guru della professione, uno degli altissimi nomi, non è il caso neanche che lo menziono, dire che arresterebbe i medici che non si vaccinano. Ora io non sono un Novax, però faccio alcune considerazioni. Deontologicamente è un'affermazione non accettabile questa e penso che anche sia totalmente infondata dal punto di vista scientifico. continuare a far credere all'opinione pubblica che il vaccino immunizzi e renda superuomini e supereroi, non quelli a cui si attacca la monetina qua, come dicono alcuni, ma dei supereroi, non è vero, non è vero, il vaccino determina, e come lo dico a dei medici, mi vergogno di dirlo in questa sede, cioè nel senso che non spetterebbe a me, ma i vaccini determinano una superiore reazione immunitaria e invece noi abbiamo fatto credere a generazioni di 12 anni, 14 anni, 18 anni, che facendo il vaccino non solo prendi la birra ma diventi il superuomo che può andare in discoteca a ballare, a strusciarsi. Bene, l'altro giorno ho assistito a un'interessantissima relazione storica qui a Milano, in un club del Rotary per una ricorrenza, benissimo, nel 1450 Milano ha risposto a delle pazienze, senza avere gli antibiotici, i virologi e nemmeno i vaccini, che poi sono dei sieri con delle varianti RNA, come giustamente è stato ricordato, del DNA come è stato ricordato in apertura, benissimo, mi ha riportato alla mente cosa che avevo dimenticato, la figura del Cattelano. Il Cattelano era quel due, ce ne erano due a Milano, incaricati di visitare in periodo di peste i malati, bene, entrambi sono stati in servizio per 28 e 33 anni, non avevano nessun mezzo, non avevano il vaccino, non avevano l'iniezione del superuomo, non sono morti, hanno visitato migliaia e migliaia di morti di cui facevano una relazione, si vestivano come il Carnevale di Venezia, derisi dalla modernità, derisi dai sostenitori del vaccino, con questo becco d'aquila che era riempito di stoffa e di essenze profumate per dover affrontare situazioni che non erano gli ospedali attrezzati dalla modernità, ospedali attrezzati dalla modernità che sono stati diffusori di morbo, mentre il Cattelano, ricordo questa informazione che nessuno dei colleghi guru che vanno in televisione ad atteggiarsi a eroi, nessuno sa che sono vissuti l'uno per 28 e l'altro per 33 anni, non tra una grafica età professionale, visitando migliaia di morti di peste. Allora io credo che ci siano sufficienti elementi per fare una riflessione terrorizzata di quello che è successo. L'altro tre giorni fa ho sentito il Ministro della Salute, di cui non c'è bisogno di citare, dicendo che siamo molto sorpresi, non ci espattavamo la varianza del virus. Benissimo, l'Ordine dei Medici dovrebbe dire qualcosa a proposito, qualcuno dovrebbe dire qualcosa al medico, perché la varianza nei virus è un dato studiato da almeno 300 anni. Il coronavirus è mappato da 60 anni ed è studiato da 90 anni e la sua continua mutazione è un dato scientifico accertato. Perché dico queste cose? Non è possibile continuare ad avvelenare l'opinione pubblica di informazioni falsificate, tutte orientate a creare degli comportamenti irrazionali motivi. Come avete visto, non ho parlato solo di giornalisti che hanno dato pessima prova di sé, sotto questo aspetto poi ci sono dei fatti eroici, ma non siamo qui a celebrarci, siamo qui a fare un'anatomia delle cose che non funzionano, ma cosa dire delle altre categorie. Chiudo con una metafora che comincio a portare nei congressi e che forse apre una piccola crepa nel muro. Portare i virologi o gli infettivologi o i santologi in televisione e chiedegli se bisogna riaprire le scuole, le discoteche o volare con il turborazzo, è esattamente come se nel corso del processo penale, che tutti conosciamo anche i più analfabeti di questo paese, almeno per averlo visto in televisione, è come se all'anatomo patologo il giudice chiedesse, ma secondo lei l'assassino Giuseppe o Luigi o la moglie di Salvatore? Abbiamo mai sentito un giudice fare queste domande destituite di ogni creanza a un consulente? Bene, io ho un anno e mezzo che sento domande destituite di ogni creanza in ogni infodemia di salotto di questo paese. Nessuno ravvisa un'anomalia raggelante in quello che sta succedendo. Continuiamo a chiedere al virologo se andrà in pensione e se l'assassino è la moglie di Giuseppe o la cognata di Salvatore, perché questa sarà un'ottima operazione per educare l'opinione pubblica e per rasserenarla. Io mi chiedo scusa per il trasporto, ma non riesco più a essere uno spettatore impotente di fronte a queste cose. Alessandro, ci diamo del tu, visto che siamo colleghi, io ti ringrazio moltissimo per questo intervento appassionato. Ridà lustro alla categoria dei giornalisti, questo tuo intervento, che per la verità questo lustro si era molto appannato in questo anno e mezzo. Essendo tu il Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, quindi ha ancora più valore, non hai usato una parola che secondo me è una parola chiave. La suggerisco solo per lasciarla al dibattito successivo, che è la parola conformismo. Cioè, per molto di quello che tu hai raccontato con molta intelligenza e attenzione, diciamo molto è dovuto a quello che si riassume in questa parola. Cioè, i giornalisti, l'informazione ha fatto quello che ha fatto perché si è conformato, perché io non credo al fatto che i giornalisti, come dire, sono sottosposti a degli ordini di scuderia, diciamo. Non è così. Appunto, lo stavo dicendo, ma credo molto al fatto che finiscono per essere conformisti, cioè si conformino a quello che qualcuno chiama il mainstream, diciamo così. Ernesto, posso aggiungere solo una cosa, ma sarò brevissimo. No, volevo solo dire un'altra cosa interessantissima che vorrei che poi i medici raccontassero durante questo congresso, la questione della vista, hai raccontato della peste del 1400, della peste a Milano del 1400, e hai detto che c'era qualcuno, un medico, che andava a trovare i pazienti a casa. A casa. Ecco, questo non riguarda la nostra professione di giornalisti, riguarda quella dei medici, ma credo che questo sia una di quelle cose che, rispetto ai protocolli governativi, che di fatto impedivano o comunque terrorizzavano i medici, quelli che volevano andare a trovare i malati a casa, quindi comunque avevano questi sintomi e comunque dovevano essere curati, ecco questo è un altro aspetto sul quale andrebbe fatta una riflessione. Con un ultimo aspetto ti ringrazio per aver avvenuto ancora un'eco. Aspetta che sento un eco, c'è qualcuno che ha aperto l'audio perché mi ritorna l'eco delle mie parole. Ve lo chiudo dicendo che non ho toccato un ultimo aspetto scioccante, ovviamente non farò nomi, non farò cognomi, perché siamo qui per ragionare sul fenomeno e non per lanciare jacuzzi, ma l'infosalotteria, l'infodemia da salotto, è stata intaccata dal germe che già da tempo ha intaccato i salotti. I salotti televisivi ovviamente, che sono quelli della presenza degli agenti, esattamente come i procuratori dei calciatori, il mino-raiola dei professionisti dell'infodemia. Questo che sembra un particolare accessorio collaterale, invece è portatore di un virus silenziale, quello del presenzialismo, quello della reiterazione delle trasmissioni, perché più trasmissioni faccio, più c'è il circolo di denaro, come le partite della Champions League, e si riempiono i salotti di non notizie, perché non c'è notizia ogni giorno della ricerca scientifica, si creano personaggi e l'ego ipertrofico di personaggi, e certo si fa circolare l'economia, ma solo quella dei media e dei nuovi protagonisti della terrorizzazione di massa. Io pongo queste cose non in polemica con nessuno, ma perché non è possibile accettare tutto, come giustamente detto, con un conformismo culturale che annienta le menti, non solo quelle libere, ma anche quelle, diciamo così, possedute. E se mi permetti un ultimo aspetto, che però, ripeto, aprirebbe un altro dibattito, c'è quello della libertà di informazione, della libertà di stampa, della possibilità che deve essere data a quelli che non la pensano come me o come te, o come il presidente Tesauro, che abbiamo appena sentito, di poter esprimere la propria opinione e di poter dibattere liberamente. Anche questi salotti, per esempio. Ecco, esattamente. Cioè, io trovo che, per esempio, quello che Michele Santoro ha detto qualche giorno fa, zittito, era molto giusto. Pur non essendo io, diciamo, un fan di Michele Santoro, trovo che quello che Michele Santoro diceva, a proposito dell'informazione, e cioè della possibilità di dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni, io credo che questo sia un aspetto molto importante. Su cui l'informazione deve interrogarsi. Alessandro, grazie. Grazie ad Alessandro Galimberti, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, giornalista del Sole 24 Ore, che ringraziamo per ospitarci qui. Dò la parola subito all'avvocato Antonello Tallento, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Questi dovevano essere dei brevi saluti, ma alla fine ci stiamo prolungando molto, e quindi pregherò ovviamente tutti quelli che intervengono l'ora in avanti a essere molto, molto concisi. Avvocato Tallerinto, presidente. Buongiorno, sarò brerissimo. Innanzitutto ringrazio per l'organizzazione, per il coinvolgimento del collega Antonio Alexandre. Io, come presidente dell'Ordine distrettuale, in estrema sintesi, pur occupandomi di diritto sanitario, ritengo di dover dare a questo mio intervento un taglio che è tipico di quello dei saluti, ma questo non mi impedisce sostanzialmente di fare due brevissime riflessioni. Quando parliamo di responsabilità medico-professionale, ma più in generale, naturalmente, rispetto a quello che è stato il fenomeno pandemico, è ovvio che abbiamo dovuto affrontare gli interventi riformatori del legislatore e a questi poi ne sono successivamente subentrate tutta una serie di strumentalizzazioni e speculazioni da parte di alcune categorie. Lo dico perché sostanzialmente si è tentato di introdurre uno scudo penale falsandolo, tra l'altro, pensando di poter tutelare i medici quando i medici erano già tutelati. Ai medici noi dovremmo fare una statua per come sono riusciti a gestire un fenomeno pandemico che risentiva probabilmente di un difetto gestionale, menageriale, ed è proprio quella la componente che si voleva in qualche modo tutelare introducendo uno scudo penale assolutamente inaccettabile per quelle che dovevano essere naturalmente delle attività preventive o meglio delle attività che dovevano implicare l'attuazione dei protocolli proprio previsti rispetto a fenomeni come quelli pandemici. Il problema purtroppo si pone ancora oggi sia rispetto a quella che è stata una fase relativa alle prime diagnosi, dopo le prime autopsie si sono individuate le problematiche, le ragioni del perché e quali fossero naturalmente le condizioni che andavano a determinare l'evento morte o comunque non consentire una gestione del malato Covid per come poi nel tempo siamo riusciti a fare. Oggi si pone un altro problema, un'altra criticità di riflesso che è legata sicuramente al problema delle vaccinazioni. Anche là la gestione nella scelta dei singoli vaccini ha destato serie perplessità, ancora tutt'oggi destra serie perplessità. Il fatto che si sia lasciato in qualche modo alle scelte delle singole regioni, il fatto di poter sostanzialmente sostenere, di poter somministrare, inoculare AstraZeneca agli over o agli under 60 a seconda delle valutazioni che le singole regioni andavano ad eseguire sul proprio territorio di competenza. È evidente che anche le intraprese azioni giudiziarie risentono di un ulteriore difetto. Il difetto è quello che secondo me rimane nell'ambito della valutazione delle responsabilità mediche, sia quelle dirette che indirette rispetto alla vaccinazione, la necessità sostanziale di affidarsi ad una preliminare valutazione peritale di natura medico-legale che non può assolutamente che essere la condizione del tutto preliminare per poter avviare un contenzioso e un giudizio. Censuro anche come Presidente dell'Ordine tutte quelle iniziative strumentali e speculari che leggiamo sui giornali, che leggiamo sui social, dove i singoli professionisti si offrono alla merce di chi che sia per avviare contenziosi nei confronti delle strutture sanitarie o dei medici, anche laddove all'evidenza non vi è una valutazione, una preliminare valutazione medico-legale. Ritengo, e sotto questo aspetto, di dover necessariamente avviare un percorso, dobbiamo avviare un percorso di sensibilizzazione, ma anche di grande equilibrio. Possiamo dire che i media, i social e tutti coloro che spesso vengono invitati, sia gli illustri professori, gli illustri conoscitori e tutti gli specialisti della materia, purtroppo hanno in qualche modo e in concorso determinato l'ulteriore condizione di confusione. Abbiamo medici, professionisti di altissimo livello, che spesso sembra che fanno a gara a chi riesce a dire o a sostenere una teoria contraria a quella dell'altro. E questo all'evidenza non soltanto genera sconforto, indecisioni, ma genera anche quello che purtroppo è il rovescio dell'ulteriore medaglia e sono i novax, sono le azioni giudiziarie assolutamente infondate ed un approccio rispetto alla disciplina che non è comunque sorretto da quelle che possono essere sostanzialmente le valutazioni obiettive. Mi avvia la conclusione, ho impegnato i miei cinque minuti, ho visto che gli altri si sono dilungati, ma è giusto consentire alle relazioni naturalmente un maggiore spazio. E' importante continuare a parlare. Lascio i saluti da parte del Consiglio dell'Ordine Distrettuale e vi seguirò. Buona giornata. Grazie mille, grazie Avvocato, grazie all'Avvocato Pallerico, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzara, anche per aver rispettato i tempi. La stessa cosa chiedo all'amico Lorenzo Maggi, Vice Sindaco del Comune di Lodi, al quale abbiamo chiesto di raccontare cosa è accaduto, ovviamente molto brevemente in questo saluto iniziale e di introduzione alla tematica dei lavori. Cosa è accaduto ad un amministratore di un comune importante della Lombardia che si è trovato nell'epicentro dell'epidemia. do la parola a Lorenzo Maggi per questo saluto e per questo racconto che può servire a tutti i relatori che interverranno dopo di lui. Intanto grazie, grazie Ernesto per l'invito. Sono assolutamente onorato di essere presente a un convegno di tanto livello. Ma allora, cosa abbiamo vissuto? Noi siamo passati, come dire, siamo stati nell'epicentro, nel senso che la vera zona rossa erano alcuni comuni dell'Udigiano, non di capoloro di provincia, quindi non Lodi, ma abbiamo vissuto veramente tutto in maniera molto più intensa di quanto sia stato vissuto da altre parti fin dall'inizio e si è passati, quello che abbiamo visto come amministratori, come cittadini, come persone, da un estremo all'altro, nel senso da una totale sottovalutazione di quanto stava accadendo con i famosi inviti a andare a mangiare nei ristoranti cinesi, a fare gli appelli, eccetera, all'estremo esattamente opposto al panico generalizzato, perché a un certo punto noi nella nostra città abbiamo cominciato a vedere e a sentire costantemente, tutto il giorno, sirene che passavano, i messaggi che arrivavano, persone, come dire, che ti trasmettevano esattamente cosa stava accadendo. E si è quindi poi arrivati tranquillamente all'estremo opposto, quello di avere un approccio, come dire, chiusurista complessivo. E una delle cose negative che abbiamo vissuto è, ma credo che questo valga per tutti, è l'identificazione del nemico, dell'untore, del potenziale, come dire, siamo arrivati al periodo paradossale per cui il runner, una persona che correva da solo, poteva essere quello che diventava l'untore nei confronti della cittadinanza. La parte fondamentale che abbiamo vissuto come amministratori è quella di una totale carenza di informazione, perché probabilmente lo si è rispettuto poco, ma chi era dentro nella zona rossa e quindi i veri comuni che hanno vissuto la tragedia iniziale hanno avuto una norma, come dire, dal punto di vista del governo che indicava che cosa poteva o non poteva essere fatto in maniera chiara. Successivamente ci sono arrivate, come dire, delle normative valide per tutto il territorio nazionale, ma nel frattempo la città di Lodi doveva prendere, e noi, quindi io sindaco e la giunta insieme, prendere decisioni quotidianamente sulla base di una totale assenza di informazioni. Chiudiamo le scuole o le lasciamo aperte? Chiudiamo i parchi e le lasciamo aperte? Cimiteri, gli uffici pubblici, eccetera. Abbiamo dovuto prendere decisioni sulla base di buonsenso, senso di responsabilità, ma una totale assenza di informazioni, a partire anche da quelle che ricevevamo da parte degli enti pubblici, nel senso che il primo caso comunicato dalla città di Lodi era un dipendente del comune. Noi lo sapevamo per il rapporto personale che avevamo con la persona, ma dal punto di vista esterno l'abbiamo saputo dall'organo di informazione locale che ha trasmesso la notizia, senza che ci sia stata una trasmissione ufficiale dell'informazione da parte della SST e della TS. E questa, come dire, è stata un qualcosa che ha assolutamente segnato. Io poi di formazione di cultura sono liberale, sono presidente di un'associazione che si chiama Lodi Liberale, quindi potete capire come abbia vissuto questo periodo in cui le libertà personali sono state limitate, anche quelle costituzionalmente garantite, anche nella prima parte da strumenti amministrativi come i DPCM, ma con la consapevolezza che forse parte della riduzione delle libertà personali era necessaria per proteggere le libertà degli altri. Di più, come deleghe, io ho cultura, sport, turismo e attività produttive, ovvero tutte le cose che si sono fermate, quindi non si sono più potuti organizzare allenamenti, partite, eventi pubblici, i bari e i ristoranti hanno dovuto chiudere, dal punto di vista turistico evidentemente nessuno poteva spostarsi, quindi è una cosa che ho vissuto personalmente molto in maniera intensa. E in più, cosa fondamentale, che su cui ci si riflette troppo poco, gli amministratori locali sono quelli che hanno il contatto diretto con i cittadini, il mio numero di cellulare ce l'ha praticamente mezza lodi. Io un certo periodo durante il lockdown sono diventato praticamente esperto di qualunque cosa, per lo meno presunto. Mi si chiedeva informazioni su cerette, pizza al taglio, immersioni, posso farlo, posso farlo, questo, eccetera. A un certo punto un giorno ho deciso di contare le persone a cui ho dato risposta e in un giorno sono arrivate 450 persone a cui interagire direttamente per i vari bisogni, dubbi, domande, eccetera. Due delle quali, ma lo dico perché è un episodio che mi ha colpito, due signore che non mi conoscevano personalmente ma che avevano avuto il mio numero di telefono, che mi chiamano e mi dicono ma ci posso chiedere un consiglio, dica, io avrei un po' di febbre e un po' di mal di schiena, cosa mi consiglia di fare, signore, chiami il medico. Però questo secondo me è un esempio emblematico di due cose, nello spazioamento collettivo che c'era all'epoca e quindi della mancanza di riferimento e dall'altra nel cercare negli amministratori locali che si conoscono quelli che potevano darti informazioni, ovviamente nei limiti del possibile. Quindi cosa abbiamo vissuto? Abbiamo vissuto un periodo veramente incredibile e mi avvio alla conclusione perché non voglio sottrarre tempo. Il Presidente Tesauro ha detto una cosa fondamentale, siamo tutti, cambiamo. Sì, io faccio sempre queste due osservazioni. Uno è gli atteggiamenti e l'altro è il linguaggio. Gli atteggiamenti, quanto tempo è che non stringiamo mani, che non abbracciamo persone, che non salutiamo con un bacio sulla guancia, che non diamo pacchi sulle spalle. Io vi assicuro che un mese fa, la prima volta che c'è stata una signora che in maniera assolutamente naturale mi ha porto la mano per saltarmi, mi è quasi scesa la lacrimuccia perché ovviamente siamo animali sociali e quindi non possiamo e non dobbiamo vedere l'altro come una potenziale fonte di pericolo, che è quello che invece siamo stati obbligati a vedere. E questa cosa non è ancora cambiata. La seconda cosa è il linguaggio. Io, e chiudo davvero, sono convinto che torneremo alla piena normalità quando un termine come assembramento tornerà ad essere utilizzato da fascisti e militari. Si chiamano gruppi di persone. Oggi ancora questo termine che ci è entrato e che fisiologicamente poi induce i nostri come distanziamento sociale, come tanti altri, induce poi a vedere veramente pericolo dovunque. Quindi è veramente una situazione assolutamente difficile. Sono convinto ed è importante un convegno come questo che torneremo graduale e attorno alla normalità grazie al processo di vacillazione di massa e quindi grazie alla scienza che ancora una volta trova la soluzione ai nostri problemi. Grazie Ernesto. Grazie, grazie a Lorenzo Maggi, vice sindaco di Loghi. Ci ha raccontato la sua esperienza, utile per tutti i relatori che parleranno appunto di tutti quelli che sono gli aspetti correlati al Covid. Io credo che, come dire, il ruolo che hanno giocato le amministrazioni pubbliche, governo, regioni, comuni sia stato determinante nel bene e nel male. Quindi grazie per la sua testimonianza. Iniziamo, diciamo, i lavori veri e propri del nostro congresso. E' il turno del dottor Dario Cavallari, giudice addetto all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Chiedo alla regia se il dottor Cavallari è pronto. Lui ci parlerà di... Eccolo qui. Vedo il dottor Cavallari, grazie. Allora, lui ci parlerà dei vaccini relativamente al discorso dei minori, in particolare sul discorso dei minori. Chiedo al dottor Cavallari di tenersi nei dieci, massimo dodici minuti previsti. Siamo già in ritardo, ovviamente non è colpa sua, e quindi chiederò da ora in avanti a tutti di rispettare i dieci minuti fatidici. Grazie e la parola al dottor Cavallari. Scusi, l'ho persa. A lei la parola. Ah, bene, grazie, grazie. Non l'avevo sentita, scusi. Allora, vi ringrazio per l'invito, anzitutto. Io dovrei parlare di minori e vaccino. Cercherò di dare un taglio leggermente giuridico. Ovviamente rispetterò in maniera più rigorosa possibile il tempo che mi ha dato, eh? Te lo garantisco. Ora, la questione dei vaccini e dei minori in realtà non è mai stata troppo considerata in giurisprudenza, anche se vi sono stati dei casi negli anni passati che riguardavano fondamentalmente la vaccinazione obbligatoria. Il tutto cominciò con la famosa legge Lorenzin del 2017, insomma, la 119 del 2017, che ampliò il numero di vaccinazioni obbligatorie anni fa e che quindi chiaramente creò un certo conflitto, una certa conflittualità all'interno della società fra esigenze diverse. Da un lato, come se l'ho detto prima, la problematica della salute, della salute, della salute, della tutela della salute dell'individuo e del corpo sociale, come ha detto giustamente il professor Tesauro, perché molti dimenticano che la nostra è una Costituzione, sicuramente la più, se non la più bella, una delle più belle del mondo, però è una Costituzione con una forte impronta collettiva e sociale. Quindi tutti i nostri diritti, anche quelli considerati più individuali, vanno sempre interpretati in un'ottica collettiva. Questo spesso viene dimenticato. E ci fu un certo dibattito, sia dottrinario che giurisprudenziale, in ordine a questa vaccinazione obbligatoria, perché vi erano genitori che, ovviamente era obbligatoria la vaccinazione, quindi non si può dire legittimamente, però comprensibilmente, con riferimento a certi vaccini che da un momento all'altro sono diventati obbligatori, avevano delle remore. E venivano, è stata anche una certa ambiguità del legislatore, che aveva previsto per i bambini fino ad una certa età che non potessero andare a scuola, poi dopo una certa età semplicemente l'erogazione di sanzioni, ma questo è un profilo che ci interessa meno, e vengono irrogate delle sanzioni e si andò davanti ai giudici, i quali in linea di principio risposero che era obbligatoria la vaccinazione e quindi, nonostante la comprensibilità delle problematiche segnalate dai genitori, queste vaccinazioni dovessero essere posti in essere e in mancanza dovessero essere mantenute le sanzioni. Il problema è diventato per il tempo sempre più, come dire, consistente, anche perché la mancata vaccinazione è stata vista da certi, forse anche in certi casi anche giustamente, da certi uffici, da certi servizi sociali, come una forma di incuria da parte dei genitori e quindi ha portato, poi Metti l'aiutatore non aveva pensato a questo, ma ha portato all'apertura di procedimenti finalizzati a rimuovere o comunque affievolire la responsabilità genitoriale del padre o della madre o di entrambi i genitori che si fossero detti contrari alla vaccinazione. Quindi si è partiti da un obbligo di vaccinazione che doveva, si diceva, garantire il diritto allo studio dei ragazzi, garantire la salute individuale, garantire la salute pubblica, si è finiti con l'incidere sul rapporto genitori-figlio. Adesso non voglio dire che i figli fossero tolti ai genitori, però sicuramente si trattava in certi casi di pesanti interventi sul normale rapporto genitori-figli. E parlo non soltanto di figli adulti, ma figli più grandi, cosiddetti grandi minori, quindi adolescenti di 15-16 anni, ma parlo anche di bambini, quindi casi in cui non c'è una conflittualità all'intro della famiglia. Venendo più ai nostri giorni, sta diventando di attualità il contrasto anche fra genitori. Si pensa a un genitore che voglia un vaccino e a un genitore che sia contrario. Nulla a questo quando il vaccino è obbligatorio, viene di principio, si tende, i tribunali tendono a dare ragione a seguire il parere, come dire, quello che si dice, il pegliata di base. Il pegliata di base visita il bambino, dà un parere e il giudice dice che si può seguire quel parere, quindi facoltizza il genitore favorevole a seguire quel parere ad aderirvi e quindi a procedere in genere alla vaccinazione. Che succede quando però il vaccino non è obbligatorio, ma soltanto raccomandato? E' il nostro caso proprio, questi sono i vaccini Covid, non sono obbligatori in linea generale, non lo sono comunque per i minorenni e ci si può chiedere che succeda quando invece vi sia un contrasto fra i genitori. E qui ci sono dei precedenti che hanno riguardato altre vaccinazioni che non erano obbligatorie, come quella per il papillomavirus, quella per la meningite. E lì la giurisprudenza si è molto divisa. Diciamo che in linea di principio i tribunali per i minorenni, posso citare un tribunale minorenni di Bologna del 2016, ma ce ne sono anche altri, i tribunali per i minorenni hanno rifiutato l'apertura di procedimenti, o meglio hanno chiuso i procedimenti instaurati con riferimento ai profili depotestate, potestà genitoriale, oggi è detta responsabilità genitoriale. Hanno cioè scelto un approccio che faceva non coincidere il rifiuto da parte di un genitore alla vaccinazione, non obbligatoria, mi raccomando, non obbligatoria, con una valutazione di inidoneità all'esercizio della funzione genitoriale. Anche se vi sono casi, vi sono stati vari casi, ecco. Possiamo dire che di fondo si è cercato un dialogo tra i genitori in caso di contatto. C'è da dire che è stato anche uno sviluppo interessante della vicenda perché dai primi casi in cui effettivamente si poteva parlare anche di una forma, nel senso largo, di non consapevolezza dei genitori, che peraltro dava origine all'apertura dei procedimenti davanti alle corti minorili, si è passati ad un approccio diverso da parte dei genitori contrari a questi vaccini solo raccomandati, un approccio in base al quale essi hanno cominciato a dichiarare di essere consapevoli, postando quindi lo scontro dal profilo depotestate, cioè consapevolezza della responsabilità genitoriale, al vero consapevole scontro, a questo punto potremmo dire ideologico, fra due opposte visioni della vita, della scienza, delle relazioni sociali e anche della famiglia, nel fin dei conti, e del rapporto tra famiglia e Stato. Perché alla fine lo Stato, non voglio dire legittimamente quando c'è una legge, sì, per forza legittimamente, però lo Stato aveva delle esigenze, il Ministro della Salute, del Ministro della Pubblicazione, avevano certe esigenze, alcune famiglie erano leggermente contrarie. E infine si è arrivato al caso o ai casi di cui si è parlato sui giornali negli ultimi tempi, c'è addirittura il figlio che lotta in contrasto con i genitori, i genitori che sono d'accordo per la non vaccinazione e il figlio che invece vuole vaccinarsi. E qui possiamo ricollegarci a quello che era stato detto prima, che effettivamente a certi minori è stata fornita un'informazione in base alla quale raggiù ottenuta la vaccinazione avrebbero come dire, riottenuto la piena e assoluta, chiamiamola libertà, una parola grossa, autonomia nella gestione dei propri interessi, mettiamola così, questo termine è più vago. Ed è piuttosto singolare perché in linea di principio se il vaccino non è obbligatorio e i genitori sono d'accordo, non dovrebbero esserci problemi. Il figlio deve seguire la volontà dei genitori, che può essere anche inopportuna, sbagliata, ma comunque questo è il sistema. Ma se possiamo dire questo quando il figlio è piccolo, quando il figlio è un po' più grande, quindi a 16, 17, 18 anni, ecco che abbiamo a che fare con un grande minore e quindi la situazione si complica perché entrano in questione le varie convenzioni internazionali che impongono quando ci sono problemi insieme alle famiglie di ascoltare il minore e quindi si passa da un profilo infrafamiliare ad un profilo extrafamiliare e quindi ulteriori interessi. Insomma tutto parte da una legge in buona fede sicuramente e si arriva poi come un poco di neve che cadendo a valle diventa una grande valanga e adesso abbiamo queste situazioni. Cosa si può fare in questi casi? Il minore certo può rivolgere ai servizi sociali, i quali quindi aprono un procedimento che può portare davanti al tribunale per i minorenni. Si può andare dal garante dell'infanzia, si può chiedere al pubblico ministero la nomina di un curatore speciale che a sua volta individui un avvocato il quale agirà davanti alla corte competente e quindi avremo un giudice che si troverà da un lato i due genitori, dall'altro il minore e a quel punto cosa succederà? Da un lato il giudice dovrà muoversi, dovrà essere veloce perché il minore resta minore, il grande minore resta minore per un certo periodo di tempo ma non troppo, quindi la risposta dovrà arrivare abbastanza rapidamente. Adesso mi arrivi alla fine ovviamente, ho un cronometro quindi sto tenendo conto dei tempi. Ottimo, grazie professore, grazie dottor Cavallari. Anche poi parla un mio collega dopo che sicuramente si risentirebbe se li togliessi tempo. E poi che succede? Il giudice alzitutto dovrà valutare la maturità del minore. Certo, un minore che viene a dire voglio uscire, per questo voglio vaccinarmi, potrebbe dimostrare scarsa maturità. Anche se qualcuno a più stagio di me potrebbe obiettare che molti adulti fanno affermazioni addirittura più estreme di questi minori. E poi ci si dovrà porre il problema della, come dire, della utilità del vaccino in questione e quello sarà veramente un grande problema perché in teoria dovranno essere portati dati oggettivi. E i dati oggettivi su vaccini sono sicuramente utili, come è stato detto, spero tanto che ci aiuteranno, ma comunque sono vaccini che circa un annetto circa. Quindi i dati sono pochi e lei a quel punto i giudici si troverà veramente in imbarazzo perché avrà dati a favore, ma dati anche contrari. Dovrà tener conto poi dello specifico profilo medico del diciassettenne e sedicenne, se maschio o femmina, del contesto sociale in cui si muove. Di cosa vuole fare questo minore? Perché se il minore vuole vaccinarsi per togliersi la mascherina, partecipare ad assembramenti, come ha detto prima il vice sindaco di Lodi, eccetera, eccetera, a quel punto non lo so se il vaccino sarà sufficiente per questo ragazzo. E però queste sono problematiche piuttosto complicate, avremo bisogno di molto più tempo per affrontarle, ma io ho circa 10 secondi ancora e quindi colgo l'occasione per salutare tutti quelli che sto vedendo, anche quelli che non vedo, l'avvocato Aleksandre, il dottor Caccavale e il mio collega Natalini che fra poco parlerà dei profili penali. Grazie e grazie. Grazie a lei dottor Cavallari soprattutto per essere rimasto nei tempi e ovviamente per i contenuti interessantissimi del suo intervento. Do subito la parola al dottor Aldo Natalini, giudice addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, ci parlerà della immunizzazione penale dei sanitari, l'enorme scudo sulla responsabilità colposa. Poi alla fine avrò una domanda anche io per lui, ma preferisco prima far ovviamente ascoltare il suo prezioso intervento e poi alla fine avrò una domanda. Buon volentieri, grazie, grazie, spero di poter risolvere il quesito che mi vorrà. La norma che ci interessa è l'articolo 3 del decreto legge 44 2021 che è la prima con il quale il governo è intervenuto d'urgenza per introdurre un esimente, quella che tecnicamente si chiama esimente. Nella vulgata giornalistica si parla di norme scudo, di scudo. Tra l'altro anche lessicalmente il concetto scudo evoca un privilegio e questo è il motivo per cui i penalisti non piace parlare di scudo, perché il privilegio si annette a qualcuno che non ha diritto di non essere punito. Invece a buon diritto si invoca che il medico non debba essere punito se è agito conformemente alle regole. E il scudo tra l'altro evoca anche un concetto bellico che peraltro nella transazione, nella narrazione transmediatica, diciamo così, della pandemia si è molto abusato. Quindi scudo e immagini belliche. Parliamo di esimente, tecnicamente è una causa di non punibilità e dicevo non è frequente, credo che sia rarissimo che si intervenga con decreto legge, attenzione non per intervenire in materia penale, per coprire un preteso vuoto di tutela, aggravare pene o prevedere nuove fatti specie di reato, peraltro prasti già criticabile se la si fa con decreto legge, ma per introdurre una causa di non punibilità. È una cosa abbastanza inedita nella storia del panorama normativo italiano. Perché lo ha fatto il governo? Lo dice chiaramente la relazione governativa, ministeriale di accompamento, per rassicurare il personale vaccinatore. Viene introdotto quest'articolo, l'articolo tre, e se volete condividiamo lo schermo. Peraltro parentesi, ho messo a disposizione la mia relazione tra il materiale, la relazione dell'ufficio del massimario che peraltro è pubblica nel portale pubblico della Corte di Cassazione, per cui chi vorrà approfondire troverà nel dettaglio gli aspetti. Ora, se condividiamo un attimo lo schermo, credo che possa essere utile, possiamo vedere la norma in questione. Ora, non so che il tempo non è molto, però... Abbiamo dieci minuti. Allora, evitiamo... ecco qua, va bene, ci proviamo. Allora, la norma è questa, spero che riusciate a vederla. Perfettamente. Le norme sono, tanto è molto più interessante la norma che il mio volto, quindi le norme sono l'articolo tre e l'articolo tre bis. Attenzione, il tre viene introdotto per decreto legge d'urgenza. Primo aprile, il governo interviene nel pieno della campagna vaccinale. Bisognava rassicurare il personale vaccinatore perché c'erano state una serie di decessi correlate, almeno cronologicamente, la somministrazione del vaccino, l'apertura di indagini aveva molto allarmato. Il governo interviene d'urgenza con uno scudo, chiamiamolo così, con onesimente. Che cosa succede? Il decreto legge poi va in Parlamento per la connessione. Nel frattempo si crea un dibattito su questa norma, l'articolo tre, che viene molto criticata perché ci si aspettava molto di più. Da tempo si invocavano a norme scudo da parte del personale sanitario, dicendo che l'attuale causa di non punibilità permanentemente prevista nel codice penale a favore dei sanitari, quella introdotta con la cosiddetta legge Gelli Bianco, articolo 596, era ed è assolutamente inadeguata a fronteggiare l'emergenza sanitaria. È una causa di non punibilità limitata all'imperizia per l'atto esecutivo e qui invece bisognerebbe allargarsi all'ipotesi anche di non imperizia, di non infelizia. È una causa di non punibilità che si aggancia alle linee guida accreditate, ma come possono esistere linee guida accreditate rispetto a un virus ignoto fino a poco più di un anno fa? Poi una serie di strettoi applicativi che la stessa giurisprudenza penale ha dato a quella causa di non punibilità la rendevano totalmente inadeguata a fronteggiare l'emergenza e quindi esponeva, avrebbe esposto il personale sanitario di fronte a dei fatti avvertiti non solo da vaccinazione ma in generale conseguente alla pandemia a responsabilità penale, il che avrebbe incrementato ancora più il drammatico tema della medicina difensiva di cui si parla da decenni. Sensibile di queste preoccupazioni, il Parlamento ha introdotto una norma non esimente in questo caso, ma chiamiamola clausola limitativa della punibilità colposa, perché sono due modelli diversi se faremo in tempo a vederli, che in questo caso limita la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante l'emergenza, occasionate dall'emergenza, ai soli fatti di colpa grave, attenzione, quindi non più in riferimento all'imperizia che c'è nel 590 Texas, ma ai soli fatti di colpa grave. Dove invece l'articolo 3 vede che ci sia una non punibilità, la punibilità è esclusa quando il vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in commercio, emesso dalle competenti autorità e attenzione alle circolari del Ministero della Salute. Qui si aprirebbe un mondo, però per darvi un'idea, sono due modelli di cause di non punibilità completamente diversi. L'articolo 3 possiamo parlare di lockdown della responsabilità, norma di esonero totale della responsabilità, qui c'è una immunizzazione totale del medico, totale del medico e del personale vaccinatore in genere, non soltanto il medico. Perché? Perché qui la punibilità è esclusa. Qualcuno ha detto, ma c'era bisogno di questa norma? L'ordinamento non aveva già anticorpi nel proprio interno per evitare la punibilità dei medici? Probabilmente sì, ma se è voluto dare un segnale, un segnale rassicurante, a volte anche il diritto penale deve dare segnali, a volte si danno segnali per punire, a volte si danno segnali per non punire. Io credo che se un segnale si è voluto dare di questo segnale bisognerà tener conto anche ai fini delle iscrizioni delle notizie di reato, perché quelle comunque dovranno essere iscritte di fronte ad un fatto avverso, ma probabilmente la norma dovrà essere talmente pregnante nel suo contenuto da contenere il più possibile le iscrizioni nominative ed evitare che ad un evento avverso conseguente al vaccino consegua, come dice spesso, l'atto dovuto dell'iscrizione del medico vaccinatore. Questo la norma dovrebbe precluderci, perché c'è una chiara e evidente forza normativa data da questa previsione di non punibilità, quindi si dovrebbe procedere di fronte a queste ipotesi, è un'opinione personale che va oltre quello che ho scritto nella relazione, ma credo che questo possa essere il contesto per esporla. Se dobbiamo rassicurare il personale dobbiamo evitare anche di fare delle iscrizioni a tappeto come si facevano sempre. Si potrà iscrivere verosimilmente dopo che si è accertato che la somministrazione è avvenuta oltre le ipotesi previste dalla legge. Finché siamo nell'ambito delle previsioni previste dalla legge, potrebbe procedersi ad un approfondimento investigativo anche semplicemente con un fascicolo iscritto ai gnoti, il che eviterebbe di esporre la classe medica ad una esposizione giudiziaria eccessiva. Questo potrebbe essere il quid novum a livello operativo che possiamo trarre da questa previsione, che per il resto chiaramente è conforme ai principi generali dell'ordinamento. Perché? Perché è chiaro che il vaccino è un farmaco. Se il farmaco viene somministrato in maniera conforme a quelli che sono i requisiti delle indicazioni dell'autorizzazione dell'emissione in commercio, non c'è colpa. Da questo punto di vista è vero quello che qualcuno ha detto, che questa potrebbe essere una norma placebo. Si sta dicendo l'ovvio, ma a volte se si dice l'ovvio e se si è sentita la necessità di ribadire una causa di non punibilità, probabilmente una ragione c'è. La ragione in questo caso appiene ad evitare di esporre a procedimenti penali che poi sicuramente si concludono nei confronti del personale vaccinatore con un proscioglimento, ma evitare di esporre il personale medico nel pieno della campagna vaccinale. Quindi è una ragione politica e criminale molto forte. Quale sarà il problema di questa norma? Ve lo segnalo solo uno. I requisiti. La punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione a monte, quello dell'Ai, ma attenzione alle circolari pubblicate nel sito internet del Ministero della Salute, che in questi mesi purtroppo hanno detto tutto e il contrario di tutto. Su lo stesso vaccino sono state date indicazioni diverse e guardate che le circolari sono rilevanti in questa materia, perché le circolari contengono le indicazioni e le estensioni di utilizzo dei vaccini anticovidi autorizzati dall'EMA, il target delle popolazioni a cui somministrarle, e il modulo di consenso che viene somministrato in fase premaccinale. Come rispetto a questo è cambiato molto? Potrebbe darsi che quello che si è detto a gennaio, e così è, rispetto alla somministrazione di un vaccino e che ha determinato un evento avverso, non è più vero oggi a giugno. Non solo, ma questa norma può funzionare, questo congegno esimente può funzionare nella misura in cui la circolare sia perentoria nel contenuto, e lo è soltanto l'ultima circolare. Se la circolare raccomanda, come fai a fondare un giudizio di non responsabilità o di responsabilità con una circolare che raccomanda? Questo è un problema che vi pongo. Passiamo molto rapidamente all'articolo 3b, perché mi manca soltanto un minuto. Vi volevo far rilevare che qua si tratta di una causa che limita la responsabilità, non la esclude, parliamo soltanto di colpa grave, soltanto le ipotesi di colpa grave. Le ipotesi di colpa lieve escono o riescono dalla responsabilità penale. A quali reati si applica, come per lo scudo vaccinale, 589 e 590, cioè omicidio colposo e lesioni colpose. L'epidemia colposa non ci rientra, ma l'epidemia colposa è difficilissima da dimostrare perché la giurisprudenza richiede dei requisiti molto, molto, molto. Attenzione, casi di colpa grave c'è un limite eziologico che viene previsto, è un limite eziologico molto importante, vi segnalo solo questo, perché su questo si gioverà molto la portata di quest'esimente. Qua ci sarebbero tantissime altre cose da dire, poi risponderò alla sua domanda, dottore Seborra. Mi fa i commessi durante lo stato di emergenza, di cui l'articolo 589, commessi nell'esercizio della professione sanitaria, quindi riguarda tutti i sanitari, e attenzione, che trovano causa nella situazione di emergenza, non nello stato di emergenza, cioè, sì, purché ci sia stata una situazione di impellenza, di fretta clinica, tale da alterare il normale processo di azione, anche attenzione in relazione a patologie non covid correlate, questa causa di non punibilità può trovare applicazione. Perché? Perché anche per una patologia non covid correlata, ma che sia stata aggravata dall'affassamento dei livelli assistenziali generali che il servizio sanitario ha subito, il ragione della pandemia potrà trovare applicazione le simenti, il che avrebbe una copertura di una protezione molto ampia. Infine, ci sono una serie di criteri dettati dal legislatore molto interessanti, attraverso i quali si esclude la colpa grave, quindi si applica la causa di non punibilità. E quando è che si esclude la colpa grave? Beh, lo dice la stessa norma, in caso di limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto. È chiaro che questo può incidere sul quadro patologico, l'omessa somministrazione di eparina, quando ancora non si conosceva il meccanismo patogenetico da SARS-CoV, che aveva attivante coagulopatia, chiaramente rileva, come pure la scarcità delle risorse umane e materiali, il fatto che molte persone siano morte in pronto soccorso quando i reparti covid erano pieni. Rientriamo in queste ipotesi, queste cose purtroppo sono accadute. Ancora, il minor grado di specializzazione del personale impegato per far fronte all'emergenza. L'impiego di medicinali off-label, che altrimenti troverebbe un regime di consenso informato molto più rigido. Questo mi rientra. Questa sarà una norma sulla quale ragionare molto, perché è una norma che consente anche di verificare ora, in questa fase emergenziale, tutti quelli che sono stati i problemi che la pandemia ha causato in relazione anche all'ordinario svolgersi delle attività sanitarie. Grazie mille dottor Natalini, è stato chiarissimo. Io ho quella domanda ancora, vorrei, che vorrei porgerle, ovviamente pregandola sempre di una certa verità. Allora, lei ha detto giustamente che questa norma è stato un segnale, hanno voluto dare un segnale, mi è piaciuta la parola ed era esattamente in linea con quanto io volevo chiederle. Un segnale, questa volta, di non punibilità, molte volte vengono inasprite le pene, vengono, come dire, si crea una maggiore severità, il legislatore dà una maggiore severità nei confronti di determinati eventi, reati, crimini, eccetera. In questo caso è stato dato un segnale opposto. Ma io le chiedo, io le dico, ora, lei sa che su questa storia dei vaccini, ovviamente c'è stata, prima è stato detto giustamente, c'è un po' una divisione anche un po' ideologica, no? Tra un certo mondo che invece considera, lo diceva il dottor Galimberti nel suo saluto, che considera il vaccino come salvifico, no? Il vaccino di Superman. E altri che invece ideologicamente all'opposto pensano che il vaccino sia l'origine di tutti i mali. Poi c'è qualcuno che sta nel nel mezzo, no? Tra queste due, chiamiamole fazioni, no? Tra questi due gruppi. E c'è qualcuno che magari ha qualche dubbio, no? Che qualcuno che ha qualche legittima, qualche legittima perplessità vorrebbe capire meglio. Ora, lei non crede che questo, che lei, quello che lei ha chiamato segnale, no? Di non punibilità per tutto, tutti coloro che alla fine inoculano questo, eh, questo farmaco, questo, questo, questo vaccino, chiamamolo come volete, eh, nei confronti di centinaia di migliaia di persone, milioni di persone, non sia stato alla fine, non sia poi, alla fine, in realtà, in realtà un segnale negativo per quelli che avevano qualche, che avevano qualche dubbio. Cioè l'idea che chi ti inocula un determinato, una determinata sostanza non ha nessuna responsabilità, che non ci siano responsabilità per questo. Già le case farmaceutiche lo scrivono chiaramente nel, nei loro cosiddetti bugiardini, no? Ecco, se nel bugiardino è scritto chiaramente che stiamo parlando di un farmaco sperimentale, no? Che questi vaccini sono farmaci sperimentali. Ora, se a questo aggiungiamo il fatto che nessuno è responsabile di questo, eh, diciamo, di questo, di questo, eh, di questa sostanza che ti viene inoculata, ecco, non pensa che questo possa essere anche un segnale negativo nei confronti dell'opinione pubblica, quella dubbiosa e quella perplessa, quelli che non sanno ancora se farlo o non farlo, come farlo. Guardi, sentite, eh, non ho precisato una cosa, lo scudo vale in materia penale. Parliamo di scudo penale, ha tecnicamente detto scudo, la responsabilità civile resta. Questo va detto, tant'è che poi credo che ci saranno delle sessioni in cui più tardi si parlerà di responsabilità civile. Anzi, qui abbiamo uno scudo procedimentale che in qualche modo, mh, vuole limitare l'intervento del diritto penale, dell'operatore penale, ma non vuole evitare l'iscrizione del procedimento penale, perché quella non la può evitare a nessuno. vuole evitare che il personale, questo è il suo scopo, che il personale vaccinatore ponga in essere comportamenti pirateschi e quindi in qualche modo ostacoli questa campagna. Ma a monte, dobbiamo ricordarci che c'è una scelta volontaria del paziente, chiamiamolo paziente in questo caso, del vaccinando che si presenta. Quindi, diciamo, si dà rilevo anche a ecco perché c'è, a fronte di questa scelta volontaria, facoltativa, comunque non c'è l'obbligo per il cittadino. L'obbligo, semmai c'è per la classe medica, di vaccinarsi in forza di un'altra norma che non facciamo in tempo ad analizzare. Magari di quella si potrebbe fare un ragionamento di quel tipo, forse, che lei mi pone. Cioè, l'obbligo ha senso rispetto a queste perplessità? Lì si potrebbe ragionare. Si potrebbe dire che l'obbligo ha senso in un'ottica di solidarietà ex articolo due, come ha detto la Corte Costituzionale, ma rispetto a una non punibilità penale, io ne posso dire, ma un medico o un infermiere che alla fine si limita a effettuare una puntura, perché poi l'altra norma è un'altra storia, no? L'articolo tre riguarda i fatti avversi, i fatti covid, siamo in un ambito molto più ampio, ma che si fa una, si limita a effettuare una puntura inframuscolo. Quindi per sé è un atto medico tecnicamente, ma è inverosimile pensare che quella singola puntura possa determinare la lezione. Rispetto invece alle case farmaceutiche che hanno prodotto quel vaccino e che stiano utilizzando quel vaccino sperimentale autorizzato in via d'urgenza dall'EMA e poi dal lente regolatore italiano, ma il singolo vaccinatore che responsabilità penale, penale personale individuale, può muovere. Quindi resterebbe comunque una responsabilità. E a monte, e a monte cosa può essere sopportato. E allora lì si può pensare ad una responsabilità di altro tipo, ma delle case produttive, indennizzi, da dove fosse dimostrato, ma si apre tutto un altro campo, ma la responsabilità penale è personale. Del resto, se io le somministro eparina, e ci sono le condizioni per somministrargliela, e la sostanza è quella che va data in quelle condizioni, il problema di responsabilità penale poi capisce che deve tener conto sempre di una violazione di regole cautelari. Dottor Natalini, mi scusi, quindi comunque resta una responsabilità civile? Resta una responsabilità civile, tant'è che una delle critiche che viene mossa è che non è stato previsto una procedura ad hoc per un indennizzo, in questi casi. E allora bisognerebbe ragionare sull'applicabilità degli indennizi previsti dall'anormativa generale vaccinale, che però è quella sui minori. E qui rinvio a quello che ha detto il collega Dario Cavallari che saluto, che mi ha preceduto. La responsabilità civile rimane. Quindi su questo bisognerà aprire un'altra questione e altri approfondimenti. Quella penale personale, individuale, del singolo medico che si limita a fare una puntura, beh, di fronte a una situazione pandemica e di una vaccinazione di massa, è stata avvertita come veramente una necessità a costo di ribadire l'ovvio che in questi casi non si può punire penalmente il medico. Civilmente, verso la struttura, verso il lab, verso le case farmaceutiche, sarà tutta un'altra questione, se e quando sarà dimostrato il messo di causalità. Dottor Natalini, io la ringrazio, mi scusi purtroppo, come ha capito, anzi ci siamo dilungati più del previsto. Veramente la ringrazio molto per il suo intervento, molto chiaro. Ovviamente lei resterà in collegamento con noi e se vuole può continuare a seguirci e a interloquire con i successivi relatori. Io do la parola a questo punto. Allora, grazie al dottor Aldo Natalini, giudice addetto all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Do la parola alla professoressa Paola Frati, ordinario di medicina legale dell'Università della Sapienza di Roma, che ci parlerà della medicina legale nel contesto pandemico. Anche alla professoressa Frati chiedo di restare nei dieci minuti, dieci minuti non di più. Parto subito ma devo fare dei ringraziamenti. Il primo minuto, no, è più rapido. Allora intanto grazie veramente al moderatore, al comitato scientifico sia legale che medico legale, quindi all'avvocato Alexandre e ai medici legali e sono il professor Zoglia che è il presidente della nostra società italiana di medicina legale e al professor Pedoglia che è segretario di un altro ette molto importante che è il SISMLA. Allora, ho delle slide, però io volevo proprio partire subito con una riflessione importante, cioè quello che abbiamo vissuto è al di fuori di ogni contesto normale, che voglio dire che la pandemia rientra per definizione nella medicina delle catastrofi. Io non voglio portare una strenua difesa delle strutture sanitarie, dei professionisti e quant'altro perché l'importante è portare sempre in asse l'equilibrio nella relazione di cura. Però ripeto, medicina delle catastrofi vuol dire collasso del sistema sanitario nazionale. Se nella seconda fase tutto questo poteva essere arginato ed è stato arginato perché c'erano conoscenze maggiori, nella prima fase veramente siamo stati travolti. Quindi questo è un po' il senso del ragionamento che vorrò fare con voi. Provando anche a proiettare, vediamo se ci riusciamo. Organizzatore ha disegnato con viso, se no vado anche a braccio perché non c'è problema, perché voglio anche aggiustare il tiro della mia relazione. Quindi medicina delle catastrofi. Un'altra cosa che si è verificata a mio avviso molto importante è che per lungo tempo tutto il settore della responsabilità sanitaria e questo alludo fino al 2012 con i primi interventi del legislatore, quindi legge Balduzze e poi la legge attuale che è una legge più completa di sistema, noi abbiamo assistito un po' al silenzio del legislatore. Quindi una magistratura importante che ha dettato le guida principali dell'escursus e della responsabilità professionale e ripeto invece un silenzio del legislatore che si è dovuto rompere improvvisamente nell'attuale contesto pandemico. Giustamente chi mi ha preceduto ha fatto vedere come con provvedimenti molto rapidi, quindi con una decretazione d'urgenza che è tipica del decreto legge, il legislatore è dovuto intervenire assumendo io direi decisioni fondamentali che non sono di poco conto. Allora cosa è stato trascurato a mio avviso come giustamente lei ha detto il nostro moderatore? Il settore civilistico. Il settore penalistico è un settore che fa paura, io lavoro molto al fianco delle strutture pubbliche, quindi con le strutture pubbliche e con i professionisti sanitari. È vero che il penale entra, entra veramente, come dico sempre io il professionista sanitario non è in comune malvivente, viene travolto da queste vicende, quindi è vero che c'è da tutelare il paziente, però ripeto si trova travolto da una situazione che non essendo un comune malvivente, la Corte di Cassazione nel 1800 addirittura giudicava i medici non punibili a meno che non ci fosse l'animo del deliberato malaffare, quindi riportiamo spesso noi questa sentenza, quindi si trova travolto, ma il civile è un altro problema importantissimo perché il civile in ambito sanitario, le assicurazioni sappiamo che abbiamo assistito a una crisi importante del mercato assicurativo, le strutture sanitarie spesso sono in autoritenzione, quindi sono costrette spesso a rimanere in autoritenzione sviluppando dei sistemi importanti interni che devono sostanzialmente prendere il posto dell'assicurazione, spesso una scelta ponderata a volte una scelta indotta perché i premi sono premi esorbitanti, le franchigie non permettono di riportare all'interno appunto della gestione assicurativa molti sinistri, tutto questo è stato particolarmente avvertito in questo momento di grande crisi perché nel contesto pandemico qual è stata la crisi fondamentale? La mancanza di conoscenze è stata detta molto bene dai relatori che mi hanno preceduto ed è quello che noi ritroviamo sempre costantemente in questi provvedimenti legislativi che sono stati presi in via d'urgenza. Allora sono tante le novità perché le novità importanti scordiamola, allora per quanto riguarda l'obbligatorietà della vaccinazione per esempio per i professionisti sanitari, noi sappiamo che a un certo punto è emerso un concetto di solidarietà, di posizione di garanzia dei professionisti sanitari che sono stati chiamati in maniera improvvisa all'obbligatorietà in tema di vaccinazione. Anche qua abbiamo pronunce importanti della Corte Costituzionale e non solo, anche della Corte Europea proprio in materia poi di vaccinazioni recentissima dei minori che rendono molto bene l'idea. Quando si rompe questo contesto di equilibrio si fanno e si prendono scelte forti importanti. Io devo dire che durante la pandemia magari fa molto effetto quello che è successo in materia sanitaria ma la nostra limitazione della libertà personale l'abbiamo avvertita in tantissimi contesti quindi noi dobbiamo anche qua fare un ragionamento di carattere generale, uso delle mascherine non si poteva uscire fino a poco tempo fa, quindi ripeto si prendono scelte importanti, si fanno scelte importanti perché il contesto è particolare. Devo dire che c'è stato subito una spinta verso lo scudo, sembra di stare in guerra, i provvedimenti che sono stati presi sono stati presi per rassicurare. Certo io mi chiedo per esempio in materia penale quanto fosse necessario ribadire che il professionista sanitario che va a vaccinare va esente perché in questo caso è proprio una causa di non punibilità va esente da responsabilità. Io direi può sembrare un'affermazione forte, quasi ovvio, cioè se io rispecchio quello che c'è scritto nelle indicazioni e faccio quel trattamento come lo devo fare c'era bisogno di una causa di non punibilità. Questo vuol dire paura, frattura di equilibrio fra strutture professionisti sanitari da un lato, io direi anche dirigenza politica e quant'altro e un'eventuale fiducia da parte dei pazienti. Mi è piaciuto molto anche l'intervento dal punto di vista giornalistico, il vostro scambio, perché abbiamo vissuto un'informazione particolare in questo periodo, cioè io mi ricordo i bollettini di guerra, nella prima fase io stavo sempre attaccata alla televisione, il famoso incontro con la protezione civile delle 18 della sera, quotidiani giornali che parlavano solo di questo, quindi l'importanza di un'informazione scientifica corretta, che perché questa è importante? Non solo perché dobbiamo sapere effettivamente dal punto di vista scientifico come stanno le cose, ma perché questo poi determina tanto, determina magari, facciamo l'esempio dell'AstraZeneca con quello che è successo, determina confusione, perdita di fiducia da parte dei cittadini, pazienti e quant'altro, nei confronti del sistema sanitario. Mi viene sempre in mente la spagnola, spagnola chiamata così nel 1920, lo sappiamo tutti, non perché in Spagna si sia verificato chissà cosa, ma perché là non ci fu la censura che ci fu nel resto d'Europa e in America, quindi ecco l'importanza dell'informazione scientifica. Quindi ripeto, si è dato tanto spazio allo scudo, lo scudo anche in materia di responsabilità professionale, quindi là c'è un'attenazione, si parla di colpa grave, ovviamente richiama la mancanza di nozioni scientifiche e quant'altro. È rimasto aperto il problema del civile. Io su questo vorrei proprio aprire una riflessione importante, perché ripeto, il penale entra a gamba tesa nella vita di un professionista che non è un comune malvivente, ma quando i risarcimenti, come avviene nel nostro Paese, in materia di infezioni, perché il Covid rientra in materia di infezioni, vengono calcolati su quanti parenti, se c'è un decesso, quanti sono i parenti, parliamo di cifre di un milione e mezzo, due milioni d'euro, anche questo ha un impatto importante. Forse qua avremmo, oltre a richiamare norme importanti che già esistono nel nostro ordinamento, io penso per esempio a 2236, questa è una norma importantissima del codice civile. Quando fu introdotta nel 1942 da un legislatore veramente attento dell'epoca, io mi ricordo sempre la razza del guardia sigilli, che era quella di non mortificare il professionista, non mortificare, scusate, il paziente nelle richieste, ma non spingere il paziente a fare richieste non motivate, non sostenute. Quindi il civile è un altro problema importantissimo che è rimasto totalmente scoperto. Forse quando si parla di una situazione di questo genere, quindi oltre a un richiamo importante del 2236, quindi noi troviamo spesso questo richiamo quando si parla del Covid, quindi il fatto che quando nasce una prestazione di speciale difficoltà il professionista ha fatto tutelato, attenzione, non il professionista sanitario, la norma è di carattere generale, qualsiasi professionista, per cui non è chiamato a rispondere per colpa lieve, in questo contesto deve veramente trovare applicazione. Quindi quando parliamo del civile, se non altro, quale contesto come questo del Covid rimanda a idee di non conoscenze accreditate. Abbiamo dovuto correre anche nella produzione dei vaccini, è vero, siamo andati di fretta, non c'è stata quella attenzione che normalmente fino a un certo punto poi si pone nella sperimentazione, ma è stata un'esigenza, noi dobbiamo uscire e dobbiamo cercare di uscire da questa situazione che ha messo in ginocchio l'intero mondo. Quindi quando si parla di questi fattori bisogna bilanciare, cioè dobbiamo capire dove vogliamo andare e quali sono i risultati che vogliamo ottenere. Il civile quindi là non è stato fatto niente, giustamente è stato accennato anche questo, forse dovrebbe uscire in materia, quando si parla di Covid, di infezioni, addirittura l'onorevole Gelli aveva provato a introdurre il sistema indennitario nella legge 24 proprio in materia di infezioni, ma la legge 24 è una legge a costo zero, quindi non è stato passato questo importante, invece passo avanti, dovremmo forse parlare di sistemi indennitari. Qual è la differenza fra il sistema risarcitorio e indennitario? Io nel sistema risarcitorio vado a individuare il colpevole, cerco di trovare dov'è la colpa e poi vado a parametrare la quantificazione del danno su questo processo che sono andata a fare. Nel sistema indennitario la razza è profondamente diversa, io non cerco il colpevole, io capisco che c'è una rischiosità insita nella medicina, in questo caso nella pandemia da Covid che ha trovato sprovvisti degli strumenti, delle armi necessarie, strutture sanitarie e professionisti, vado a ripartire questa rischiosità nella collettività, quindi si abbassa il quantum economico e cerco di non individuare il colpevole, ma insieme di trovare una soluzione. Che cosa voglio dire? Voglio dire che siamo stati travolti, quindi questo è un messaggio forte, i professionisti sanitari, ma anche le strutture sanitarie, cioè noi nell'arco di un anno siamo stati chiamati ad attuare percorsi di prevenzione del rischio e di quant'altro che veramente hanno impegnato non avendo le conoscenze sufficienti. Quindi è importante non perdere questo equilibrio fra la fiducia, perché per me è basilare, fra i cittadini e il sistema sanitario. E così vi ringrazio. Grazie, grazie mille. Grazie mille alla professoressa Paola Frati, ordinario di medicina legale dell'Università della Sapienza di Roma. Ora era nel nostro programma doveva esserci l'intervento del professor Bassetti. Il professor Bassetti ha avuto un contrattempo improvviso, parlerà in sua vece la dottoressa Chiara Dentone, dirigente medico infettivologo, sempre presso la clinica delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, quindi che lavora insieme al professor Bassetti. Se la dottoressa Dentone è pronta, le darei la parola. L'intervento è quello previsto, cioè relativo alla prevenzione e al trattamento del covid in questo momento. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Condivido subito lo schermo. Ovviamente, dottoressa, anche a lei chiedo la cortesia di restare nei dieci minuti, grazie. Esattamente, metto subito la mia presentazione, rimarrò nei tempi al timer e quindi questo è il titolo della presentazione, prevenzione e trattamento del covid oggi. Come avete detto, effettivamente il covid-19 e la pandemia del covid-19 è stata una delle condizioni mediche che ha permesso di avere una conoscenza medica negli ultimi 15 mesi esponenziale. Questo ci ha permesso di capire la modalità di trasmissione di questo virus, che all'inizio non era così chiaro, quindi è un virus che si trasmette per via respiratoria ed è una delle condizioni più difficili per quanto riguarda la prevenzione per una malattia infettiva, tanto che abbiamo dovuto attuare delle misure di prevenzione che tutti ben conosciamo, dalle mascherine alla distanza, al distanziamento sociale e all'igiene delle mani. Diciamo che ci sono state altre misure anche molto importanti e forse molto stringenti, soprattutto nella prima fase, quando le conoscenze non erano così chiare e diciamo che il lockdown è stata una di quelle e che ha apportato dei benefici, ma anche ha dato delle conseguenze che stiamo vedendo ora e forse questo ci servirà per i mesi futuri, capire meglio cosa è successo. Abbiamo avuto altri modelli dei nostri colleghi a Taiwan, il modello Taiwan che è stato appunto pubblicato recentemente su Nature, loro non hanno utilizzato il lockdown ma hanno implementato la loro struttura di meccanismo di prevenzione e di controllo delle malattie infettive, cosa che probabilmente come avete anche sottolineato noi in Italia non eravamo pronti a fare. Tutti conosciamo la curva, l'abbiamo vista, ma cosa è successo sia qui che adesso nei giorni nostri? Ci sono diciamo due fasi praticamente molto simili, l'anno scorso di questi tempi eravamo a questo punto della curva e adesso siamo appunto in questa fase calante. Ci sono state delle novità, probabilmente ci siamo accorti che anche il winter time e quindi la temperatura ha giocato un ruolo nella prevenzione della pandemia, ma come sappiamo c'è sempre una luce in fondo al tunnel, noi negli ospedali ci siamo accorti a fine marzo che i tassi di ricovero iniziavano, fine marzo 2021, che i tassi di ricovero iniziavano a callare e questo per noi che avevamo le corsie piene ed era stato un momento davvero di luce in fondo al tunnel, soprattutto di cui vedete questa curva arancione che sono i soggetti più anziani con maggiori di 80 anni e questo cosa è stato? È stato grazie alla campagna vaccinale, la curva inversa e quindi l'aumento di vaccinazioni, questi sono i dati fino a fine maggio, ma sappiamo tutti i dati odierni, ogni giorno vengono aggiornati, quante totale di persone vaccinate ci sono state. Per noi la vaccinazione è stata davvero un qualcosa che probabilmente non ci aspettavamo, lo ha detto la relatrice in precedenza, sono stati accelerati dei tempi, ma io tengo a dire che effettivamente le sperimentazioni sono state fatte in maniera accurata, quando c'è una catastrofe, un'emergenza tutto è volto a accelerare delle fasi mantenendo però dei processi di sicurezza e vaccini ne abbiamo molti, abbiamo questi a RNA che non modificano il DNA ci tengo a dirlo, sono vaccini ad RNA, vaccini a vittore virale, soprattutto quello di AstraZeneca e Johnson e Johnson e ne stanno arrivando adesso che sono vaccini inattivati o vaccini adiuvati o con vettore proteico. Questo è davvero molto importante in questo momento per noi avere questa arma. Ce l'hanno detto i nostri colleghi inglesi, ma questi sono i dati di Israele che tutti conosciamo, vedete le curve blu, sono veramente diverse dalle rosse, chi si vaccina è blu e in Israele hanno visto proprio come i sintomatici per Covid, le ospedalizzazioni e i decessi sono veramente notevolmente ridotti con un'incidenza accumulativa molto più bassa con un 95% di efficacia. Ancora non sappiamo nelle popolazioni speciali che cosa succederà perché così come una persona sana risponde bene alla vaccinazione, alcune altre persone che hanno delle immunodeficienze, quali ad esempio vi ho portato esempi pazienti HIV piuttosto che pazienti trapiantati di organo solido che hanno delle alterazioni dell'immunità, non sappiamo come rispondono e soprattutto dicevate ben prima effettivamente abbiamo imparato a conoscere le varianti del virus e come sottolineavate e ci hanno spiegato e sapevamo in realtà i virus hanno loro questa insita capacità di mutare e di variare e quindi l'European Center of Disease Control le sta descrivendo, sono variant of concern soprattutto l'indiana diciamo che è l'ultima, quella che diciamo è stata individuata, all'altro ieri è uscita questa Delta Plus che ancora l'SDC non ha registrato ma soprattutto cosa abbiamo compreso in questi ultimi giorni che i vaccini sono efficaci soprattutto con la doppia dose come vedete è il messaggio del direttore dell'SDC ha detto che la good news è che i vaccini proteggono e soprattutto la seconda dose. Quindi per quanto riguarda prevenzione mi sembra di aver detto molto e sono pronta se avete domande. Per quanto riguarda la terapia che cosa abbiamo scoperto e cosa abbiamo imparato da tutti questi dati di letteratura scientifica, il meccanismo patofisiologico che vi risparmio e soprattutto come agire nei vari punti di replicazione del virus con diversi tipi di terapia. Fortunatamente, dico fortunatamente, chi ha bisogno di terapia e soprattutto chi ha bisogno di una terapia ospedaliera è la punta della piramide e dell'iceberg, però purtroppo sono pazienti che hanno, sono più compromessi perché sono come vedete in questo grafico dei nostri dati italiani, sono pazienti che hanno, sono più anziani e con i dati di Agenas chi è più colpito sono pazienti che hanno più comorbidità, oltre 65 anni ma soprattutto che hanno delle malattie di base, quindi i pazienti più fragili ai quali proprio nella campagna vaccinale all'inizio è stato dato la priorità. Quindi come terapia che cosa abbiamo appreso? Abbiamo appreso che ci sono dei timing differenti per la terapia, la terapia non va bene per tutti, non va bene la stessa terapia per tutti, ma soprattutto il trattamento va dato in queste fasi, nella fase in cui c'è un non contenimento della fase virale e c'è un inizio della fase infiammatoria dovuta al virus. Per cui, e ho quasi terminato la mia presentazione, nel senso abbiamo visto che ci sono terapie molto importanti tra cui queste è stato il cortisone che ha cambiato radicalmente la gestione dei pazienti ospedalizzati, ma nel paziente grave e severo non nel paziente che non ha necessità di ossigeno in terapia e quindi lo vediamo proprio dalle curve di questi lavori del recovery. Altro farmaco, farmaco antinfiammatorio importante, antirecettore dell'interleuchina citocilizumab che ci ha fatto studiare molto e adesso è utilizzabile nel paziente grave con severe or critical covid come nelle curve di questo lavoro su New England ci è stato detto. Altro farmaco, l'unico farmaco antivirale che abbiamo per via endovenosa e rendesevir nel paziente che fa ossigeno perché si è visto che nel paziente in ossigeno terapia dà un beneficio, non nel paziente ventilato meccanicamente, questo AIFA ce l'ha descritto ed è normato come lo possiamo richiedere. Abbiamo anche nelle prime fasi adesso di malattia la possibilità di avere un early treatment, abbiamo capito che trattare il paziente troppo tardi è più difficile poi riuscire a avere dei successi. Abbiamo due possibilità, un farmaco in studio che è un antivirale orale che può essere utilizzato nel paziente con una sintomatologia molto breve, entro i 5 giorni e con certe caratteristiche, con età maggiore di 60 anni o alcune comorbidità e soprattutto abbiamo gli anticorpi monoclonali, tutti ne avete sentito parlare, conoscete il meccanismo, nel senso impediscono al virus di entrare, per noi è stato davvero molto importante, soprattutto l'abbiamo utilizzato ad avere un 150 pazienti con dei successi importanti, soprattutto dal punto di vista di riduzione dell'ospedalizzazione e di riduzione della mortalità. AIFA lo ha normato proprio in pazienti con sintomi da meno di 10 giorni e che hanno certi tipi di caratteristiche per cui l'infezione potrebbe determinare un aggravamento e soprattutto stanno uscendo adesso alcuni lavori in quella che viene definita post-esposizione, una profilassi post-esposizione. Sono proprio gli anticorpi monoclonali, in quel concetto che già alla fine del Novecento era uscito, della immunoterapia passiva, quindi far sì che il paziente non riesca a prendersi l'infezione perché io impedisco il meccanismo di entrata del virus. Quindi, e concludo la mia presentazione, abbiamo capito in questi 15 mesi molto su prevenzione del virus e su come impedire la trasmissione. C'è ancora molto da imparare su che cosa, come sarà il futuro. Un dato è molto importante, oltre alle misure di controllo e la stagionalità di questo virus, l'immunità dell'ospite è molto molto importante per capire che modelli potenziali ci possiamo aspettare e quindi diciamo che l'incidenza di infezione da SARS-CoV-2 dipende proprio in maniera cruciale dalla durata dell'immunità. Grazie. Dottoressa, grazie per il suo intervento. Ho due domande, una mia e una che viene dai nostri partecipanti, che noi abbiamo una chat interna dove ci arrivano, ci arriva qualche, io cerco di selezionare quelle più interessanti. Allora, la prima domanda è mia, diciamo, ed è quella, perché lei ha parlato giustamente di prevenzione e di trattamento, che sono chiaramente le due direttrici, no? Sui quali si è mosso il mondo medico-scientifico. Mi chiedo e le chiedo perché non puntare di più sul trattamento e meno sulla questione vaccinale, nel senso che sarebbe stato, e lo dico da legislatore, una volta ho fatto il parlamentare, evidentemente probabilmente sarebbe stato meno costoso per le casse pubbliche, in termini generali, e forse, me lo chiedo, è una domanda, non ho una risposta, è una domanda, e magari poteva essere anche, diciamo, avrebbe creato probabilmente meno polemiche, no? Di quanto invece non si è accaduto negli ultimi mesi. La seconda domanda, è così completo, la seconda domanda invece viene da Tiziano Gastaldi, che scrive, che ci scrive e dice, essendo questo un vaccino RNA, RNA, RNA messaggero, c'è il rischio di diventare vaccino dipendenti, in quanto è possibile che se non si inverte la tendenza, che nasca la, cioè il virus muta e il vaccino di fatto aiuta il virus a mutare, e quindi nascerà la necessità di vaccinarsi una volta, lui dice una volta alla settimana, ma mi sembra esagerato, ma diciamo una volta ogni tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, evidentemente. Ecco, questa era la seconda domanda che viene da uno dei nostri astanti. La ringrazio per la sua pazienza. Sì, dunque, la prima domanda, allora, puntare soltanto sul trattamento... No, non ho detto soltanto. Dico, o in primis, cioè tutte e due le cose, non si può fare, si può fare in contemporanea, però il trattamento, quello successivo, diciamo, della seconda fase, che abbiamo visto nella prima ondata, è troppo tardi, ok? Perché il paziente arriva e deve essere ospedalizzato, non è possibile puntare su questo trattamento soltanto, ok? Perché è una problematica che abbiamo ben visto come numeri, ok? Quindi io devo prevenire, ok, la problematica dell'ospedalizzazione, prima cosa, e seconda cosa, è vero che i casi gravi, come ho sottolineato, sono pochi, ma pochi a seconda e dipende dal numero del denominatore, ok? E quindi io devo agire in maniera preventiva, prima che il paziente possa acquisire l'infezione, poi posso agire su due fronti, posso agire su un early treatment, cioè il paziente paucisintomatico, lo abbiamo visto nella seconda fase, e nel paziente ospedalizzato, ok? Ci sono quattro timing, secondo me. Mi scusi, ancora una piccola precisazione, per esempio la questione delle cure domiciliari, cioè sulle cure domiciliari, lei sa che soprattutto nella prima fase è stato, anzi, di fatto i medici sono stati terrorizzati, di fatto gli è stato impedito, e quelli ai quali non era stato impedito con il protocollo ministeriale, che erano talmente tanto psicologicamente terrorizzati, che è difficile andare a trovare un malato, ecco, per esempio. Era anche molto difficile riuscire a dare delle linee guida chiare all'inizio, perché non le avevamo neanche noi in ospedale, quindi io mi scuso se sono stata, come ho letto, ospedaliera centrica, però effettivamente il punto qual è? Che la medicina territoriale ha fatto un grandissimo lavoro, ma la necessità del trattamento nella medicina territoriale è molto, molto bassa, ok? I farmaci che devono essere somministrati a domicilio sono praticamente nulli, ok? Questo è un concetto molto importante, perché nel paziente con paucisintomatico che non ha necessità di avere una terapia con ossigenoterapia, non c'è necessità di trattamento. Il punto si sposta nella fase intermedia nel paziente fragile e nel paziente ospedalizzato, ok? E qui ci siamo. Lei ha ragione perché si può agire nell'early treatment, stanno uscendo antivirali per via orale, ma le dico, ne abbiamo uno in un protocollo randomizzato, ne uscirà un'altra a ottobre, ma siamo nel 2021, ok? Non è molto facile. E soprattutto gli anticorpi monoclonali, come ho fatto vedere, hanno cambiato radicalmente la gestione nella riduzione delle ospedalizzazioni. Il dato importante è proprio questo, non tanto nella trasmissibilità o nella prevenzione, ma nella riduzione dell'ospedalizzazione, perché se no non riesci a far fronte ai pazienti che devi ricoverare. Per cui, il punto però io tengo a sottolineare che senza vaccinazione non potremmo essere qui a parlare in questo senso, perché io ho fatto vedere le curve dell'Italia, ma degli altri paesi è la stessa cosa. A marzo 2021 ci siamo accorti che i pazienti sopra gli 80 anni non venivano più ricoverati, ok? E quindi questo è stato un intervento molto importante. E sulla questione della mutazione del virus e sulla esigenza che questo vaccino dovrà essere fatto in modo continuativo e ripetitivo? Io non credo, e dai dati ancora che ho visto fino a ieri, che ci sia una necessità vaccinale così frequente. La cosa che io dico però, perché le vaccinate al momento sono coperte ed è molto importante questo, il punto qual è? È la risposta dell'ospite, è la nostra risposta verso il virus. C'è una variabilità di risposta nostra, quindi non siamo tutti uguali, no? E per cui dovremmo vedere se c'è chi non ha risposta in maniera adeguata e si può riamalare. Al momento il buon dato è che c'è un 1% di reinfezione. Questo è un dato molto importante che forse poco viene detto. Vuol dire che la nostra immunità funziona e l'immunità vaccinale è uno stimolo ancora più importante. Io il timing di richiami vaccinali purtroppo in questo momento non lo posso dire. Ho letto un lavoro ancora ieri pubblicato che c'è stata una terza dose per chi era stato sottoposto a un trapianto di organo solido, nel senso pazienti che non avevano risposto alle due dosi canoniche, ma siamo in una ristretta cerchia. Bene, grazie. Con queste sue parole rassicuranti che non dovremo fare altri vaccini, speriamo. Io la ringrazio moltissimo del suo intervento. Ovviamente un saluto al professor Bassetti che le pregherei di poter porgere da parte nostra. Passerei quindi all'intervento successivo è intervenuta la dottoressa Chiara Dentone, dirigente medico-infettivologo presso la clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Ora darei la parola al professor Riccardo Zoya, professor ordinario di medicina legale dell'Università degli Sud di Milano, dipartimento di scienze biomediche per la salute e presidente della Simla. Ci parlerà delle prospettive di valutazione delle micro-invalidità ex articolo 138 del Coggio dell'assicurazione in previsione dell'elaborazione del barem medico-legale. Professor Zoya, a lei la parola. Grazie mille. Io ringrazio subito tutti quanti gli organizzatori per aver avuto la sensibilità di dare uno spazio medico-legale così intenso a questa discussione. Ringrazio tutti quanti coloro che mi hanno preceduto perché hanno avuto modo di puntualizzare degli aspetti molto importanti relativi a questo tema, che è un tema molto delicato e sensibile. La professoressa Frati nel suo intervento ha proprio dato una specie di fondamento teorico a quelle importanti riflessioni che desidererai fare con voi. Sempre in dieci minuti, professore. Sì, mi sono fatto anche un timer appositamente perché ormai siamo avvezzi a questo tipo di... Ecco, volevo dire, la Società Italiana di Medicina Legale in questo frangente ha avuto un ruolo molto importante. Io volevo preliminarmente soltanto ricordare prima di entrare nel centro del problema appunto l'intervento che abbiamo immediatamente effettuato anzitutto e non vorrei che si fosse mai dimenticato per l'adattamento sul territorio delle strutture anatomiche. Abbiamo avuto un periodo nel quale ci siamo trovati in qualche maniera limitati nella esecuzione di autopsie in una situazione così delicata, così importante nel quale l'aspetto patologico può diventare un elemento decisivo ai fini della ricerca perché abbiamo un territorio nazionale che è completamente disattrezzato sotto questo profilo. e la sensibilità alcune volte delle autorità centrali e di chi dovrebbe occuparsene è veramente un po' sfumata sul petti che magari non sono all'ordine del giorno dell'informazione ma che in realtà costituiscono dei fondamenti centrali per quello che è la progressione della ricerca nel senso autentico del termine in unione con tutte le altre situazioni. E questo, devo dire, è un elemento che desidererei fosse sottolineato. Poi abbiamo avuto la possibilità di intervenire in modo diretto avendo un'azione che in qualche maniera è stata piuttosto efficace nel dare una puntualizzazione sui criteri scientifici con i quali si può agire in termini medico-legali in casi di situazioni che danno della conflittualità relativa al Covid, in una situazione nella quale le conoscenze erano limitate e lo sono ancora per certi versi e quindi dove anche qualsiasi tipo di valutazione e di giudizio medico-legale a fini giudiziari o a fini di instaurazione di conflitti deve essere ponderato con dei criteri che non soltanto sono dei criteri di carattere tecnico-scientifico ma diventano anche dei criteri etici. Abbiamo avuto un ruolo fondamentale poi nell'azione sulle situazioni che riguardano le linee guida soprattutto nell'ambito del triage nella missione in terapia intensiva, nella situazione di sproporzione tra disponibilità e caratteristiche dei pazienti e questo è stato un altro lavoro gigantesco che però fortunatamente abbiamo potuto portare a termine e su questo tema che stiamo trattando adesso, cioè il tema delle macro-invalidità è un tema che naturalmente ha visto la società in prima linea. Perché? Perché in che cosa consiste? Qui noi stiamo aspettando da tempo che si arrivi ad una determinazione di carattere tecnico-scientifico che riguardi appunto stabilire quali sono i criteri di valutazione delle situazioni di macro-invalidità. Ora, nell'ambito della SARS-CoV-2 e di tutta la tematica Covid noi siamo ancora in una fase nella quale ci troviamo a dover stabilire quali sono i reali postumi dei casi nei quali si realizza una sindrome legata a infezione da Covid e che cosa succede alla fine in chi ha dei postumi permanenti perché questa sindrome post-Covid è ancora un'entità che chiunque fa il nostro lavoro e visita quotidianamente persone a questi fini si rende conto di quali siano le variabili ampie che esistono in questa situazione e che anche se in casi limitati sotto un profilo percentualistico quando sono realmente situazioni che clinicamente hanno una rilevanza portano indubbiamente a delle difficili possibilità di valutazione di un eventuale danno. E questo danno che ormai si profila in maniera piuttosto frequente nella nostra osservazione a un certo punto dovrà avere una collocazione che è una collocazione specifica sotto il profilo della valutazione anche perché tutte quelle istanze risarcitorie ma anche indennitarie perché non ti dimentichiamo se qua c'è il problema grossissimo del ritenere questa copertura assicurativa anche in termini infortunistici privati o di malattia come un elemento che è oggetto di una valutazione medico-legale. Allora sotto questo profilo proprio in questo periodo Covid quando stiamo parlando delle possibili riferimenti tabellari nelle macro-permanenti che attengono appunto una responsabilità civile ci siamo visti proporre dal Ministero dello Sviluppo Economico questa proposta di decreto di Presidente della Repubblica nel quale esisteva ed è allegata una tabella medico-legale tabella medico-legale che sottoposta agli stakeholders che hanno dovuto esprimersi compresa la Società Italiana di Medicina Legale che ha dovuto intervenire perché è una tabella che naturalmente nelle sue caratteristiche non può avere un'applicazione concreta nell'ambito medico-legale e del diritto vivente per vari motivi che abbiamo spiegato, illustrato e in qualche maniera anche dettagliato e che applicati soprattutto a situazioni come possono essere quelle legate al postumo derivato da infezione da SARS-CoV-2 in poche parole ne vedono la inadeguatezza inadeguatezza che deriva anzitutto da un'assenza di conoscenza di quali sono i criteri scientifici che l'hanno stimolata e dalla sua molto 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 simile vicinanza a quelle pregresse situazioni tabellari che non hanno più un fondamento tecnico-scientifico in relazione a tutte le tematiche che riguardano la biologicità della persona umana la sua reale comprensione, la sua reale rappresentazione perché sia applicabile nell'ambito del diritto e questo è un primo elemento fondamentale non possiamo più presentarci in una platea che ormai è una platea affermata nell'ambito del risarcimento del danno alla persona sotto il profilo valutativo della sua variazione biologica con dei criteri che sono dei criteri di carattere apodittico dei quali non si conoscono i fondamenti tecnico-scientifici poi abbiamo visto che in quella proposta ci sono delle situazioni che sostanzialmente contrastano e confliggono in modo diretto con delle realtà che ormai devono essere necessariamente prese in esame per una valutazione medico-legale concreta di un danno alla persona per esempio la esclusione delle coesistenze cioè che vuol dire sostanzialmente che se una persona ha delle caratteristiche biologiche e anche patologiche che sono propriamente sue queste devono essere escluse dalla valutazione del danno rispetto al fatto ingiusto che si considera origine di questo danno allora voi vi rendete ben conto di come nell'ambito di una situazione come per esempio è la infezione da covid pensando alla sindrome derivata da quello che può essere la sequela di questo tipo di patologia quella realtà biologica che è contrassegnata da caratteristiche anche patologiche preesistenti indipendenti dalla infezione diventa un elemento chiave, centrale da un punto di vista tecnico per avere una valutazione reale di qual è stato il degrado derivato da quella persona sotto il profilo tecnico e sotto il profilo clinico-medico-legale immagino che il caro amico Patrizio Rossi che poi dopo seguirà e che la sua esperienza di centralità valutativa nell'ambito INAI questi problemi se li stia ponendo nella specifica situazione che attiene la infezione da covid come oggetto dell'assicurazione sociale nell'ambito degli infortuni lavorativi e nell'ambito della malattia professionale bene, noi abbiamo visto poi anche che questo tipo di proposta che è arrivata al Ministero dello sviluppo economico è una proposta tabellare che è anche con dei grossi limiti sotto il profilo della comprensione della compromissione psichica della persona a livello di conseguenzialità di situazioni di carattere dannoso che ne derivano perché ne parla in una maniera che è assolutamente marginale assolutamente non fondata su degli elementi che hanno delle riferibilità a dei criteri scientifici che sono peraltro oggetto di rilevante di rilevante studio negli ultimi anni in tutto l'ambito medico-legale internazionale e ci troviamo di fronte anche qua ad una situazione che è una situazione che diventa fondamentalmente inapplicabile se si vuole veramente arrivare ad una condivisione che è l'elemento che ha perché in questo momento ci troviamo in una situazione che nel panorama nazionale vede sostanzialmente delle differenze di carattere applicativo del concetto di danno alla persona a seconda delle sedi giudiziarie nelle quali ci si trova e invece è palese che tutto deve convergere perché si arrivi ad una condivisione ad una autonomia e a una omogeneità di questi criteri che corrisponderebbero sostanzialmente semplicemente a delle affermazioni di diritti costituzionali è quello che ci si aspetta giuridicamente in un sistema paese adottato di modernità ecco tutti questi elementi che sono elementi che hanno contrassegnato il dibattito di questo periodo hanno fatto sì che la società italiana e immagino la grande parte del mondo medico-legale italiano che segue la società scientifica nazionale abbia condiviso l'ipotesi dell'urgenza che questa situazione venga corretta attraverso un lavoro tecnico-scientifico che deve essere fatto inevitabilmente e che deve naturalmente prendere origine da una situazione che sia condivisa scientificamente qualificata e che porti a delle risoluzioni di tipo tecnico applicabile in modo concreto quanto più urgentemente possibile all'interno delle strutture governative io ringrazio e penso di avere mantenuto il più possibile il tempo non la sento però grazie moltissimo grazie moltissimo al professor ora mi sente vero? ecco grazie moltissimo al professor Zoya il professor ordinario di medicina legale dell'Università degli Studi di Milano darei subito la parola al professor Patrizio Rossi sovrintendente medico INAIL che ci parlerà della tutela previdenziale dell'assicurazione sociale in emergenza Covid anche a lui pregherò di restare nei dieci minuti fatidici grazie buongiorno buongiorno a tutti ringrazio l'organizzazione per l'opportunità che ci ha fornito saluto gli amici che sono collegati non posso non salutare immediatamente e prioritariamente il professor Riccardo Zoya che mi ha preceduto ovviamente le mie argomentazioni sono focalizzate agli aspetti Covid e alle nostre valutazioni però non posso non so fermarmi proprio un minuto sulla tabella delle macro ecco io non ho sentito il professor Zoya su queste argomentazioni su questa analisi che loro hanno effettuato io ho proceduto ad un'analisi del medesimo documento sotto il profilo di un riscontro istituzionale così come c'è stato richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico ecco il nostro lavoro è stato completato è stato un lavoro abbastanza lungo non posso magari potremmo reagionarci in questo non posso esplicitare quali sono le nostre conclusioni però devo dire che io venivo dall'esperienza di una tabella di legge che è cosa sostanzialmente diversa da tutti gli altri strumenti di proposte linee guida valutazioni istruzioni che le varie società hanno prodotto una tabella di legge deve avere determinate caratteristiche innanzitutto deve resistere a tempo perdonatemi ho richiamato in premessa come l'834 il DPR 834 dell'81 per le cause di servizio sia ancora vigente come il DM del 92 sia ancora vigente come la tabella nonostante le nostre ripetute richieste di aggiornamento e di riformulazione è ancora vigente e quindi la mia prima preoccupazione è stata quella di verificare se la tabella fosse costruita in modo da poter rispondere poi alle esigenze di invecchiamento che il tempo inevitabilmente porterà per questo strumento come ha portato per tutti gli altri poi abbiamo analizzato gli aspetti di criteriologia che alle quali molte volte si dà poca importanza e poi da ultimo siamo entrati nel merito ma questo ci interessava poco sui valori sulle formulazioni sui vari apparati l'apparato psichico non voglio soffermarmi ancora una volta per poter verificare quello che era il nostro interesse cioè un interesse di riuscire a coniugare con la tabella in là a colloquiare con la tabella in là a evitare un aumento un incremento dei danni differenziali delle fattispecie di tal genere del contenzioso e quanto altro ecco io adesso non posso pronunciarmi su quelle che sono state le nostre risultanze che hanno verificato però devo dire che tutti e tre gli aspetti che vi ho anticipato in premesso e delle criticità a mio avviso che impongono una riflessione in tassenza per quanto attiene invece alle nostre argomentazioni cerco di condividere il documento è l'organizzazione ha disabilitato la condivisione non sono abilitato a condividere se mi abilitate io procedo ah eccoci non so se adesso vedete il documento lo vediamo lo vediamo tutto bene grazie quindi la tutela previdenziale del covid abbiamo detto molto ci siamo incontrati ripetutamente su questa argomentazione ho cercato di focalizzare di ribadire come in realtà l'articolo 42 per il decreto cura Italia non fosse una novità perché in realtà le malattie infettive qualificate con il fortunio risalgono a molto tempo prima ecco questo è l'articolo 42 le raccomandazioni noi avevamo la necessità di governare un fenomeno pandemico che anche sotto il profilo medico legale creava delle criticità enormi ripetute quotidiane allora ho adottato uno strumento di comunicazione con le nostre 196 strutture e aree medico legali distribuite su tutto l'interritorio nazionale per poter governare omogenezzare e mantenere un livello di qualità adeguato lo abbiamo fatto attraverso questo strumento la raccomandazione INAE la raccomandazione agile immediato di istruzione e le istruzioni che necessitavano di essere cambiate anche revisionate molto molto tempo cito tra queste sono quella nella quale lo faccio sempre mi scuserete con orgoglio quando nell'aprile 2020 abbiamo dato delle istruzioni per una qualificazione ai fini indemnitari della malattia covid-19 in quel momento voi sapete che il caso confermato era solo quello dei test molecolari noi avevamo decine di migliaia di casi ai fini denunciati per infortunio INAE fermi in riserva di regolarità perché la gran parte se non la quasi società di questi non si era avvalso in quel momento pandemico drammatico che tutti abbiamo vissuto della opportunità di avere un riscontro di test molecolare e quindi erano formalmente secondo quelle che le definizioni necessarie in quel momento della torta sanitaria casi non confermati quindi non potevano neanche transitare sotto il profilo diagnostico un po' prima della verifica medico-legale ecco in quel momento con un atto forse spregiudicato se volete di coraggio anche abbiamo introdotto una definizione ai fini identitari della malattia covid che non era solo quella del test confermato al test molecolare ma quella della ricorrenza di un quadro clinico strumentale suggestivo di covid-19 questo ci ha consentito di aprire alla regolarizzazione dei casi quindi di mettere in tutela tutti quei casi e di anticipare se volete di cinque mesi quello che è stata poi la uguale definizione di caso confermato introdotto dalle autorità sanitarie abbiamo adottato una presunzione semplice sì l'abbiamo fatto per quelle categorie di lavoratori che erano a nostro avviso esposti ad un elevato rischio di ammalare di contagiarsi meglio perdonatemi di contagiarsi da SARS-CoV-2 e queste erano le categorie che avevamo codificato sin dall'inizio sotto il profilo teorico se volete con una ricostruzione attraverso la rischiosità che ci proveniva dalla conoscenza dei cicli lavorativi questa è stata la prima griglia di qualificazioni di compiti di mansioni di inquadramenti professionali che ci sono derivati dalle denunce e come vedete vi è una sostanziale coincidenza questo dobbiamo essere grati a tutta la scienza anche la scienza della medicina del lavoro che ci ha aiutato in questo senso a codificare prima sotto il profilo teorico un insieme di categorie dei lavoratori per le quali poter applicare il principio del rischio della presunzione semplice che poi abbiamo spiegato moltissimo come non si concretizzi con con alcun automatismo perché la istruttoria medico-legale la verifica medico-legale è condotta per tutti i casi anche per tutti coloro che si avvalevano e si sono avvalsi del principio della presunzione semplice ecco abbiamo codificato quattro momenti di verifica che vedete qui richiamati quello del livello di rischio dell'attività lavorativa quello dello svolgimento della verifica dello svolgimento in concreto dell'attività lavorativa perché vi poteva essere un disallineamento importante tra l'inquadramento di operatore sanitario e la modalità di spettamento di lavoro ecco anche quello poteva essere un elemento e lo è stato per moltissimi casi un elemento di diciamo di reiezione poi del caso perché non vi era in concreto la esposizione al rischio di contagio la coincidenza tra i vari dati epidemiologici e abbiamo codificato il dato epidemiologico territoriale coniugandolo in particolar modo con i picchi epidemici e con il picco epidemico aziendale e anche con quello familiare la prova contraria ricordiamo che nella prima fase di ammissione alla pandemia quasi si è arrivati a un punto del 65% di contagio intrafamiliare ecco quindi la diciamo l'istruttore l'attenzione l'approfondimento su questa che poteva essere che è stata poi una delle prove contrarie di ammissione a tutela era necessitata siamo intervenuti anche grazie al rapporto e alle collaborazioni con l'istituto superiore di sanità e con l'istat sulle codifiche di cause di morte ecco nel secondo rapporto quello dell'ottobre 2021 che vedete vedete qui riassunto abbiamo introdotto forse per la prima volta per la prima volta nella sezione 2 del modello istat una specifica ai fini indennitati ma a tutti gli effetti ai fini medico-legali degli altri stati morbosi rilevanti quelli che a fini epidemiologici comunitari non vengono richiamati per ricondurre il decesso allo stato morboso rilevante annotato nella fase 2 ma che invece nella parte 2 del modello istat ma che invece a differenza delle finalità di sanità pubblica ai fini medico-legali noi abbiamo specificato e lo troverete o ne lo troverete l'avete già trovato forse ribadisco per la prima volta che si è stato introdotto ma questo ci deriva mi deriva anche dalle esperienze dai confronti anche con il professor Zoya ma ricordo anche altri interventi il professor Molino quando si parlava delle morte per covid morte con covid morte in covid ecco e tutta l'altra abbiamo quindi introdotto come le patologie preesistenti possano contribuire quindi efficacemente ricondurre il decesso all'indennizzo questa è una una delle codifiche che abbiamo fatto diciamo delle sinossi che abbiamo prodotto attraverso le nostre raccomandazioni proprio perché l'INAIL può aver visto e ne abbiamo riconosciuto dei casi anche qui dei casi di malattia covid di natura comunitaria che hanno colpito dei lavoratori reddituari e queste rendite erano ricondotte ad una patologia respiratoria molto importante ecco in questo caso uno stato preesistente indennizzato INAIL in un paziente ammalato per un covid che non aveva caratteristiche di origine professionali ha consentito poi di ammettere a tutela e di erogare rendite a superstiti ci siamo posti anche noi il problema della valutazione anche qui ho rilasciato il primo numero del fact ship della sovrintendenza sanitaria centrale con le indicazioni valutative per diciamo per introdurre e per guidare per omogenezzare perché la mia prima preoccupazione è sempre quella di realizzare uno strumento che possa diciamo consentire una valutazione analoga similare sovrapponibile in tutto il territorio nazionale abbiamo questo e quindi il primo requisito di qualità per me è sempre stato anche tutto il profilo valutativo la omogeneità di valutazione per questo abbiamo codificato penso non ve ne siano state fatte altre ovviamente basando sui riferimenti tabellari una indicazione specifica quindi una modalità una procedura di valutazione nella quale ho approfittato per introdurre anche altri elementi che vanno a rideterminare quella procedura per il danno composto prevista nei criteri di applicazione delle tabelle di M12 luglio 2000 in o seclio al decreto legislativo 38 che aveva introdotto il danno biologico dati pressoché ultimi vado a concludere sulle denunce di infortunio sulle denunce con esito mortale questa è una ricostruzione che abbiamo sempre aggiornato sulla base delle evidenze per raffrontare continuamente quelle che erano le nostre evidenze del SARS-CoV-2 professionale da quello che è quello comunitario ci interessa solo perché abbiamo posticipato tutti gli accettamenti ciò che andiamo a valutare sicuramente ciò che è esitato a 12 settimane e abbiamo anzi posticipato tutti gli accettamenti a 6 mesi 12 mesi questo è un riassunto una sinossima davvero che vi richiama e che vi dà l'idea di quanti pochi siano i casi riconosciuti ed allina i compostumi molto importanti questa è la codifica meglio il raggruppamento come vedete ben il 55% del nostro campione si attesta con postumi 720 casi li abbiamo studiati tutti i primi 726 casi tra l'uno il 5% più della metà di questi 726 casi questa è l'età media è una delle giustificazioni perché i nostri ammalano di malattie meno gravi e hanno postumi meno gravi probabilmente anche perché sono più giovani di quello che è l'esito che tutti gli scienziati e gli studiosi osservano sulla popolazione comunitaria molto più avanti di età quindi molto più aggravata da complicanze con postumi maggiormente importanti questa è l'ultima rilevazione dei postumi che abbiamo quantificato come vedete gli esiti respiratori sono presenti in ben il 66% dei casi di conosciuti tutelati inail con postumi gli esiti psichici nella misura del 22% come vedete quelli poi sensoriali gusto del fatto così la fatiga e tutti gli altri io mi fermo qua spero di non aver sforato troppo il tempo concesso mi ringrazio grazie a lei professor Rossi per il suo intervento molto chiaro abbiamo ascoltato il professor Patrizio Rossi sovrintendente medico Inail do subito la parola al professor Andrea Minarini direttore UOC della medicina legale della ASL di Bologna ci parlerà della gestione del rischio contenzioso in periodo pandemico da parte delle aziende sanitarie anche a lui ovviamente prego di restare dei canonici dieci minuti siamo già purtroppo con mezz'ora di ritardo e non per colpa sua ovviamente va bene grazie buongiorno mi sentite spero perfettamente grazie vorrei condividere lo schermo se fosse possibile noi non vediamo ancora nulla diciamo vediamo se vediamo lo schermo adesso pregherei la regia di consentire la condivisione ecco benissimo perfetto spero vediate dunque il mio tema è stato quello di valutare un attimo e ringrazio l'avvocato Alexandre per l'opportunità quello che è stata un po' la questione della gestione del rischio in ambito pandemico che è stato uno dei problemi chiaramente che ha caratterizzato in maniera piuttosto importante anche la capacità di poter gestire le problematiche relative al rischio in questo periodo non so se vedete la successiva dunque noi come federazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere abbiamo condotto nel periodo pandemico un'inchiesta diciamo chiedendo a una sessantina di aziende sanitarie quali fossero le problematiche che avevano rilevato maggiormente nel periodo pandemico abbiamo posto alcune domande di riferimento una era stata quella se la normativa vigente fosse stata sufficiente per proteggiare l'emergenza e come vedete spero dalla diapositiva il 50% delle aziende hanno risposto in maniera assolutamente negativa soprattutto per la inadeguatezza della velocità dell'epidemia questo è un tema che hanno già diciamo stressato i precedenti relatori per contraddizioni fra le norme dello Stato e delle regioni e per gli aggiornamenti necessari per la semplificazione vuoti normativi e per mancanza di tutela degli operatori anche queste sono state problematiche che sono state affrontate anche in precedenza e che cosa è stato chiesto anche se fosse stata ritenuta utile una copertura assicurativa specifica e le proposte anche provenienti direttamente dalle aziende quindi direttamente dagli operatori sanitari erano appunto quelle di avere una tutela speciale del personale in occasione dell'emergenza abbiamo poi visto i risultati che sono stati anche stamattina valutati in risposta a quella che è stata lesimente riferita alla problematica della responsabilità penale in corso pandemico sulla tutela dei libero professionisti e anche del personale in coscienza e abbiamo anche chiesto se fossero state aggiornate in tempo reale le procedure per il monitoraggio dei rischi per gli operatori in relazione alle nuove esigenze generate dell'epidemia in corso ci sono state risposte positive anche se vediamo non particolarmente coordinate che riguardavano soprattutto l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi il tema della formazione dell'informazione il tema degli screening dei pazienti degli operatori però in maniera piuttosto diciamo non particolarmente convergente coordinata fra tutte le strutture cioè ci siamo un po' arrangiati a seconda delle singole aziende è chiaro che il problema è stato anche ha ribadito precedentemente il tema di poter garantire delle necessità assistenziali in rapporto alle risorse disponibili e alle conoscenze del momento è stato sicuramente un elemento assolutamente critico e importante anche per quanto riguarda la gestione dei rischi e ciò ha portato una serie anche di riferimenti importanti è chiaro che quando noi parliamo di rischio e intendiamo un evento avverso che può essere collegato a una probabilità che un processo non avvenga così come progettato la sioma classica è quella dell'analisi della gestione e del controllo che dal punto di vista terapeutico potrebbe essere appunto la conoscenza del fenomeno il trattamento terapeutico e il monitoraggio successivo anche per il rischio i concetti sono esattamente gli stessi e cosa c'è mancato fondamentalmente? C'è mancato la conoscenza del fenomeno avevamo necessità di avere una serie di eventi segnalati e chiaramente nel periodo pandemico avere queste segnalazioni in maniera coordinate e ordinate era assolutamente impossibile quindi questo ha poi anche diciamo pregiudicato la possibilità di avere una gestione controllata di una certa situazione che ha diciamo indotto a fare sia modifiche organizzative che gestionali basate sulla singola esperienza e sul rapporto anche della necessità di gestire giorno per giorno le necessità operative del momento chiaramente con una possibilità di controllo che forse cominciamo ad avere adesso cioè avendo poi sviluppato azioni di miglioramento e monitoraggi sicuramente in questo momento cominciamo a avere un pochino una fotografia della questione un pochino maggiore chiaramente è stata una pandemia della sottovalutazione se lo è stato dal punto di vista informativo lo è anche stato dal punto di vista sanitario della gestione dei rischi e questo impone un ripensamento della prevenzione nel campo della biosicurezza e chiaramente con un cambio di paradigma anche nel tema della sicurezza delle cure con un approccio che sia molto più integrato e molto più multidisciplinare rispetto al precedente è chiaro che noi qui dobbiamo imparare anche dai nostri errori ed essere in grado di mettere dei paletti di contenimento a situazioni di cui adesso però abbiamo la consapevolezza quindi i punti quali sono stati intanto il ruolo dei sistemi in modelli di gestione del rischio e le buone pratiche che chiaramente si sono costruite in rapporto a quello che era l'evoluzione della conoscenza del fenomeno anche dal punto di vista della gestione delle problematiche effettive e dal punto di vista terapeutico con delle nuove visioni che stamattina sono state toccate abbastanza poche cioè quello delle nuove visioni dell'attività degli ospedali del territorio chiaramente che hanno avuto anche come metodo di riferimento il tema della resilienza che dovrà diventare anche uno degli elementi importanti della maniera di operare dei professionisti chiaramente come dicevo prima con un aumento della consapevolezza delle problematiche di rischio di un sistema che il piano pandemico sicuramente non aveva dato diciamo oggetto e indicazioni precise per le note motivazioni ma sulle quali e che abbiamo comunque dovuto gestire praticamente sulla nostra pelle quindi quali saranno gli sviluppi anche nell'ambito della gestione del rischio chiaramente necessità di modelli di riferimento appresi dall'esperienza una condivisione di saperi anche con la parte clinica sicuramente la necessità di avere panel di esperti che impongano una visione integrata non più del rischio clinico come tale ma una visione integrata di un rischio sanitario che si riflette su tutti gli aspetti di gestione del rischio che è chiaramente con una consapevolezza che purtroppo questa pandemia ci ha insegnato cioè di mantenersi sempre allerta su problematiche che legate alla pandemia stessa su altre situazioni devono averci insegnato a come essere resilienti e modificanti in tempo reale su situazioni di questo tipo quindi è chiaro che quello che dal punto di vista di gestice il rischio va portato sicuramente all'attenzione di tutti è l'aumento della percezione del rischio e della cultura della sicurezza che deve essere un elemento centrale della attività anche dei professionisti sanitari e degli esercenti delle professioni sanitari a tutto campo abbiamo visto come gli ospedali si sono stati in grado di trasformarsi praticamente in maniera direi giornaliera con riqualificazioni di aree modifiche di terapie intensive strutturi mobili nuove problematiche di telemonitoraggio e telemedicina fra l'altro noi sappiamo che i temi della new generation sui fondi previsti nella new generation a livello della missione 6 è il tema fondamentale appunto la gestione del rischio nell'ambito del territorio anche la gestione migliore delle organizzazioni del territorio è il tema del telemonitoraggio e della telemedicina quindi come vediamo elementi che abbiamo cercato anche di sviluppare in questo periodo pandemico chiaramente con delle esperienze che dovranno essere assolutamente portate avanti e l'altro tema è il mantenimento anche in questi ambiti di una di cercare una normalità di attività sanitaria che risulta assolutamente importante perché adesso è una delle problematiche critiche tra l'altro anche nella rilevanza di quelle problematiche relative alle cure territoriali questo è un tema ripeto che è stato traccato questo stamattina abbiamo visto come questo approccio non è stato sicuramente appropriato e sicuro sia sul versante dell'offerta ma anche sul versante della richiesta a causa dell'impreparazione dei pazienti e degli assistiti a poter capire e cogliere le necessità effettivamente legate a un approccio territoriale assolutamente integrato quindi chiaramente le problematiche sono state quelle legate a una carenza di governance sia da parte ospedaliera che da parte del territorio nella prima fase carenze strutturali disposizione organizzative e la necessità quindi di capitalizzare queste conoscenze e finalizzare un'innovazione di sistema mi avvio abbastanza alle conclusioni chiaramente con dei problemi che dovranno essere superati tra l'altro adesso ci sono molte diciamo conference di consenso su quello che dovrà essere il nuovo approccio della gestione del rischio anche le tematiche sia ospedaliere ma molto più rivolte al territorio chiaramente che riguardano un'organizzazione scarsamente determinata dei servizi competenti competenze o una operatività condizionata da scarsa coesione dei servizi e una debolezza del middle management che sicuramente dovrà essere particolarmente rafforzata chiaramente con dei nuovi modelli di governance che diano chiaramente delle indicazioni programmatiche centrate e responsive molto di più sui bisogni dei pazienti spostando chiaramente l'ambito terapeutico verso quelle situazioni più vicine ai pazienti ai loro domicili a delle strutture periferiche di riferimento con tutta una serie di implementazioni di logiche e di modelli di organizzazioni che deve essere molto più centrati sulle problematiche direttamente specifiche dei pazienti chiaramente potenziando la presa in carico dell'elettronocità garantendo la massima assistenza domiciliare utilizzando le nuove tecnologie previste anche dal piano di resilienza così come indicato chiaramente uno sviluppo della cultura della sicurezza in una nuova visione organizzativa basata sul nuovo approccio alla cura territoriale quindi concludo necessità di modelli di riferimento condivisione di sapere panel di esperti una visione integrata del rischio sanitario ospedale e territorio che tenga conto appunto di quanto questa esperienza negativa ci ha purtroppo insegnato io vi ringrazio avrei finito bene grazie grazie mille al professor Minarini direttore della medicina legale dell'ASLA medicina legale di Bologna passerò la parola immediatamente al professor Enrico Pedoia segretario nazionale del SISMLA e membro del consiglio direttivo ci parlerà della criteriologia valutativa medico legale della SARS-CoV-2 in contesto di polizza infortuni grazie innanzitutto io voglio dare un ringraziamento particolare e personale all'avvocato Aleksandre che ci ha invitato anzi ci ha consentito di partecipare con le rappresentanze specialisti medico legale questo convegno dandoci uno spazio autonomo perché è importante il dialogo tra il giurista e il giurista medico legale in genere per quanto riguarda tutti gli ambiti di interesse scientifico medico applicati a diritto perché spesso il dialogo tra il tecnico e il giurista è fondamentale e serve per capire quelli che sono i presupposti che dopo servono per applicare le norme o per applicare come è l'argomento della mia materia certi aspetti di tipo contrattuale che riguardano l'ambito della polizia infortuni come giustamente ha segnalato il collega Rossi precedentemente il concetto di infezione come condizione di infortunio è sempre stato riconosciuto dall'Inei e diciamo che anche la prevalente letteratura medico legale degli anni passati ha sempre individuato questo presupposto e infatti l'unica cosa che distingue il concetto di infortunio da infezione tra l'Inei e l'ambito del contratto privato riguarda esclusivamente due presupposti nell'Inei tutto è ancorato all'occasione di lavoro mentre nel contesto della polizia di fortuni privata tutto si gravita nel rapporto che si instaura tra l'assicuratore e il contratto rispetto alle volontà del soggetto che si assicura per tutelare la propria salute e rispetto a quello che viene inserito nell'ambito contrattuale quindi sono dei rapporti precostituiti che vanno osservati nell'osservanza vanno osservati appunto per definire quello che è indelizzabile o quello che non è indelizzabile quello che è mancato volevo fare una precisazione recentemente è stata essenzialmente l'informazione che i media hanno dato su questo aspetto fondamentale perché le uniche informazioni sono arrivate dalle compagnie di esicurazione che diciamo così in maniera unilaterale hanno rifiutato di riconoscere o quantomeno di procedere con un accertamento e un'istruttoria specifica da parte dei propri fiduciari di tutte le denunce che arrivavano per avvenuto contagio da covid che aveva determinato con condizioni di lesioni che potevano rientrare nell'ambito del contratto di assicurazione il presupposto che è stato disatteso dalle compagnie è stato il fatto che il contratto di assicurazione prevede come principio contrattuale la causa dell'evento e non le conseguenze dell'evento quindi affermare come è stato detto da parte delle compagnie di assicurazione che la SASCOV2 non rientrava dal polizio di fortuni in quanto condizioni di malattia è un presupposto proprio tecnico errato perché il fondamento riguarda esclusivamente la condizione di lesione ora per condizione di lesione qualsiasi condizione generale di polizia prevede un presupposto specifico che afferisce al concetto di causa di violenza esterna è fortuita lasciando gli aspetti di fortuità e di esteriorità della causa è noto che il presupposto della violenza in caso di infezioni non solo della SARS-CoV2 si fonda sulla concentrazione cronologica dell'agente effettante che è tale secondo indicazione di polizia da determinare lesioni obiettivabili quindi la condizione lesiva della SAS è uguale ad altre condizioni lesive previste anche in polizia che sono azioni traumatiche azioni di abbellenamento azioni di ecossia che sono normalmente previste nell'ambito del contratto quindi l'assicuratore consapevole che il presupposto di infezione rientra nel del concetto di indennizzo doveva come era in passato porre delle clare di esclusione e dalla nostra idea che abbiamo fatto per approfondire questo aspetto si è visto che fino all'anno 2000 circa tutti i contratti di polizia di coltuni prevedevano diciamo l'esclusione delle conseguenze di rete di infezioni all'epoca diciamo che due compagnie di sicurazione avevano un controllo scientifico esercitato da parte del comitato scientifico dell'ANIA dove collaboravano i nostri colleghi e proprio prendendo spunto da queste interpretazioni tecniche erano state indicate queste specifiche clausole di esclusione per le conseguenze delle prevedezioni nei successivi contratti assicurativi che sono subentrati dopo il 2000 quando c'è stato alcun distacco da parte dell'ANIA di qualche compagnia l'assicuratore è puntato più sull'aspetto marketing del contratto assicurativo e questa clausola di esclusione è scomparsa da tutti i contratti per cui affermare che l'evento da infezione del SARS-CoV-2 è una malattia è una condizione sostanzialmente inammissibile da parte di chi ha proposto un contratto di assicurazione e quindi quello che adesso sta succedendo è che avvengono questi rigetti di denunce costantemente che temo che condizioneranno l'insorgenza di una molti numerosi contenziosi perché è bene ricordare che il presupposto del riconoscimento della indennizzabilità dell'infortunio è un presupposto di lettura tecnica medico-legale che è specificatamente previsto in ogni contratto di polizia nel senso che in caso di disaccordo sulla indennizzabilità o sulle conseguenze della lesione viene demandato un collegio medico che inevitabilmente in ipotesi di contenzione giudiziario si tradurrà nella nomina di un cittico medico legale perché appunto questo è l'ambito della validità del riconoscimento del contratto quello che voglio dire è che l'argomento è particolarmente importante perché a prescindere dai numerosi soggetti che sono in possesso di polizze infortuni evidentemente la maggior parte delle persone che sono state coinvolte da covid che hanno riportato conseguenze anche importanti alla morte o che hanno convivono con conseguenze permanenti invalidati sono stati i colleghi medici che hanno operato nelle strutture sanitarie che hanno operato sul territorio gli infermieri di persone infermieristico sui quali noi come sindacato abbiamo cercato di portare l'attenzione anche in Fronceo anche presso le altre leggi sindacali e anche ricordo anche presso il Ministro della Salute questa criticità che ricordo era già stata sollevata dallo stesso Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano che si poneva questo problema chiedendo che venisse attuata una certa indagine a conoscitire un approfondimento tutto ancora è fermo perché evidentemente manca un'informazione specifica su questa materia che dovrà che speriamo possa io sono qua presente anche per dare più un criterio dati in tipo informativo perché è un argomento molto importante che potrebbe compensare le aspetti disattivi appunto anche di molti colleghi che hanno avuto conseguenze nell'affrontare proprio perforzionalmente questa attività professore io la ringrazio molto ci sarebbero tante domande da farle visto che lei ci ha parlato della criteriologia valutativa e quindi tutto il tema delle morti per covid con il covid di covid che credo che sia appunto come dire parte come avviene questa valutazione no qual è il criterio con il quale avviene questa valutazione sì voglio dire però evidentemente bisogna arrivare a poter valutare dopo le conseguenze se però la denuncia si blocca e non passa per un presupposto puntuale iniziale c'è una prima criticità che io volevo segnalare evidentemente questo è importante per provare a conoscere questo aspetto evidentemente dopo le conseguenze della SARS-CoV-2 vanno valutate in ambito di contatto di polizia dove le coesistenze non vengono per il picco situazione essi vanno a considerare quelle che sono gli esiti dell'infezione sui vari organi apparati ne ha già parlato Patrizio Rossi dove l'aspetto valutativo è di tipo generalizzato l'ho fatto nelle categorie di valutazione a seconda del grado complessivo dei sitomi chiaramente nell'ambito di polizia contrattuale quello che viene valutato è solo la conseguenza diretta ed esclusiva ora qua passiamo nell'aspetto tecnico quindi tutte le comorbidità vengono escluse quali conseguenze dirette del covid parlando però parlando però la conseguenza importante che è principale che è la morte in caso della covid subentriamo in un aspetto applicativo che penso dopo raffrontato Gallenti che riguarda il rapporto tra l'evento morte rispetto all'infezione e l'interferenza di altre condizioni patologiche ora l'interferenza che definiremo come concausa deve avere però una efficienza causale significativa e autonoma cioè non deve essere solo a condizione di rischio di maggior danno deve trovare un presupposto valutativo medico legale o nel probatorio che aspetta la parte assicuratrice dell'aspetto organizzato per consentire di arrivare all'esclusione dell'indelizzabilità quindi sono aspetti tecnici complessi che varieranno da caso a caso e quindi avranno delle valutazioni che verranno affrontate di volta in volta per divenire a una possibile esclusione o assestamento del danno da indelizzare rispetto ai massimali previsti il contratto professore la ringrazio molto la ringrazio molto adesso devo passare la parola grazie al professor Enrico Pedoia che passerò la parola subito all'avvocato Galletti l'avvocato Antonino Galletti il presidente dell'Unione degli Avvocati di Roma lui a poco tempo mi dicono quindi gli do subito la parola lui ci parla dell'aspetto contrattuale dell'infortunio da covid il rischio assicurato e la volontà delle parti avvocato lei la parola e mi scusi per ovviamente grazie ci mancherebbe grazie a tutti anzi purtroppo avendo poi un appuntamento fra pochissimo in realtà l'ora era le 12 vi faccio recuperare un po' di tempo anche per gli interventi successivi il tema che mi era stato assegnato è quello dell'aspetto contrattuale dell'infortunio della covid il rischio assicurato dalla volontà delle parti da questo punto di vista mi permetto di dare dei consigli pratici soprattutto ai colleghi diciamo a coloro che ci ascoltano magari e che sono interessati pur non essendo tecnici alla tematica e ovviamente buona parte delle polizze che noi abbiamo stipulato che sono state prologate sono polizze che sono state scritte e disciplinate prima della comparsa di questo fenomeno del pandemico e quindi il primo consiglio da dare è quello di verificare effettivamente le condizioni di polizza chiedere il rinnovo della polizza o rinegoziare la polizza piuttosto che poi andare a litigare con l'assicuratore con l'assicurazione per verificare se il tipo di appunto di di malattia rientra o meno tra i casi assicurati e quindi da questo punto di vista il consiglio è per le polizze che sono a scadenza rinegoziarle prevedendo espressamente la copertura per questa garanzia per le polizze nuove invece coprire espressamente questo tipo di rischio questo poi mette al riparo da eventuali problemi successivi interpretativi circa la copertura o meno e ecco questo era il messaggio che mi sentivo ridare e poi ovviamente nell'ipotesi in cui invece sorge il problema legale interpretativo o per la poca chiarezza dell'assicurativa o perché appunto magari la polizza nel momento in cui è stata rastipolata non poteva certo prevedere questa fattispecie in quel caso è opportuno seguire il consiglio sia dei medici legali sia degli avvocati che possono essere d'ausilio prima per la verifica e la quantificazione del danno e poi il caso dell'avvocato per l'interpretazione delle condizioni di polizza ecco vi ringrazio purtroppo vi devo lasciare auguro buon lavoro e complimenti davvero perché questo è diventato ormai un appuntamento annuale di massima qualità di qualificazione da parte dei relatori quindi mi fa piacere comunque sia pure per poco tempo essere stato presente grazie a tutti grazie avvocato e ovviamente questi sono complimenti che vanno girati all'avvocato alexandre e all'associazione nazionale garante giustizia e sanità e che sono loro i veri artefici e gli organizzatori di questo piccolo miracolo che dico che è questo convegno nazionale quindi ringraziamo l'avvocato Antonio Galletti che è presente dell'ordine degli avvocati di Roma e do la parola all'avvocato Franco Cassano presidente del collegio dei propri viri dell'associazione appunto dell'associazione nazionale garante giustizia e sanità ci parlerà dei cenni ci darà cenni sulla responsabilità extracontrattuale nel caso di contagio da covid non la sentiamo dovrebbe accendere il microfono il microfono è è muted avvocato non so se dalla regia possono aprire il microfono eccoci buongiorno mi sentite adesso benissimo grazie bene buongiorno a tutti particolare ringraziamento all'avvocato Axanzer che mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo importante convegno io in maniera spero molto sintetica mi occuperò di verificare dieci minuti avvocato anche meno di verificare la sussistenza delle condizioni e presupposti per un'eventuale responsabilità civile derivanti da contagio da covid se volessimo usare una terminologia diversa e più semplificativa potremmo parlare della responsabilità civile dell'untore le domande a cui dovrò rispondere sostanzialmente sono tre è configurabile una responsabilità da fatti illecito derivanti da contagio se sì quali sono le condizioni e i presupposti e per ultimo qual è il danno risarcibile in caso di accertamento della sussistenza della responsabilità civile in astratto la risposta alla prima domanda è semplice e senza altro affermativa e questo quantomeno per due ordini di ragioni in primo luogo perché il danno da contagio è ormai patrimonio acquisito al nostro ordinamento giuridico basti pensare ai contagi derivanti dalle emotrasfusioni l'epatita C il virus HIV oppure lo stesso virus HIV trasmesso per altri per altri in ambito di altre circostanze quindi questo sono ormai la giurisprudenza sul punto ormai pacifica non ci sono problemi di nessun tipo per riconoscerlo altro elemento favorevole ad un'esposta affermativa è la tipicità degli illeciti di carattere aquiliano nell'ambito della responsabilità civile da fatti illecito qualsiasi evento lesivo dei diritti altrui può essere fonte di responsabilità a condizione ovviamente che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 2043 che è la norma cardine a cui farà riferimento in materia di responsabilità civile in concreto i problemi però in questo caso sono molteplici in particolare teniamo presente che la pandemia come hanno osservato tutti i relatori che mi hanno preceduti è un evento sicuramente straordinario e imprevedibile e sappiamo che un evento eccezionale ha un enorme importanza ha un enorme riflesso sul nesso di causalità fino a interromperlo ci torneremo verifichiamo adesso velocemente gli elementi soggettivi che caratterizzano la responsabilità civile ovviamente parametrandoli al caso specifico sappiamo tutti che due sono gli elementi soggettivi che influiscono sulla condotta illecita il dolo è la colpa il dolo è l'adesione volontaria dell'agente al fatto illecito io faccio un tampone so che sono positivo deliberatamente voglio infettare il mio collega perché sono invidioso di lui quindi lo vado a trovare e faccio di tutto per infettarlo è chiaro che in questo caso siamo in una situazione di dolo e quindi la responsabilità è conclamata la colpa è delineata dall'articolo 43 del codice penale quindi si tratta di comportamenti imprudenti negligenti imperiti oppure violazione di norme o di regolamenti in questo caso si può fare l'esempio chiaramente dopo il marzo del 2020 della violazione del regime di quarantena sono in quarantena devo stare a casa vado in giro e infetto le persone oppure il mancato utilizzo di dispositivi di protezione personale mi reco ad un concreto ad una riunione mi tolgo la mascherina o non la porto oppure la trasgressione delle regole di distanziamento sociale al supermercato devo stare a distanza di un metro oppure anche per strada e invece vado a contatto con altri clienti con altre persone attenzione tornando al discorso della eccezionalità dell'evento bisognerebbe distinguere secondo me anche i periodi storici è chiaro che nella prima fase c'è quantomeno da dicembre del 2019 fino a febbraio del 2020 la pandemia era stata sottovalutata o comunque non considerata come un fattore pericoloso e quindi in questo periodo secondo me molto molto difficilmente è possibile parlare anche in casi di comportamenti che potrebbero essere in astratti imprudenti o negligenti di responsabilità perché mancava proprio la consapevolezza della questione un conto è chi è infetto da HIV che conosce bene la problematica un conto è qui in quel periodo in cui tanti magari dicevano rischio zero andava in giro magari contagiato o sintomatico causando magari altre infezioni per fare un esempio sintetico il famoso paziente 1 contagiato 1 sicuramente si è andato a cena con altre persone e le ha infettate quelle persone non potranno secondo me chiedergli nulla perché era un momento in cui la questione era molto molto marginale e sicuramente non era non c'era la piena consapevolezza della sua gravità questo diciamo in astratto in concreto poi la questione secondo me è molto complicata in particolare perché si pone il problema della prova del nesso di causalità io non devo solo dimostrare il comportamento colposo doloso devo anche dimostrare che quel comportamento colposo colposo è stata l'unica causa o comunque la conseguenza diretta dell'azione che ha causato poi il danno quindi il mio comportamento deve essere stata la causa diretta che ha causato il danno che poi io ho subito è questo valutato alla luce del criterio del più probabile che non che ormai la corte di cassazione pacificamente riconosce in concreto in questi casi non è così semplice la questione faccio un esempio allora io magari ricevo in studio un cliente che doveva stare in quarantena non lo so ricevo questo cliente per un'ora mi dà dei documenti che io tocco maneggio la sera vado a casa ho dei sintomi influenziali la mattina faccio il tampone positivo in questo caso sicuramente posso dire che c'è stato un contagio colposo causato da questa violazione di norme prudenziali se non proprio norme di legge da questo paziente ma se invece questo stesso paziente la sera non ho nessun problema e il problema il mio contagio viene accertato dopo una settimana e dieci giorni posso dire che è responsabilità di quel cliente cosa ho fatto io in questi dieci giorni il problema si pone quindi sia da un punto di vista causale quindi naturale cioè io dovrei dimostrare in questi dieci giorni che non ho avuto nessun altro contatto sia eventualmente anche dal punto di vista medico legale è possibile che il contagio si manifesti dopo dieci giorni e quindi quel problema diventa medico legale oltre che fattuale perché io in questi dieci giorni posso aver contattato altri clienti in queste condizioni posso essere andato in giro senza mascherina posso aver fatto qualsiasi altra cosa e quindi non necessariamente posso imputare la responsabilità a quella persona altro problema che si pone e di non semplice soluzione è quello delle concause si diceva agli inizi che il problema riguarda gli ultrottantenni affetti da patologie poi magari abbiamo visto che può riguardare tutti comunque in questo caso poniamo l'esempio di un soggetto appunto che ha altre patologie e che viene contagiato da covid allora io devo dimostrare che il contagio da covid è stata la causa più probabile che ha condotto all'evento lesione della mia salute o addirittura e questo lo farebbero gli eredi al mio decesso ok e quindi questo già è un problema non da poco e diventa di carattere medico legale dovrà essere medico legale a dire sì tu avevi problemi cardiocircolatori avevi un diabete avevi altre patologie hai preso il covid hai avuto una grave compromissione della tua salute di tutte queste cause qual è quella che l'ha determinata il covid non lo so dovrà dirlo eventualmente in questo caso il medico legale altro problema se è stato il covid e io per fortuna non sono deceduto ma ho avuto un aggravamento qual è il mio danno in questo caso dovrà essere accertato qual è l'aggravamento causato dal covid e anche questo dovrà essere quantificato in sede di accertamento medico legale quindi come vedete le problematiche dal punto di vista pratico non sono semplici il mio consiglio è quello di descrivere la condotta il fatto illecito in maniera molto particolareggiata secondo me se si dice io sono andato al supermercato mi ha sfiorato con il carrello il vicino di casa che sapevo che era da stare in quarantena e poi mi sono ammalato e diventa complicato poi chiedere l'accertamento del danno e il risarcimento più particolarizzata è la condotta eventualmente anche utilizzando le presunzioni e cioè indizi precisi gravi e concordanti più c'è la possibilità che quantomeno l'AN possa essere accertata quindi ho visto anche un recente provvedimento del tribunale di Torino che ha ritenuto inammissibile la richiesta di un 669 bis proprio perché diceva tra l'altro la condotta è stata descritta in maniera molto generica quindi attenzione secondo me molta attenzione sul precisare in maniera analitica la condotta che si ritiene sia stata illecita dopodiché importantissimo anche anzi fondamentale il contributo medico legale proprio per determinare accertata la condotta illecita la sussistenza del nesso di causale infine il danno sul danno si possono fare delle considerazioni alcune abbastanza ovvie alcune un po' particolari forse anche curiose allora sappiamo che il danno in caso di lesione grave alla salute viene risarcito secondo quelli che sono i normali criteri danno patrimoniale quindi lucro cessante danno emergente danno non patrimoniale il problema si pone per chi ha subito il contagio ma è rimasto asintomatico non ho avuto nessun danno alla mia salute in teoria potrei non dover chiedere nulla se no eventualmente i dieci giorni a livello di risarcimento della temporanea forse probabilmente neanche perché non avevo nessuna conseguenza però ci potrebbe essere una fattispecie particolare di danno che si potrebbe configurare io in quei dieci giorni in cui sono rimasto in quarantena dovevo fare un concorso non l'ho potuto fare perché dovevo restare a casa e quindi ci spostiamo nell'ambito della scienza io ho perduto una scienza non ho subito un danno alla mia salute ma ho subito un danno da perdita della scienza e quindi si apre una problematica parallela e diversa altra questione il danno indiretto e cioè il danno delle vittime secondarie un soggetto ha subito un danno perché ha contratto il virus in casa di riposo al lavoro e deceduto i parenti i prossimi congiunti hanno subito un danno dall'esterno del rapporto parentale possono chiederlo siamo in ambito della responsabilità civile sicuramente siamo in ambito della responsabilità civile perché loro questi soggetti andrebbero a chiedere un danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale con il congiunto e quindi siamo in pieno ambito di responsabilità civile anzi aggiungerei che in questo caso se è stata già accertata la responsabilità del datore di lavoro o della casa di riposo è molto meno problematico poi l'accertamento del danno in questo caso perché partiamo già da un accertamento di una responsabilità contrattuale e quindi in questo caso avrei molto meno problemi come vittima secondaria rispetto a chi invece è la vittima principale e deve dimostrare il danno da responsabilità civile concludo dicendo sì senza altro è configurabile un danno da responsabilità civile molta attenzione nella descrizione della condotta colposa o dolosa tantissima attenzione soprattutto sul problema del nesso causale e delle concause vi ringrazio grazie grazie a lei avvocato casano presidente del collegio dei probiviri dell'associazione nazionale garante giustizia e sanità do la parola subito all'avvocato Barbara Masserelli segretaria nazionale dell'unione nazionale delle camere civili che ci parlerà appunto del covid e del processo civile avvocato Masserelli da lei la parola sempre sempre dieci minuti per cortesia grazie non so se mi vedete ecco così meglio buongiorno buongiorno a tutti sarò veramente telegrafica e conto di impiegare anche meno dei dieci minuti a me assegnati anzi metto un timer così siamo a posto ringrazio tutti gli organizzatori ringrazio in particolar modo l'avvocato Alexander che ha pensato all'unione nazionale delle camere civili per questo evento porto i saluti del presidente e avvocato Antonio De Notari Stefani della giunta tutta mi è stato assegnato il tema del covid del processo civile e direi sin da subito che siamo di fronte a una contraddizione in termini perché di fatto il covid ha paralizzato il processo civile in quanto durante il lockdown sappiamo tutti che vi è stato un completo blocco non si sono celebrate le udienze non si sono depositati gli atti tutti i termini erano sospesi e tutto è stato rinviato ora la ripresa che doveva partire da maggio in realtà si è partita ma insomma con grande lentezza le udienze non si tengono ancora in presenza per la maggior parte sono con trattazione scritta o in videoconferenza i ritardi accumulati a causa di questi rinvi non sono stati recuperati e devo dire che le inefficienze dove già c'erano sono addirittura aumentate quindi direi passiamo oltre a quello che è il covid e il momento topico del processo e pensiamo al futuro perché quantomeno il covid ha portato una speranza cioè le risorse che l'Europa mette in campo in favore di progetti di innovazione e di ripresa fatto sta che il presidente Draghi nel piano nazionale di ripresa e resilienza ha inserito tra le riforme quelle della giustizia aspettiamo questi danari come se fossero la mano dal cielo l'obiettivo dichiarato è quello di ridurre del 40% la durata del processo civile tra le come dire tra gli investimenti proposti ce ne sono molti che sono stati sin da subito condivisi dall'Unione nazionale come per esempio l'implementazione dei sistemi informatici importantissimo perché come ho detto prima i processi sono ormai svolti per trattazione scritta e per videoconferenza e aggiungo il processo civile quasi integralmente telematico l'efficientamento delle strutture è essenziale perché purtroppo l'edilizia giudiziaria sappiamo bene che da tutte le parti non ci sono delle strutture a norma e con l'incremento della tecnologia è bene che i sistemi siano efficienti fondamentale è anche la formazione del personale per l'utilizzo delle nuove tecnologie e anche trovo molto interessante la formazione dei dirigenti alle quali andranno insegnate anche delle logiche manageriali per la corretta gestione della struttura fin qui tutto d'accordo già l'anno scorso peraltro l'Unione Nazionale aveva in un piano straordinario per la giustizia civile era presente il progetto 1662 che adesso è in fase di avvio definitivo aveva sottoposto al Ministro della Giustizia all'epoca l'Onorevole Bonafede questo piano straordinario che suggeriva degli interventi fondamentali per quanto riguarda l'organizzazione della giustizia alcuni di questi interventi sono stati anche inseriti nella proposta in particolare quello dell'introduzione dell'ufficio del processo sul modello inglese cioè degli assistenti di studio che aiutino i giudici civili nella elaborazione delle ricerche avevamo suggerito la ripresa delle fangerate sezioni strage ma avevamo anche ritenuto essenziale una revisione dei criteri di valutazione dei magistrati basando inserendo tra questi criteri anche l'incentivazione dei magistrati che decidessero più cause o che facessero conciliare più cause grazie al loro ausilio essenziale poi è la copertura dell'organico perché ci sono degli disfici che non hanno neanche abbastanza personale per gestire gli adempimenti operativi che non hanno neanche giudici sufficienti faccio l'esempio del mio tribunale anche perché è andato recentemente su telegiornali il testesto tribunale in Italia per bacino di utenza e numero di cause ha una scopertura del 50% del personale e quanto giudici li ha pari al ventinesimo tribunale in Italia è evidente quindi che nessun processo potrà essere veloce se non si mette la benzina alla macchina operativa la nota dolente invece della proposta contenuta nel PNRR è il fatto che si continui a ritenere necessario per l'accelerazione dei processi la modifica del codice diritto ecco su questo aspetto gli avvocati civilisti non sono assolutamente d'accordo ma non per un partito preso che non vogliamo le modifiche siamo ancorati al passato ma perché partiamo da dei dati oggettivi il primo dato è che non è vero che bisogna arrestare il trend di crescita della domanda di giustizia perché se andiamo a leggere le relazioni all'inaugurazione dell'anno giudiziario vediamo che i processi hanno un trend in netto calo del 18% e questo trend si ripropone anche negli ultimi anni andando a sommare i dati degli ultimi quattro anni vediamo che una riduzione si assesta attorno al 18% solo nell'ultimo anno e quindi sommandoli tutti arriviamo attorno al 40% vi è quindi un allontanamento dei cittadini dalle aule dei tribunali peraltro ho notato invece dalla lettura della relazione del presidente della corpia d'appello di Milano come a Milano le uniche iscrizioni a ruolo incrementate sono quelle della volontaria giurisdizione ed in particolar modo sulle domande di amministratori di sostegno il che non è affatto una litigiosità del cittadino ma una necessità di assistenza per una disabilità o un aumento dell'età anagrafica il problema quindi da gestire non è tanto i processi in arrivo che sono come detto diminuiti ma l'enormità degli arretrati arretrati che peraltro purtroppo non sono diminuiti neanche nel corso della pandemia quando vi era la possibilità di operare in smart working perché la magistratura ha in possesso dello strumento informatizzato ma nonostante non vi siano state né udienze né cause nuove né accessi in cancelleria da parte di avvocati utenti l'arretratto non è diminuito anzi se andiamo a leggere la pagina 22 della relazione del primo presidente rileviamo anche che l'arretratto è addirittura aumentato secondo punto per ridurre la durata dei processi non serve intervenire sul rito e anche qui parto dagli dati ufficiali del ministero di giustizia aggiornati a 2019 in Italia vi sono ben 38 tribunali su 140 che già ora definiscono le cause in tre anni e tre anni è la durata fissata dal time frame come durata equa di un processo allora è evidente che se tutti i tribunali applicano lo stesso rito ma ci sono delle percentuali di durata dei processi così distanti il problema non è il rito ma è l'organizzazione degli uffici quindi se miglioriamo l'organizzazione degli uffici quindi struttura sistemi tecnologici la gestione la copertura della pianta organica visto anche il trend in diminuzione del numero dei processi andremo ad ottenere sicuramente una riduzione degli arretrati e la velocizzazione del processo tutto questo senza cambiare il codice di diritto anche applicando peraltro il codice attuale se lo applicassimo realmente vedremmo che il processo rispetto ai 500 giorni che vengono indicati come durata media dei processi potrebbe ridursi notevolmente perché noi sappiamo che con la notifica dell'atto di citazione l'udienza si aggira attorno ai 100 giorni dopo quindi se una causa documentale può essere decisa allo stato degli atti ben potrebbe essere decisa al centesimo giorno quindi un quinto rispetto alla durata media e se invece dovessimo fare l'istruttoria dovessimo fare l'istruttoria arriveremmo a massimo 200 ci ho detto e vado a concludere la proposta di riforma quindi la proposta di riforma del processo non trova l'approvazione dell'avvocatura perché intanto perché è di comune esperienza che una riforma introduce delle lentezze perché una riforma per entrare al regime richiede qualche tempo e porta inevitabili contrasti interpretativi i contrasti interpretativi portano nuovi processi che si sommano ai processi sul merito quindi avremo un incremento delle cause sul rito che andranno a decidere come i processi devono essere fatti e si aggiungono questi al processo su chi ha torto e chi ha ragione l'ultimo problema è che la proposta di riforma prevede una strategia del terrore introducendo delle vere e proprie tagliole delle preclusioni con l'idea che se le prove vengono messe subito nel primo atto i processi siano più veloci non è vero la prova approvata è il fatto che in corte d'appello dove non vengono introdotte nuove prove salve eccezioni le cause non si concludono in prima udienza poi ci sono altre criticità e non voglio entrare nel merito di questo però fondamentale è che una riforma se tale deve essere mai deve andare ad incidere sui diritti dei cittadini a un ecoprocesso grazie mille grazie a lei avvocato ringraziamo l'avvocato Barbara Massarelli segretario nazionale dell'Unione nazionale delle Camere civili e do subito la parola al professor Giorgio Spaggiari fisico e medico docente universitario ricercatore del CNR il suo intervento la volta scorsa ha avuto un grandissimo successo un grande seguito e quindi siamo ansiosi di ascoltarlo ci parlerà degli insegnamenti socio-politici del Covid ma conoscendolo come dire ci darà molte altre informazioni anche in termini più generali grazie professore a lei la parola grazie grazie molte grazie a lei intanto un ringraziamento particolare all'avvocato Alexandre e soprattutto devo dire visto che io sono anche iscritto all'Ordine dei giornalisti della Lombardia un ringraziamento al mio presidente perché l'intervento che ha fatto lui molto coraggioso no mi ha rubato tutto quello che dovevo dire io perché lui ha fatto veramente un intervento degno di nota io sono orgoglioso di esserci allora ha fatto anche un riferimento alla peste io partirò di lì non è che voglio fare la storia del 1400 ma parto di lì per dire che lui intelligentemente ha ripreso alcuni concetti in cui sostanzialmente i medici giocavano un ruolo nella pandemia attuale che io definisco anche pseudo pandemia permettetemi il termine le cose non si sono verificate come nel 1400 i medici sostanzialmente sono stati così come c'era la disposizione in attesa degli eventi ma quando mai i medici devono essere in attesa degli eventi se in effetti un ammalato come abbiamo fatto tutti noi ha bisogno e si va a visitare perché il virus si questo si chiama coronavirus 19 ma prima di questo c'erano degli altri e non è che noi abbiamo detto no non vi visitiamo perché avete un attacco virale no le abbiamo sempre visitati e come le abbiamo visitati e lei intelligentemente caro coordinatore ha fatto la domanda alla mia collega di Genova che non ha risposto tanto bene non era tanto in sintonia perché noi medici dobbiamo recuperare il senso della medicina del valore della medicina dobbiamo visitare ritornare a visitare e se uno ha la febbre non è che attendiamo attendiamo sette giorni per vedere come volva o dai la tachipirina ma quale tachipirina la tachipirina potrei anche darla sì ma sarà una scelta del medico secondo scienza e coscienza questo ci hanno insegnato e poi devo dire una cosa quanti casi abbiamo risolto dal 1400 chi sa quanti medici hanno risolto casi facendo la professione del medico qui ci hanno impedito di farla alcuni di noi però l'hanno fatta e guarda caso hanno ottenuto i risultati e questi risultati sono stati ottenuti curando la gente poi un'altra cosa adesso è uno sfogo io avrei dovuto fare un intervento di un'ora ma capisco che non è possibile allora mi sono domandato ma noi che siamo definiti uomini di scienza io arrivo dal Consiglio Nazionale delle Ricerche quindi l'ente prestigioso ma la scienza è uno strumento che ha permesso a quelli che ci governano hanno permesso di attuare delle disposizioni ci hanno dato delle disposizioni hanno vincolato la libertà nostra ma è il giudizio di chi era dei governanti o degli uomini di scienza che hanno pilotato sembra quasi io non sono né un avvocato né un magistrato il potere della scienza di questi uomini di scienza poi vorrei vedere come vengono definiti gli uomini di scienza beh abbiamo delegato agli uomini di scienza tutto quello che in effetti guarda caso doveva essere direi come scelta degli uomini politici del Parlamento e tutto qua e allora mi viene un dubbio mi viene un dubbio e qui continuano a chiamarmi perché sto facendo il medico vi parlo dal mio studio medico quindi sono persone che stanno poco bene allora perché delegare tutta questa delega che noi facciamo e che continuiamo a fare e che continuiamo a scegliere uomini che sono del cts del dell'ema eccetera eccetera tutti questi enti formati da scienziati ma gli scienziati come vengono vengono scelti saranno forse anche orientati punto di domanda c'è sotto questa pandemia che sembrava essere una pandemia di quelle insomma virali certo non conoscevamo ragione la collega di genere non conoscevamo bene ma adesso lo conosciamo abbiamo attaccato personaggi Nobel Nobel della medicina e abbiamo detto eh ma Nobel della medicina Montagné è uno è uno ormai troppo datato forse è un po' arteriosclerotico quale arteriosclerotico aveva visto tutto e aveva detto che questo virus è stato prodotto in un laboratorio adesso saltano fuori le carte riusciamo a vedere un po' tutto abbiamo una conoscenza più profonda la ragione la collega di genere più profonda ma a questo punto mi domando e ritorno al tema ma la scienza che impone la vaccinazione poi si dice no non è un'imposizione ma per noi medici diventa un'imposizione ma con che criterio è fatta perché perché c'è sotto qualcosa che non quadra eh sappiamo quali sono gli effetti indesiderati sappiamo tutto quello che i giornalisti che gli enti le televisioni non hanno detto falsificando anche i risultati ma basta andare negli enti internazionali dall'organizzazione mondiale la sanità agli altri enti internazionali per avere i dati veri e i dati veri non dicono quello che noi conosciamo ma però le televisioni continuano a dire i salotti a cui diceva il mio presidente ha ragione i salotti e ognuno aveva la facoltà di parlare di dire ormai siamo diventati tutti scienziati ma quale scienziato ma quale scienziato e poi ho detto il potere della scienza è quella della decisione deleghiamo adesso arriveranno un sacco di quattrini ci saranno gruppi di regia e i gruppi di regia sono come quelli della scienza e decideranno loro e quindi imporranno loro le scelte di chi ci governa ma è giusto questo deleghiamo questo ma allora a questo punto mi domanda lei che ha fatto il parlamentare caro coordinatore ma è giusto questo è corretto questo e poi devo dire una cosa come lei ha detto io sono anche un laureato in fisica e devo dire che nessuno sta trattando l'aspetto fisico nessuno siamo tutti orientati verso l'aspetto chimico biochimico per carità sacrosanto quando parlano i virologi quando parlano gli infettivologi sempre solo l'aspetto biochimico sempre solo ma che cosa è successo nelle ultime avvenimenti hanno fatto vedere delle fotografie rimane la moneta attaccata laddove io ti pungo ti inietto e questo cosa vi fa capire ma che cosa vi fa capire che ci devono essere delle proteine lì dentro che hanno delle proprietà magnetiche perché sennò questa roba qui non può rimanere attaccata quindi questo è un aspetto fisico ma allora vuol dire che lì dentro noi attraverso queste proteine magnetiche pseudomagnetiche possiamo controllare gli individui avremo avremo forse veramente raggiungeremo quello che è l'obiettivo la vaccinazione di massa l'immunità ma quale poi immunità parliamo sempre chiaro alla gente ma l'immunità quale perché se uno fa la vaccinazione gli garantiamo l'immunità no non gliela garantiamo anzi lui potrebbe essere un veicolo può prendersi la malattia poi uno dice eh beh ma però in forma magari un pochettino più lieve sì ma non è l'immunità ma noi ci hanno fatto un testone sull'immunità raggiungiamo l'immunità di gregge quante parole sono state dette l'immunità di gregge cosa vuol dire l'immunità di gregge hanno scelto proprio bene vuol dire che il gregge è formato dalle pecore ma gli uomini non sono pecore non possono essere intruppati in un gregge e questo mi ha la sensazione che ci sia l'interesse di metterci tutti su un pensiero unico su una strada unica e a che pro perché qual è l'interesse sì abbiamo visto l'economia è crollata è stata un'azione indiretta la piccola media industria è completamente quasi sparita ad appannaggio di chi di chi delle grosse industrie e ma allora questo poteva essere anche un disegno un disegno non è che voglio fare fantascienza ma tutte queste cose che si stanno verificando il fatto che le televisioni parlano in un certo modo tutti con un denominatore comune i giornalisti i medici e se qualche modino ha il coraggio di dire ma ragioniamo perché ciascuno di noi arriva avendo fatto un giuramento primo non nuocere il giuramento diceva e allora valutiamo valutiamo e poi ritornando ho detto alla fisica c'è stato un collega a cui lei ha dato la parola meglio ha fatto la domanda ma forse ha ragione quando io cerco di immunizzare un gruppo di batteri virus microrganismi oh ma io l'immunizzo davvero ma può darsi anche che ci siano dei microrganismi dei virus che a questo punto se ne fregano del vaccino di quel vaccino e quindi selezioniamo la mia collega di Genova non ha risposto in maniera corretta selezioniamo ceppi che sono molto più importanti molto più virulenti è quello che si sta verificando in Inghilterra è quello che si dice che si sta verificando in India e allora vede caro coordinatore io sono felice di aver partecipato a questo convegno perché mi avete direi allargato mi avete dato la possibilità di capire di vedere l'atteggiamento di voi avvocati di voi magistrati di noi medici pochi della verità se non di medicina legale perché perché io il sospetto il sospetto è che qualcuno voglia vincolare la libertà del popolo che è garantita dalla Costituzione l'avete ricordato l'ha ricordato lei parlamentare l'ha ricordato lei allora voglio concludere io penso che sia necessario recuperare l'orgoglio della professione medica professor Spaggiari io la ringrazio moltissimo veramente come al soldo il suo intervento è illuminante e quindi la ringrazio veramente di cuore per il suo intervento io ho il dovere di porgere le mie scuse al dovere ma anche è un obbligo ma anche come dire lo faccio sentitamente quella di porgere le mie scuse al al professor Pedoia che stava concludendo probabilmente il suo intervento quando io ho chiesto che accelerasse l'avvocato Galletti aveva un altro impegno quindi doveva necessariamente intervenire entro le 12 voglio scusarmi con lui per giunta io condivido molto di quelle che erano le critiche che lui stava facendo alle compagnie assicurative quindi anche dal punto di vista dei contenuti sono con lui ripeto oltre a portergli le scuse mie e quella ovviamente dell'organizzazione del convegno se lui volesse restare con noi fino alla fine e aggiungere qualcosa successivamente nel corso nel finale di questa della parte finale di questo di questo congresso noi ne saremo ben felici in modo che lui possa spiegare meglio questo aspetto legato alle compagnie assicurative aspetto sul quale lo ripeto per quanto il moderatore deve essere sempre equilibrato ed equidistante io sono personalmente totalmente d'accordo do la parola al professor adesso al professor Eugenio Capozzi che credo andrà in linea con quanto detto dal professor Giorgio Spaggiari nel suo intervento quindi in qualche modo il professor Spaggiari ha fatto come un assist al professor Capozzi il professor Capozzi è un professore ordinario di storia contemporanea all'università degli studi di Napoli del suo orsolo ben in casa e ci parlerà di emergenza pandemica diritti civili e democrazia quindi in linea con quanto diceva a poc'anzi il professor Pier Giorgio Spaggiari che di nuovo ringrazio grazie presidente io tratto di un tema che non è da un punto di vista teorico e giuridico completo se non se ne dà anche una valutazione storico-politica in questo caso una storia della democrazia italiana la democrazia italiana in epoca repubblicana è sempre stata sottoposta a delle pressioni e spesso è stata sottoposta a delle pressioni di tipo emergenzialistico per varie ragioni e quelle principali sono quelle legate al terrorismo i decreti antiterrorismo del 1980 del allora governo Costiga sono stati quelli più incisivi in questo senso con delle limitazioni significative per quanto riguarda i diritti della difesa riguardo a quei reati e anche questo tipo di impostazione è stata usata successivamente per reati di tipo inerenti alle associazioni a delinquere di tipo mafioso camorristico e poi sulla corruzione quindi non è che non è che siano mancate in passato delle pressioni emergenzialistiche che hanno limitato i diritti civili sanciti dalla Costituzione ma posso dire in base alle osservazioni che abbiamo fatto in molti in questo periodo a partire dal 31 gennaio 2020 con la la normazione che è stata adottata dai due governi Conte II e poi Draghi riguardo all'emergenza pandemica si è creato uno strappo rispetto alla normalità dei diritti costituzionali che non si era mai assolutamente verificato nella storia italiana innanzitutto brevemente lo stato di emergenza che non è previsto nelle forme in cui è stato proclamato dal decreto del 31 gennaio 2020 non è assolutamente previsto dalla nostra Costituzione che come sappiamo prevede all'articolo 78 la possibilità di dichiarare lo stato di guerra da parte delle Camere Unite ma prevede soltanto all'articolo 16 la possibilità di limitare in qualche modo la libertà di circolazione dei cittadini sul territorio nazionale per motivi sanitari ma sappiamo benissimo che quel decreto introduce uno stato di emergenza generico sull'emergenza sanitaria che è soprattutto una delega praticamente totale al governo ad operare quel decreto è una sorta di scatola vuota che viene poi riempito con dei provvedimenti che sono i DPCM i DPCM sono provvedimenti che non sono classificabili naturalmente come leggi sono degli atti amministrativi sono degli atti che dovrebbero essere esplicativi di provvedimenti legislativi dovrebbero chiarire dei punti che sono generici e controversi ma qui eravamo invece in una situazione in cui il decreto legge generale già incongruo perché stato di emergenza appunto non esiste dal punto di vista costituzionale per motivi sanitari quel decreto era completamente una scatola vuota e i DPCM hanno fatto praticamente le veci delle leggi essendo dei provvedimenti emanati esclusivamente dal presidente del consiglio quindi non sono neanche responsabilità dell'intero governo ma del solo presidente del consiglio quindi scavalcano il Parlamento e scavalcano anche il governo per giunta sono provvedimenti con durata limitata una durata che impedisce in pratica come ben sanno quelli che hanno fatto ricorsi in sede amministrativa per alcuni aspetti di questi provvedimenti impedisce ricorsi o meglio li rende inefficaci perché quando un ricorso viene poi eventualmente approvato il provvedimento già scaduto è stato sostituito da un altro sul quale bisognerebbe emanare un nuovo ricorso e quindi questo comporta un'assoluta incertezza della legge e della normazione dei diritti ma questo sarebbe niente se non fosse che questi atti vanno a toccare i diritti civili fondamentali della Costituzione non solo il 16 la libertà di circolazione non solo la libertà di culto non solo la libertà di impresa ma in primo luogo la libertà personale quella che è oggetto dell'articolo 13 la libertà personale che viene definita inviolabile e che può essere limitata soltanto da dei provvedimenti giudiziari quindi qui siamo assolutamente fuori da ogni possibile conciliazione con la logica della Costituzione e con i diritti civili quel che è peggio è che questo tipo di di violazione patente cioè quando col decreto famoso col DPCM dell'8 marzo che poi viene esteso il 9 marzo a tutto il territorio nazionale l'8 marzo riguardava soltanto le zone della Lombardia delle Mille e del Veneto si dice che si impedisce la circolazione da e per i territori lì siamo ancora nel regno dell'articolo 16 quando si dice anche all'interno di quei territori cioè appunto praticamente gli arresti domiciliari decretati per tutta la popolazione la impossibilità di uscire di casa se non attraverso se non grazie ad un'autocertificazione e per motivi ben specifici questa è una violazione ingiustificabile dell'articolo 13 che in nessun caso neanche nel caso di una pandemia di una peste di una pandemia orolittica può essere giustificata tutt'al più si può giustificare la quarantena per gli ammalati in certi casi tutt'al più si può giustificare la chiusura di certi territori ma non si può assolutamente mai giustificare la violazione della libertà personale e non entro nei questioni della libertà di culto della libertà di impresa perché non la finiremo più però naturalmente da questa violazione derivano poi la inconsistenza e la insostenibilità di tutte le altre il peggio è che questo tipo di violazione è stata giustificata con una interpretazione a mio avviso e avviso di molti che sono molto più titolati di me perché sono giuristi una violazione da una interpretazione assolutamente ingiustificata dell'articolo 32 della Costituzione cioè quello sul diritto alla salute che è stata fatta propria dal Presidente Conte a suo tempo e anche da alcuni giuristi che insomma sono andati a come dire a ventilare il fuoco del caminetto del del governo è un'interpretazione che dice che essendo il diritto alla salute considerato fondamentale per l'individuo e per la collettività questo fa sì che il diritto alla salute è preordinato rispetto a tutti gli altri diritti costituzionali e quindi per salvaguardare la salute qualsiasi governo è automaticamente abilitato a fare qualsiasi cosa perché c'è una gerarchia precisa prevalente del diritto del diritto prevalente esattamente cosa che non sta né in cielo né in terra non c'è una gerarchia precisa dei diritti costituzionali ma è evidente che i diritti contenuti nell'articolo 1 2 e 3 sovranità popolare diritti naturali diritti fondamentali dell'uomo e uguaglianza di fronte alla legge sono evidentemente un fondamento molto più solido di quello che è il diritto alla salute inteso poi in questo modo come un patrimonio collettivo cioè per garantire la salute noi possiamo limitare indefinitamente la libertà dei signori detto questo su questa base poi è stato costruito un edificio di emergenzialismo a tempo indeterminato che è ancora peggio anche giuristi penso a Gaetano Azzariti che avevano giustificato la logica dell'emergenza e dei DPCM avevano preavvertito già nell'aprile del 2020 guardate che si può anche giustificare perché la situazione è eccezionale poi bisogna di chiare in che senso un virus parainfluenzale che ha la mortalità dello 0,4% è eccezionale certo si può dire nell'aprile del 2020 eravamo obnubilati completamente dal panico non sapevamo l'entità del pericolo e quindi si poteva giustificare ma appunto diceva Azzariti questa limitazione questa eccezionalità non può essere assolutamente a tempo indeterminato men che meno permanente deve essere per un tempo limitatissimo e ben chiarito nella sua limitatizia teoricamente lo stato di emergenza doveva essere limitato e come sappiamo è stato prolungato a tempo indeterminato e qualcuno vorrebbe ancora prolungarlo ahimè successivamente e qui entrano tutta una serie di considerazioni sulla vischiosità della vita politica amministrativa italiana sull'invadenza dello Stato e sul fatto che l'emergenza che diventa normalità è molto comoda da un punto di vista della macchina statale perché esime da tutta una serie di limiti di controlli e quindi una volta che si presenta un'emergenza si tende a perpetuarla indefinitamente e infine poi c'è la questione e qui chiudo dell'obbligo vaccinale è stata adottata hanno parlato molto meglio prima di me e altri quindi non è inutile che mi soffermo su questo una impostazione siamo di fronte a una malattia eccezionale talmente eccezionale che l'unica via per superarla e totale è la vaccinazione quindi la sottovalutazione delle terapie è tutto quello che sappiamo e in questo ambito c'è una pressione per la vaccinazione diciamo così di massa che non è soltanto italiana come sappiamo ma solo l'Italia ha adottato un provvedimento come quello previsto nel decreto del primo aprile 2020 poi trasformato in legge a maggio convertito in legge che è quello dell'obbligo sanitario dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario è l'unico paese in Europa che ha fatto una cosa del genere quindi questo pone un caso italiano di anomalia italiana perché con tutta la pressione sociale e mediatica e politica per la vaccinazione di massa non si è verificato da nessuna parte un provvedimento del genere che pone un obbligo di vaccinazione per personale sanitario di fronte a vaccini che sono ancora in fase sperimentale dei quali si dice chiaramente che non garantiscono appunto l'immunità che può essere parziale non garantiscono l'immunità dal contagio dall'essere contagiato e dal contagiare quindi di fronte a questa situazione io potrei essere un medico o un infermiere vaccinarmi e ugualmente determinare contagiare un paziente quindi non si capisce perché a questo punto debba essere obbligato una cosa di questo genere insomma qui entriamo ulteriormente in una serie di sfumature apertamente autoritarie di questo stato di emergenza che già non era fondato dal punto di vista costituzionale ma che aggrava ancora la sua incidenza sui diritti fondamentali del cittadino e mi fermo grazie 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 al professor Capozzi molto interessante mi verrebbe da fargli una domanda se lui riesce a rispondermi in brevissimo perché abbiamo come sai come abbiamo purtroppo un ritardo già di mezz'ora se questo in qualche modo non è un vulnus visto che lui in realtà si occupa di storia se questo non sia questo vulnus che è stato creato rispetto alle nostre istituzioni quindi l'iniliazione delle nostre libertà le restrizioni delle nostre libertà diciamo la violazione anche secondo me patente della costituzione rispetto a questi temi non sia un vulnus e non sia un precedente molto pericoloso per successive prossime possibili pandemie o non diciamo emergenze sanitarie o non emergenze in generale ecco questa è la domanda che mi verrebbe da fare al professor Capozzi se lui ovviamente capisco che la domanda è molto molto ampia ma se può darci una piccola risposta una piccola diciamo una breve risposta una brevissima esatto una brevissima replica potrei rispondere lapitariamente con due lettere sì questo sono assolutamente penso sono preoccupatissimo e credo assolutamente che questo sia un vulnus grave e che pone un precedente gravissimo perché mi sento di dire che siamo di fronte rispetto al terrorismo italiano internazionale con questo problema sanitario un problema sanitario un virus che è pericoloso per una fascia molto ristritta della popolazione e di fronte al quale vengono invece adottati provvedimenti di indeterminata limitazione della libertà di tutti siamo di fronte a un precedente gravissimo che va spiegato appunto non da giurista ma da storico io credo che sia un cedimento nel senso che è stato indicato dal filosofo Giorgio Agamben delle società occidentali che secolarizzate e private di una di una dottrina di un comune sentire sul senso della vita si sono aggrappate disperatamente al al concetto della nuda vita cioè alla salvezza della nuda vita e sono disposti obesianamente a cedere quasi tutte le loro libertà se non tutte pur di avere salva la vita all'eviatano cioè al potere della macchina statale quindi è un precedente assolutamente grave da monitorare che ci auguriamo di poter come dire combattere culturalmente e civilmente giuridicamente poterlo limitare ma sicuramente va fatta una riflessione proprio sul nostro concetto di libertà sul concetto di libertà e di potere Professor Capozzi la prossima volta poi ci dirà cosa scriveranno i libri di storia di questo no 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 la mia no la mia non è una battuta nel senso che è chiaro che lei non ha la sfera di cristallo però credo che questo sia un tema importante cioè oggi tutti sanno cos'è accaduto negli anni 30 del secolo scorso no e tutti i libri di storia sono univoci più o meno a raccontare quello che è accaduto negli anni 30 del secolo scorso cosa diranno i libri di storia di questi anni questo sarebbe interessante in qualche modo prevederlo ma questo come dire è un impegno che io le lascio per il prossimo il nostro prossimo convegno grazie e la ringrazio molto per il suo intervento do a questo punto la parola al a Duilio Lategola che è general manager di di Abasi anzi no credo che ci sia prima il professor della Carbonare il professor Luca Dalle Carbonare dell'Università di Verona direttore della scuola di specializzazione in medicina dello sport e dell'esercizio fisico vitamina D immunità ed esercizio fisico ho letto professore prima che lei inizia ho letto di come durante la spagnola del 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 19 19 di 100 anni fa del 19 20 19 19 1920 nasceva il la la ginnastica la cosiddetta Pilates Pilates era un professore di di esercizio fisico no di e lui racconta durante la spagnola di un secolo fa che chi faceva la ginnastica insieme a lui che era appunto Pilates lui si chiamava così alla fine non si ammalava ecco cito questa cosa perché tutti oggi molti fanno Pilates no ci sono molte persone parlano di Pilates non sanno che forse molti non sanno che Pilates era un professore di educazione fisica di ginnastica e faceva fare ginnastica ai propri a tante persone e quelle persone non si ammalavano esatto la ringrazio anche di questo spunto dottor Cacavali effettivamente l'attività fisica nel caso specifico il Pilates grazie agli esercizi fatti sulla respirazione rappresentava proprio un elemento di protezione nei confronti delle infezioni soprattutto ecco mi rendo conto che il mio intervento è un pochino fuori dal coro visto il programma ma credo sia importante anche riportare un po' l'attenzione su quelle che sono le problematiche di tipo sanitarie legate a questa pandemia ringrazio gli organizzatori per l'invito ecco chiedo se possono riabilitarmi alla condivisione dello schermo chiedo al tecnico perfetto grazie e quindi riportiamo un pochino l'attenzione su quella che è proprio l'aspetto sanitario della pandemia sappiamo tutti che per quanto riguarda la pandemia l'elemento di prevenzione maggiore attualmente sono i vaccini i vaccini che peraltro visto oggi aprono infinite discussioni in termini di utilizzo di efficacia di effetti collaterali ma c'è da chiedersi esiste un approccio che ciascuno di noi può mettere in atto per tentare comunque di rafforzare le nostre difese nei confronti di un'infezione così severa la cosa più la cosa più intuitiva da dire beh sì noi rafforziamo il sistema immunitario e in qualche modo facciamo già un passo avanti nei confronti della prevenzione di fronte a questa pandemia ma anche alle altre infezioni o possibili future pandemie ed ecco che entriamo nel tema esercizio fisico e sistema immunitario già il dottor Caccavale ha anticipato il fatto che già da tempo si è notato che l'esercizio fisico in qualche modo è un fattore predisponente una maggior difesa nei confronti delle infezioni se poi noi guardiamo negli ultimi decenni il numero di pubblicazioni fatte su questo argomento vedete che sono quasi più che quintuplicate quindi si è capito che l'esercizio fisico e lo sport ha a che fare col sistema immunitario ma qui possono iniziare i problemi perché se è intuitivo pensare che l'attività fisica sia benefica svolga attività anti-infiammatorie anti-infettive esistono però quindi questo esistono delle evidenze positive esistono anche evidenze che dicono il contrario e cioè che l'esercizio fisico va a peggiorare le nostre capacità difensive qui nasce un po' la diatriba e fa esprimere il concetto di esercizio fisico con due facce diverse della stessa medaglia per spiegare questo concetto che trova molta attualità in questo periodo in epoca di pandemia qualche studioso ha proposto il concetto di open window quello sarebbe indicare che se io svolgo un'attività fisica intensa al di sopra delle mie attuali capacità in qualche modo vado a interferire col mio sistema immunitario vi faccio non voglio tediarvi con dati scientifici ma vi faccio vedere solo questa slide che mostra che nel caso dello studio che ho citato prima dello sforzo fisico vedete la popolazione dei neutrofili che sono una popolazione cellulare che serve a diciamo esprimere le nostre difese immunitarie aumentava in maniera importante fino alla fine dello sforzo ma guardate cosa succedeva successivamente nelle ore successive fino a un giorno dopo la sospensione dello sforzo vedete che questa popolazione veniva depauperata cioè si perdeva la capacità di difesa del nostro organismo questa potrebbe essere una delle teorie che giustifica l'incredibile incidenza in ambito sportivo dell'infezione della covid soprattutto dopo delle manifestazioni agonistiche di un certo livello ed ecco che allora dei ricercatori proprio all'inizio di quest'anno hanno formulato una ipotesi e cioè che un'intensa attività fisica comporti in realtà ma direi meglio un'attività fisica che sia al di sopra della nostra capacità comporta una disregolazione del sistema immunitario e questo predispone al soggetto a sviluppare non solo l'infezione da covid ma anche vedete infezioni delle alte via aeree o comunque infezioni in generale e quindi potrebbe generarsi uno schema di questo tipo nel soggetto sedentario che svolge una moderata attività fisica avremmo una diminuzione del rischio di infezione quindi ecco concetto di esercizio fisico che rinforza il sistema immunitario ma se noi esageriamo nell'esercizio o quindi svolgiamo un'attività prolungata intensa il rischio al contrario aumenta quindi in qualche modo ci predisponiamo a sviluppare patologie infettive infiammatorie quindi il primo messaggio deve essere sì esercizio fisico bene ma in qualche modo prescritto non facciamo il fai da te anche per l'esercizio fisico non è assolutamente consigliabile gli stessi autori e altri hanno comunque sottolineato l'importanza dell'esercizio come elemento protettivo nei confronti delle infezioni e soprattutto del covid-19 ma inoltre hanno anche stabilito un altro degli aspetti importanti nella prevenzione dell'infezione cioè la nutrizione in questo caso la vitamina D effettivamente che uno sia atleta o non sia atleta ma svolga attività fisica regolare una alimentazione equilibrata è in grado di contribuire a rafforzare il sistema immunitario in particolare la vitamina D vitamina D che ricordo ha moltissime funzioni anzi leggiamola al contrario una carenza di vitamina D è causa di problemi ossei muscolari cardiovascolari ma anche a carico del sistema immunitario perché si è ormai assodato che una vitamina D a livelli adeguati interferisce positivamente con tutte le popolazioni cellulari che compongono il nostro sistema immunitario quindi di fatto la vitamina D stimola il nostro sistema immunitario costituisce un'ulteriore difesa di fronte alle infezioni e in caso di covid questo è stato eclatante se voi notate qui la parte più scura di queste colonine quindi centriamo le colonie più verso in questo caso colorate vedete che i pazienti che hanno avuto sintomatologia da covid più intensa sono stati ricoverati inutili in terapia intensiva o addirittura sono deceduti per complicanze del covid presentavano tutti in buona parte una carenza importante di vitamina D vitamina D bene allora abbiamo capito che è utile e fondamentale dove la troviamo normalmente pensiamo che la vitamina D sia quella che noi otteniamo grazie al sole e poi vediamo studi di questo tipo da cui emerge che in Europa i paesi mediterranei sono quelli che hanno una maggior prevalenza di ipovitaminosi D come mai perché i paesi scandinavi da decenni forniscono dei cebi cosiddetti fortificati cioè addizionati in vitamina D noi qui invece questa cosa non siamo abituati a farla se non con prodotti che ovviamente aumentano molto il costo questo a dire che è vero che la vitamina D viene attivata dal sole ma attenzione che esiste un fabbisogno alimentare di vitamina che è crescente nel corso della vita pensate che questo è un lavoro di dieci anni fa adesso le dosi sono più che raddoppiate si è capito che il fabbisogno ottimale di vitamina D giornaliero è molto elevato e qui cominciano i problemi perché cibi contenenti vitamina D non sono proprio cibi che affollano le nostre tavole perché se io chiedo a ciascuno di voi quanti mangiano spesso salmone anguilla o bevono olio di fegato di merluzzo delle nostre bisnonne che avevano capito molto sicuramente la percentuale è molto bassa se poi ci rivolgiamo anche alla popolazione vegana è chiaro che i problemi sul consumo di derivati animali aumentano sapete che è una popolazione in rapida espansione in questo caso ovviamente è possibile dare dei cibi con vitamina D ma di fatto non vengono utilizzati quindi in conclusione direi che la vitamina D è sicuramente un elemento importante insieme all'esercizio fisico deve essere vedete possiamo anche decidere adesso non voglio entrare nel dettaglio ma possiamo decidere in base al valore che noi dosiamo nel sangue quale deve essere il carico di vitamina D che dobbiamo assumere questo è già codificato ma la cosa importante sarà poi mantenere buoni livelli attraverso un'assunzione regolare concludo il mio rapido intervento dicendo lasciandovi alcuni messaggi che secondo me sono importanti ok pandemia attenzione prevenzione l'esercizio fisico rappresenta uno strumento sicuramente efficace nel mantenimento di un corretto funzionamento del sistema immunitario però è fondamentale svolgere un programma di attività proporzionata alle proprie capacità e livello di allenamento allo stesso modo è importante raggiungere adeguati livelli di vitamina D in modo da prevenire ulteriormente l'incidenza di malattie non solo infettive ma anche allergiche o autoimmuni perché la vitamina D modula in maniera efficace tutte le componenti del sistema immunitario quindi di fatto la nutrizione è importante anche in queste situazioni in particolare la vitamina D non c'è stato tempo ma sono altri elementi come il selenio lo zinco sono molto importanti nel mantenimento di un efficace sistema immunitario e quindi la combinazione di questi strumenti facili permettono a ciascuno di noi di mettere in campo degli strumenti delle strategie per essere efficaci nel prevenire patologie di questo tipo patologie infettive mi fermo qui vi ringrazio grazie grazie professore grazie mille per il suo intervento brillante e utile do subito la parola a Duilio Lategola general manager di di Abasi che ci parlerà di prevenzione rigorosi protocolli chiare direttive anticontagio nel massaggio professionale attività di estremo contatto fisico non sanitarie portabandiera di attenzione per tutte le attività similari ecco buon pomeriggio mi sentite? sì certo certo benissimo buon pomeriggio tutti 10 minuti sarò brevissimo ringrazio subito tutti gli organizzatori ovviamente soprattutto dottor Alexander per avermi invitato in questo prestigioso bellissimo convegno chiaramente il mio argomento esce dall'ambito sanitario ma anche da quello legale che abbiamo già assistito a molti interventi ma forse nemmeno troppo da quello legale e soprattutto rientra molto in quello etico parlo del massaggio professionale del massaggio del benessere e l'argomento può essere interessante perché i numeri che riguardano chi utilizza questo genere di trattamenti di servizi alla persona di servizi di cura alla persona sono notevoli pensate che nel 2017 secondo me è stata meno 25 milioni di italiani quindi un quarto dell'operazione utilizzava almeno una volta al mese un trattamento tra quelli di cura della persona e quindi di conseguenza un numero notevole di persone entravano in contatto con operatori del benessere si tratta chiaramente di un'attività di estremo contatto fisico tra operatore e utente e per questo deve porre grandissima attenzione a far sì che sia vicino o le possibilità di contagi e proprio di questo volevo parlare perché anche per come dire per far sì che chi ci sta seguendo possa poi percepire quando un operatore qualora dovesse utilizzarlo stia o meno seguendo i protocolli che devono essere a cui dobbiamo tenerci e che noi come ente formativo in continuazione consigliamo ai nostri allievi e ai nostri professionisti che operano in ambiti quali hotel quali centri di benessere spa ter centri termali e quindi villaggi turistici insomma tutti i luoghi che penso che tutti noi frequentiamo sia per le vacanze sia anche magari normalmente il massaggio sta diventando mi collego un po' a quello che diceva il dottore Carbonare sta diventando un elemento aggiunto a quello che è la cultura che noi abbiamo di curarci oggi quindi la sana alimentazione o l'attenzione al movimento fisico lo sport modellato come ci diceva ma sta diventando un altro elemento di quello delle persone che diventa stile di vita diventa cultura diventa prassi che utilizziamo noi tutti tra l'altro per capire questi numeri noi stessi formiamo circa 7000 non solo come in realtà formativa ma ce ne sono sicuramente tante altre 7000 allievi all'anno quindi riempiamo di operatori l'Italia perché appunto c'è molta domanda nel settore ora e proprio per questo poniamo attenzione a quelli che sono e devono essere i protocolli a cui attenersi durante i trattamenti da prima l'operatore già al telefono dove quello che vi dirò è tutto quello che noi consigliamo a volte obblighiamo nei nostri professionisti i nostri lavoratori professionisti e quindi è quello di già da subito chiedere al cliente magari ho delle banalità ma sono sempre attenzioni che devono essere prese in considerazione deve subito chiedere al cliente già al telefono se ha avuto contatti con persone che hanno insomma avuto il covid o sintomatologie similari o se la persona stessa che deve venire a fare un dato trattamento ha sintomi che possono ricondurre al covid ma una volta arrivato in studio come penso avete fatto un po' tutti voi c'è una dichiarazione da firmare un'altra dichiarazione che in sostanza dice le stesse cose e questo è una una pratica che sempre viene eseguita dai nostri operatori del massaggio del benessere il massaggio professionale e chiaramente poi c'è il lavaggio delle mani che deve essere fatta con come viene insegnato dal protocollo dell'INAIL e dall'OMS e quindi un lavaggio delle mani che deve durare un certo periodo di tempo non deve essere così breve da non essere efficace quindi almeno un 40-60 secondi per un lavaggio col sapone e un 30-40 secondi per un lavaggio con soluzioni igienizzate e quest'ultima doveva avere una percentuale d'alcol almeno del 70% per quanto riguarda il massaggio quando si riceve il massaggio sia l'operatore che l'utente devono indossare la mascherina è preferibile la FFP2 ma insomma si usano anche quelle chirurgiche entrambi devono indossare durante i trattamenti chiaramente certi trattamenti come possono essere dei massaggi sul viso oppure quando si riega dal barbiere per la barba non è possibile in questo caso indossare la mascherina ma l'operatore soprattutto quando massaggerà il viso dell'utente oltre la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2 dovrà utilizzare anche una visiera protettiva non sono obbligatori i guanti da utilizzare durante i trattamenti però vengono qualora venissero utilizzati sono preferibili quelle di nitrile come materiale ma per tutte le operazioni poi di pulizia di sanificazione dell'ambiente dell'ettino devono essere utilizzati dall'operatore tutti gli strumenti devono essere igienizzati ad ogni tra ogni utente e quindi tutto deve essere sanificato deve essere areato deve essere adeguatamente sanificato questo tra l'utente e l'altro sempre la biancheria per esempio gli abiti che indossa l'operatore preferibilmente dovranno essere abiti che si usa e getta insomma che possono essere cambiati gettati per essere utilizzati di nuovi ma se vengono utilizzati gli abiti normali devono essere lavati almeno a 60 gradi per 30 minuti e poi c'è anche il fatto che non si deve entrare dentro le cabine con le scarpe che devono essere lasciate all'esterno della cabina e un apposito contenitore sigillato perché non vi sia appunto la contaminazione tra l'esterno e l'interno laddove si lavora sappiamo sempre che la distanza anche nel momento del dialogo tra operatore e utente deve essere almeno di un metro ne consigliamo comunque la misura di due metri e a quanto viene chiesto inizialmente dall'operatore all'utente al telefono va aggiunto il fatto che in ogni struttura come trovate dappertutto ci sono tutte le avvertenze esposte e ben visibili e consultabili dagli utenti per che si attendiano appunto a queste disposizioni che insomma sono quelle che più o meno ho elencato poc'anzi benissimo bene chiudo il discorso proprio sono stato credo brevissimo con il fatto che questo accordo comunque ha portato anche a molta innovazione tra cui anche trattamenti studiati apposta soprattutto a seguito preventivi ma a seguito anche di quanto abbiamo vissuto come stress come momenti insomma diversi da quelli che erano quelli precedenti e abbiamo creato ad esempio delle tecniche di trattamento successive utilizzate successivamente a questa situazione come ad esempio il post covid massage quindi ci sono molti aiuti anche non sanitari per tutte le persone che vogliono uscire anche un po' col corpo e con la mente da questa situazione molto bene grazie 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 a Duilio La Tegola che ci ha parlato appunto di qualcosa di che spesso viene dimenticato tutto quello che sono le attività non sanitarie come il massaggio professionale di come si possa continuare a svolgere queste attività in assoluta sicurezza la parola ora io stiamo piano piano recuperando il ritardo che avevamo accumulato all'inizio e quindi darei rapidamente la parola al dottor Claudio Romiti editorialista dell'Opinione delle Libertà ci parlerà dell'evoluzione dell'informazione ai tempi del coronavirus Claudio hai sentito spero quello che ha detto il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia all'inizio di questo di questo convegno è stato devo dire molto coraggioso e molto forte sono convinto che se non hai avuto modo di sentirlo se sarebbe utile per te andartelo a risentire quello che ha detto Alessandro Calimberti credo che tu ti ritroverai in molte delle cose che immagino tu stia per dire a noi a te la parola Salve ciao Ernesto sono felice di vederti in video saluto anche l'ottimo Antonio Alexandre che ambe due diciamo devo ringraziare perché vi date l'opportunità di esprimere il mio modesto intervento in questa importante manifestazione c'è un problema tecnico c'è un problema tecnico perché si è bloccata la comunicazione la connessione avanti Claudio purtroppo eccomi eccomi devo cambiare il computer noi poveretti mi sentite ora sì ecco allora io siccome non sono bravo come i miei chi mi ha preceduto ho deciso di scrivere il mio intervento l'ho cronometrato essendo un po' dista dura dieci minuti quindi diciamo non porterò via molto tempo vorrei solo dare una breve risposta una battuta all'amico Ernesto quando ha chiesto cosa scriverà la storia la storia la scrivono i vincitori quindi in questa fase ancora non sappiamo chi siano quindi aspettiamo aspettiamo allora inizio secondo il celebre Joseph Pulitzer un'opinione pubblica ben informata è la nostra Corte Suprema perché ad essa ci si può sempre appellare contro le pubbliche ingiustizie la corruzione l'indifferenza popolare o gli errori del governo una stampa onesta è lo strumento efficace di un simile appello da qui ne consegue che il compito fondamentale di una informazione onesta è quella di analizzare i fatti esprimere dubbi e porre domande in merito tutto ciò mi sento di affermare con amara constatazione nei riguardi della pandemia di SARS-CoV-2 è avvenuto solo nella fase iniziale di questa tragedia senza precedenti in cui l'informazione era in prima linea per cercare di comprendere e divulgare l'esatta portata del fenomeno dopodiché la stessa informazione almeno nella gran parte dei casi è scivolata verso una preoccupante ortodossia sanitaria nella quale i dubbi e le domande scomode non hanno trovato più alcuno spazio in un surreale clima in cui sembrava quasi che fosse in gioco la sopravvivenza della specie umana l'informazione ha rappresentato e tuttora rappresenta un fattore fondamentale nella propagazione capillare del terrore virale essa contribuendo a far affermare la citata ortodossia sanitaria ha veicolato una sorta di pensiero unico in cui per l'appunto non ci fosse alcuno spazio per dubbi e domande scomode l'informazione di fatto ha valorato presso il grande pubblico molte delle assai discutibili restrizioni che sono state lungamente imposte al paese descrivendole come necessità obbligate dalla situazione generale in tal senso secondo un'efficace definizione coniata dall'amico Nicola Porro uno dei pochi autorevoli professionisti della comunicazione che ha avuto il coraggio di andare contro corrente la stragrande maggioranza dell'informazione nazionale si è compattata in blocco in una sorta di giornale unico del virus adottando man mano che progrediva quella che potremmo definire come la comunicazione istituzionale del terrore una vera e propria forma di autocensura tendente a non dare rilievo a tutto ciò che contrastasse con la narrazione di una catastrofe apocalittica di fatto la grande stampa italiana includendo ovviamente i programmi radio televisivi di approfondimento più seguiti ha contribuito in maniera decisiva ad invertire il nesso di causalità tra gli effetti reali di una pandemia oramai da tempo sotto controllo e le misure paradossalmente sempre più restrittive che venivano adottate accettando acriticamente tali misure senza esprimere dubbi e perplessità al riguardo la nostra informazione ha fornito ad una popolazione letteralmente terrorizzata e per questo ben poco lucida l'impressione di un continuo aggravamento della situazione sanitaria se in precedenza ci consentivano di uscire all'aperto senza mascherina mentre adesso ce ne impongono l'obbligo ovunque insieme al coprifuoco e ad altre misure più restrittive rispetto alla prima ondata ciò vuol dire che il virus è ancora più pericoloso di prima così avranno pensato e ancora pensano milioni di nostri concittadini i quali secondo alcuni recenti sondaggi malgrado le alte temperature del momento in maggioranza sembrano poco propensi ad abbandonare l'uso della stessa mascherina all'aperto in estrema sintesi diventando il megafono di un quacervo di interessi politici e professionali che si sono quasi spontaneamente uniti in una visione eccessivamente allarmistica l'informazione italiana ha consentito che nell'immaginario collettivo di un paese confuso e impaurito si accreditassero alcuni punti fermi sulla pandemia in atto che i numeri sembrano negare in radice in primis l'idea che il covid-19 fosse una malattia letale quando in realtà le spine più accreditate a livello internazionale ci dicono che almeno il 96% di chi la contrae è asintomatico o paucisintomatico ricordo a tale proposito che secondo il dizionario Treccani per malattia mortale si deve intendere una patologia che ha per lo più esito letale da qui si è cominciato a considerare il contagio equivalente alla malattia mortale e al quasi certo decesso in secondo luogo che il covid-19 colpisse in modo indiscriminato l'intera popolazione quando già i numeri della prima ora dimostravano che essa rappresentava un serio pericolo solo per una ristretta fascia di persone particolarmente fragili in terzo luogo che senza le misure restrittive di inchie adottate su tutte l'uso a mio avviso dissennato della mascherina avremmo raccolto i morti per le strade tutto questo evitando accuratamente di sottolineare che i paesi che non avevano seguito il nostro esempio ad esempio la Svezia in molti casi mostravano riscontri sulla pandemia ben più illusinghiari dei nostri in particolare proprio il grande paese scandinavo è stato a lungo oggetto di una grande operazione di vera e propria diffamazione a mezzo stampa ingigantendo una situazione sanitaria che in realtà gli svedesi hanno sempre tenuto sotto controllo e spacciando per obblighi di legge tutta una serie di semplici raccomandazioni consigliate alla cittadinanza dalle autorità locali ultimo ma non meno importante il bailam informativo tendente a terrorizzare la popolazione sulle modalità del contagio culminato con la bazzana idea del professor Ricciardi consigliere del ministro della salute e speranza di lasciare fuori della porta di casa abiti e calzature ha strutturato nella mente dei più l'idea che questo virus respiratorio considerato quasi più letale dell'epola si comportasse in modo del tutto anomalo arrivando addirittura a circolare liberamente nell'aria come una specie di radiazione nucleare su questa linea per me si sono andati in onda programmi televisivi a senso unico trasmessi anche dal servizio pubblico nei quali si è discusso per ore in merito alla demenziale possibilità di contagiarsi facendo il bagno in mare o imbattendosi in una nube di droplet lasciata sospesa in aria da un ignoto podista autore il risultato di tutto questo deprimente spettacolo è stato quello di alimentare al massimo grado la confusione e il terror panico tra i cittadini anziché contribuire con una corretta informazione ad un necessario processo di razionalizzazione di massa e altresì avvenuto l'esatto contrario di ciò che dovrebbe sempre fare o almeno sforzarsi di farlo una stampa onesta laddove avrebbe dovuto prevalere un'attenta lettura dei numeri i quali sin dall'inizio indicavano chiaramente la natura selettiva della pandemia con l'esigenza primaria di isolare e proteggere essenzialmente i soggetti molto anziani e i fragili si è rapidamente virato verso un sensazionalismo giornalistico il quale sebbene sia sempre più tipico della nostra epoca ha rappresentato e tuttora rappresenta uno dei fattori più autolesionistici per l'intera comunità nazionale in tale particolare frangente una vera e propria catastrofe secondo la radice greca del termine che significa completo ribaltamento un completo ribaltamento di un corretto modo di fare informazione il quale non si ferma alle enunciazioni dei tanti sedicenti esperti in gara a chi la spara più grossa ma cerchi come detto all'inizio di analizzare i dati esprimere dubbi e porre le domande giuste domande giuste come quella mai posta dall'ottima lucia annunziata l'allora responsabile del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo quest'ultimo nel corso di una lunga conversazione nel salotto televisivo della popolare giornalista spiegò l'alto numero di decessi riscontrati dall'Italia con la decisione presa dalle autorità sanitarie di conteggiare tutte le persone morte risultate positive al tampone così come peraltro ancora si legge nei resoconti ufficiali dell'istituto superiore di sanità ebbene io al posto della signora annunziata avrei chiesto a mio osso l'unimerito anche perché vorrei ricordare la nostra informazione ha oramai dato per scontato che le quasi 130.000 vittime che ad oggi conta l'Italia sono morte per causa diretta del covid-19 quando in realtà le cose sembrerebbero un tantino più complicate e proprio per tale motivo meritevoli di essere approfondite ma a quanto pare anche la maggior parte dei più autorevoli e indipendenti professionisti dell'informazione al pari di tanti altri personaggi pubblici per timore di essere additati come negazionisti o un tori complici del virus si sono rapidamente conformati al dogma di una malattia che non lascia scampo e che per questo si è più volte ribadito necessitava di durissime misure restrittive misure che hanno completamente stravolto la nostra esistenza e che malgrado la presenza di cure adeguati e di innumerevoli vaccini ben pochi nel vasto e variegato mondo del giornalismo tentano oggi dopo circa un anno e mezzo di inaudita l'immigrazione delle libertà costituzionali almeno di sottoporre a un'onesta analisi critica fondata sui riscontri oggettivi in conclusione se una volta si diceva l'ho sentito in televisione per sostenere la veridicità di una notizia oggi dopo sei mesi di questo diffuso dopo sedici mesi di ingiustificato terrore mediatico questo diffuso luogo comune appare del tutto rovesciato al posto degli scontri oggettivi basati sui numeri e sui fatti troviamo una comunicazione di natura essenzialmente emozionale con tutte le inevitabili gravissime conseguenze del caso io vi ringrazio e spero di essere stato chiaro Claudio sei stato chiarissimo e ti ringrazio ti posso solo dire che dalla nostra chat interna che per giunta è abbastanza limitata stiamo ricevendo tantissimi apprezzamenti sul tuo intervento cito Desiree Merlini cito Silvia cito Riccardo Catini quindi Silvia C che si firma Silvia C quindi se può servirti diciamo nel nostro nella nostra piccola community il tuo intervento è quello che ha suscitato più fervore e più interesse ma io non avevo dubbi conoscendoti volevo dire due cose intanto ringrazio Radio Radicale perché Radio Radicale in questo momento ci sta trasmettendo in diretta e ringrazio gli amici di Radio Radicale tra poco interverrà Rita Bernardini volevo dire due cose non so se tu hai avuto modo di sentire l'intervento del presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia già il sole 24 ore lui ha detto molte cose non proprio così nette come le hai dette tu cioè Alessandro Galimberti stamattina nel suo saluto non ha detto cose proprio così nette come le tue ma molto molto in linea con quanto diciamo tu hai detto in modo molto più chiaro ed evidente io ho fatto una domanda a lui che riporto anche a te allora se secondo te quello che è avvenuto nel mondo dell'informazione è avvenuto per ragioni di convenienza di conformismo o perché come qualcuno dice insomma che c'è come dire che gli editori in qualche modo tutti gli editori compreso i famosi social network dei quali sui quali ormai la censura è patente cioè chi esprime delle opinioni fuori da quello che è il mainstream rischia di essere bannato anzi alcuni vengono clamorosamente bannati vengono censurati in modo del tutto arbitrario ecco se tutto questo è avvenuto per un calcolo per un diciamo un complotto o solo per ragioni di convenienze o di conformismo come ho detto stamattina a Galimberti è complesso il problema ma secondo me c'è stata una convergenza di fattori e di interessi successivi è scattata la paura e la paura fa scatenare quella che si chiama regressione di massa nella regressione di massa tutti è come quando tu stai sul titanico tu cercano il salvagente non guardi non fai analisi non fai valutazioni per cui a quel punto il conformismo che è un elemento che ha comportato la sopravvivenza della specie prende il sopravvento quindi tu per far perché è bello un tolirlo ma noi abbiamo pensato che la la nostra specie fosse quasi in estinzione non dico proprio così ma insomma il meccanismo che scatta è questo su questa base poi si inseriscono anche interessi di parte interessi corporativi interessi professionali che come dire seguono come diceva Napoleone l'armata avanti poi l'intendenza seguirà l'intendenza sono i soldi bene Claudio grazie grazie molte per il tuo intervento grazie a voi è stata un'esperienza veramente fantastica ci chiedono se il tuo intervento in qualche modo può essere oltre che essere stato è stato registrato è stato registrato quindi sia dalla piattaforma di El Sole 24 la piattaforma di Radio Radicale però ci chiedono anche visto che hai scritto il testo avrai modo di condividerlo con noi e noi potremo condividerlo con tutti gli amici che ci hanno tutti gli amici che ce lo stanno chiedendo ringraziamo quindi Claudio Roniti editorialista dell'Opinione della Libertà e anche del blog di Nicola Porro Claudio ti preghiamo ovviamente di riportare tutto questo sia nel blog di Nicola Porro che nel giornale nell'Opinione e ho il piacere di dare la parola di una mia carissima amica a Rita Bernardini membro del Consiglio Generale del Partito Radicale presidente della Liga Internazionale Nessuno Tocchi Caino Rita Bernardini è stata parlamentare deputato nella Camera italiana l'impegno dei radicali sul del Partito Radicale sulla questione dei detenuti è un impegno storico ma Rita Bernardini ne ha fatto una ragione di vita e per questo le do la parola perché ci parlerà proprio della detenzione in Italia in epoca di pandemia nessun ristoro per la popolazione ritenuta in carcere c'è un punto interrogativo ma lei ovviamente ci spiegherà perché intanto voglio ringraziarvi per questo bel dibattito da quello che posso dire io credo che sia stato l'unico di questo tipo dove si sono confrontate evidentemente opinioni diverse anche se c'è un orientamento mi viene da pensare per molte delle cose che ho ascoltato al mio amico Luigi Montelecchi che è un medico ginecologo molto affermato uno dei primi che ha sperimentato in Italia la paroscopia e che ha molte delle posizioni che ho ascoltato soprattutto negli interventi negli ultimi interventi e che però non ha avuto molto spazio di potersi esprimere e credo che invece sia importante a questo proposito voglio dire che è stata approvata pochi giorni fa in sede di Consiglio d'Europa una risoluzione credo molto importante sul diritto umano alla conoscenza conoscenza significa soprattutto confronto fra idee diverse significa non tenere nascosto quanto spesso gli stati ritengono di non far sapere al proprio popolo pur definendosi stati democratici in nome di qualche bene superiore che ancora non abbiamo scoperto quale sia giusto Rita giusto diritto umano alla conoscenza che significa confronto fra idee diverse ecco se ho sentito e te lo dico Ernesto proprio per l'amicizia che ci lega forse una mancanza ma potrà essere credo oggetto della seconda puntata brava brava la prossima la prossima Rita è quello di confrontare quanto ha fatto l'Italia c'è stato qualche accenno quanto ha fatto l'Italia nei confronti di quello che è avvenuto in altri paesi perché a me sembra così da quello che ho potuto osservare che grosso modo i paesi europei i paesi occidentali anche se non tutti ma si sono comportati allo stesso modo dell'Italia non avranno fatto i DPCM ma insomma cose analoghe le hanno fatte anche loro e questo ecco un ragionamento anche comparato con quello che è avvenuto negli altri stati credo che possa essere molto molto importante ai fini della conoscenza detto questo veniamo all'argomento delle carcere ecco pensate a come abbiamo vissuto noi la pandemia con il terrore dell'inizio dell'inizio che poi da quel che si è compreso è stato scoperto molto più tardi da quando c'è stato e ci sono stati i primi casi pensate a come può essere stato vissuto tutto questo in un ambiente completamente chiuso come quello del carcere io non so quante telefonate email ho ricevuto da familiari detenuti che erano disperati perché appena avevano la notizia della diffusione di un contagio in carcere subito temevano per la vita del proprio familiare marito figlio ma veramente un vero e proprio terrore io ho sentito dire in questo confronto in questo vostro confronto quanto è importante la prossimità e il rapporto con il medico con il proprio medico di fiducia con il medico di base abbiamo saputo che molti medici anche su indicazioni si sono rifiutati di andare a visitare coloro che avevano i sintomi o che avevano contratto il virus ci sono stati da questo punto di vista molti interventi ritardati ci si limitava io di questo ho un riscontro un riscontro empirico prendete la tachipirina insomma se avevi la febbre mentre erano già si conoscevano le cure che potevano curare appunto questa pandemia pensate in carcere dove cioè il detenuto è sottoposto alla cosiddetta sanità penitenziaria che dipende dalle regioni e voi sapete che ogni regione ha fatto a modo suo e con veramente il vero e proprio terrore anche per gli isolamenti per come venivano fatti non dimentichiamo che per come l'amministrazione penitenziaria ha gestito il covid all'epoca c'era buona fede c'è stata una vera e propria strage cioè sono scoppiate quelle rivolte che hanno portato alla morte tredici persone e che sono state presentate come colpevoli perché perché noi rinchiudiamo nelle nostre carceri le persone più disagiate per esempio i tossicodipendenti che spesso commettono reati legati al proprio stato di tossicodipendenza e allora sapete che a Modena sono morte sette persone nel corso di una cosiddetta rivolta perché hanno svaleggiato la infermeria interna dove erano dove trovavano i farmaci che potevano aiutarli dal loro stato di tossicodipendenza hanno esagerato e sono morte ma perché è scoppiata perché sono scoppiate le rivolte sono scoppiate le rivolte perché l'amministrazione penitenziaria non è stata in grado di spiegare alla popolazione detenuta che in quel momento era necessario sospendere i colloqui cioè il detenuto non ha capito che era fondamentale sospendere quell'incontro settimanale o anche bimensile per i detenuti dell'alta sicurezza che veniva fatto e che è il momento più importante della vita di un detenuto a incontrarsi con i propri congiunti questi all'improvviso hanno chiuso i colloqui ed è scoppiato il casino ma hanno fatto ancora di peggio hanno sono riusciti a spostare a trasferire nel giro di poche ore 6.000 detenuti da un carcere all'altro erano quelli che avevano partecipato alle rivolte per cui gli istituti che non avevano conosciuto che non avevano nessun caso positivo all'improvviso si sono cioè il virus è stato portato negli istituti che ne erano esenti quindi con gravi responsabilità da parte del Ministero della Giustizia e dell'amministrazione penitenziaria io ho voluto ho insistito per questo titolo perché si è parlato cioè ma quali ristori per la popolazione detenuta cioè noi abbiamo accettato cioè lo Stato italiano ha accettato per decenni di violare la sua stessa legalità perché nelle carceri ci sono molti più detenuti di quelli che potrebbero contenere i nostri istituti allora è vero sono usciti ma non grazie alle misure prese dallo Stato italiano con i vari decreti con Italia ristori eccetera eccetera ma grazie all'opera e qui lo voglio dire sacrosanta di non tutti ma di una buona parte dei magistrati di sorveglianza che si sono assunti la responsabilità di far uscire circa 7-8 mila detenuti dalle carceri italiane ma non basta finalmente abbiamo una ministra della giustizia che sottolinea che bisogna superare questo dato del sovraffollamento perché quando in un istituto che può contenere 100 persone ce ne stanno 140 150 in alcuni casi anche 200 tutto l'istituto diventa illegale perché non si fanno attività trattamentali perché la sanità la sanità non si curano i detenuti pensate quelli che devono andare a fare delle indagini esterne ma come fanno e quindi tutto si ripercuote e a farne le spese è il detenuto che subisce trattamenti inumani e degradanti per i quali siamo stati già condannati nel 2013 te lo ricorderai ma con una sentenza pilota che ha detto che l'Italia sistematicamente adopera una amministrazione della vita penitenziaria che genera trattamenti inumani e degradanti ma va sotto il titolo di tortura tutto questo è l'articolo 6 della convenzione allora vogliamo deciderci noi le nostre proposte le abbiamo fatte e abbiamo anche lottato con la non violenza insieme ai detenuti su questo la nostra proposta come partito radicale come nessuno tocchicaino primaria è quella dell'amministia e dell'indulto vedrete che saranno per smaltire i migliori di processi che si sono accumulati ancora di più a causa della pandemia dovranno inventarsi qualcosa perché è necessario e non potranno farne a meno noi abbiamo dato anche soluzioni diciamo così secondari rispetto a questa principale come la liberazione anticipata speciale insomma aumentare i giorni di liberazione anticipata per chi in carcere si comporta bene ma ci sono persone che entrano adesso cioè durante la pandemia ci sono state migliaia di persone che sono entrate in carcere per scontare residui pena di 3-4 mesi che senso ha a ingolfare un carcere per chi ma non gli si può dare una misura alternativa se proprio gli devi far scontare questi 3-4 mesi ci sono 8000 detenuti che devono scontare una pena inferiore all'anno e ancora stanno lì allora occorre ragionevolezza questo è quello che io dico cerchiamo di dirlo soprattutto attraverso Radio Radicale e cerchiamo di dirlo anche con quelle trasmissioni in diretta che io ogni tanto faccio il memento facciamo soprattutto davanti alle carceri per ricordare alle istituzioni quali sono i loro obblighi nel senso che abbiamo una costituzione che dice all'articolo 27 è sempre bene ricordarlo che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato tutto questo da decenni in Italia non c'è e oggi la situazione semmai si è aggravata con la pandemia Rita grazie moltissimo del tuo intervento aggiungerei proprio a quest'ultima citazione dell'articolo 27 che nel caso dei detenuti lo Stato ha una responsabilità doppia sono nelle mani dello Stato bravo perché è lo Stato che come dire che legittimamente o no ma certamente in base a una sentenza o no perché poi ci sono anche tanti casi 30% in custodia cautelare appunto beh certo queste cose le conosciamo molti non sanno che il 30% di quelle di questi di queste persone sono in custodia cautelare quindi non hanno ricevuto una sentenza passata in giudicato e che sono sotto la responsabilità dello Stato che li priva della libertà quindi mentre un cittadino diciamo un comune cittadino al quale magari era stata ristretta la libertà con il lockdown eccetera bene o male aveva perlomeno la possibilità di andare a fare la spesa o andare alla farmacia a comprarsi una medicina questo ha un detenuto non è possibile e quindi ricordo soltanto che quelle carceri non è che sono un sito extraterritoriale quella è parte della Repubblica Italiana ed è sotto la diretta responsabilità coercitiva dello Stato italiano quindi una doppia responsabilità che c'è in quel caso quindi a proposito comunque delle responsabilità del governo e dei governi ecco in generale va bene Rita grazie moltissimo grazie a te Ernesto visitate le carceri per capire qual è la civiltà di un paese giusto giusto andrebbe fatto proprio nelle scuole andrebbe fatto va bene detto questo io voglio salutare e ringraziare di nuovo tutti i relatori e voglio citare che ci sono moltissimi che ci stanno scrivendo qui nella chat molti stanno condividendo quello che abbiamo detto in questi interventi e questo ci fa molto piacere abbiamo citato Riccardo Catini abbiamo citato Silvia Silvia Cutino abbiamo Perdona Silvia Cubito o Cubito Silvia Tesi Tiziano Gastalvi che ci sta seguendo dalla Svizzera Nicandro Buceri insomma ecco siamo felici che stiamo di aver ricevuto tante tanti tanti apprezzamenti da parte di chi ha ascoltato ringrazio ancora Radio Radicale che ha trasmesso questa parte almeno questa parte in diretta su Radio Radicale è possibile risentire tutto sulla piattaforma di Radio Radicale è possibile risentire tutto io a questo punto se il professor Pedoia non è più collegato e quindi non abbiamo la possibilità di avere una piccola replica rispetto al suo intervento che purtroppo abbiamo dovuto rendere più conciso del dovuto chiedo alla regia se il professor Pedoia non è più collegato no allora ecco allora io io darei la parola al a questo punto per le conclusioni all'avvocato Alexandre l'avvocato Alexandre che è presidente fondatore dell'associazione nazionale garante giustizia e sanità e quindi come dire grande organizzatore di questo di questo convegno di questo congresso e quindi do a lui la parola per le conclusioni mi sentite si ti sentiamo molto bene molto bene bellissima giornata anche oggi grazie a tutti i relatori non li ringrazio singolarmente perché comunque perderemo tempo tutte ottime relazioni ottime dal punto di vista scientifico medico legale che andava sia dall'aspetto giuridico del contrattuale l'extracontrattuale a come evidenziare appunto le patologie covid e come strutturarle anche secondo lo scudo penale scudo penale che come abbiamo visto non va però a tutelare i medici da un punto di vista di responsabilità civile quindi comunque i medici vengono comunque implicati scritti nel libro del registro e dopo l'avvocato cercherà di di scusarli di toglierli dall'iscrizione a ruolo con queste determinate esimenti invece poi continua l'iter procedurale per il risarcimento civile quindi ancora molto lavoro da fare veremo con le indicazioni poi dei giudici del massimario e con le prossime indicazioni dell'unione camere civili come riusciranno a interfacciarsi con la Cassazione e con dopo il Parlamento per le promulgazioni e per le sezioni unite che comunque daranno un indirizzo per tutte le cause io vi ringrazio abbiamo fatto un po' tardi per quanto riguarda la la diretta su Radio Radicale quindi abbiamo preso nota di tutti gli interventi e a breve faremo un altro appuntamento per dare tutte le risposte quindi grazie a tutti e un saluto grazie grazie all'avvocato alexandre un saluto a tutti e un ringraziamento ci diamo appuntamento al prossimo congresso grazie grazie Ernesto grazie grazie per la partecipazione grazie per la conduzione grazie per la partecipazione grazie a tutti grazie a tutti